Prendete posto, magari possiamo iniziare, anche perché siamo già in ritaldo e di cose da fare oggi ne abbiamo parecchie. Mi presento innanzitutto, sono Villa Antonello, sono il direttore del Consorzio MIA, un consorzio di ricerca che ha organizzato con la determinante collaborazione dell'Università di Milano Bicocca che ci ospita questo convegno. Se siamo qua riusciti in quest'Aula e dal numero di iscrizioni che abbiamo avuto penso che dovrebbe arrivare ancora parecchia gente, gran parte della responsabilità è sicuramente mia, per cui mi sento in dovere di ringraziarvi, di aver accettato il nostro invito, ma anche di augurarvi e di augurarmi che i lavori della giornata di oggi siano effettivamente utili e proficui, perché altrimenti quella che in questo momento sono la responsabilità diventerebbe una colpa e sarei un po' meno felice. Prima di dare la parola alle autorità presenti, volevo dirvi una delle ragioni per cui ci siamo impegnati ad organizzare questo convegno. Alcuni mesi fa avevo chiesto un incontro con i dirigenti di un importante ente pubblico. Lo scopo dell'incontro era mettere a disposizione le competenze mie e degli altri membri del consorzio per cercare di valorizzare la cultura scientifica nel nostro paese. Chiaramente lo mettiamo a disposizione gratuitamente, visto che tutto quello che facciamo di solito non chiediamo soldi. Durante questo incontro con uno dei funzionari presenti è uscito con un'affermazione che sicuramente mi ha spiazzato, che però secondo me mi ha fatto anche pensare. In maniera molto sincera, naturale, a un certo punto mi è stato detto, ma la cultura scientifica non interessa a nessuno. Ecco, questa cosa chiaramente mi ha anche un po' spiazzato, ma anche indervosito in quel momento, però chiaramente io penso che questa sia un po' la realtà. E una delle ragioni per cui mi sono impegnato molto a realizzare questo convegno è capire se sono l'unico pazzo in Italia che pensa che senza cultura, anche quella scientifica, questo paese di futuro non ne ha. Mi piacerebbe che durante gli interventi di oggi, sì, non so, gli facciate capire se sono davvero così pazzo, come spero, anche voi condiviate questa posizione. Darei subito la parola al dottor Granata, che è qua in rappresentanza dell'assessore Tajani a portare il saluto del Comune di Milano. Grazie. Grazie. Buongiorno. Allora, innanzitutto ci teniamo a ringraziarvi dell'invito e io vi prego di scusare l'assenza dell'assessore Tajani che in realtà avrebbe voluto molto essere qui, ma questa mattina alle sette e mezzo l'assessore è un lavoro pieno di imprevisti esattamente come quello del ricercatore, mi ha telefonato perché hanno mandato in delibera in giunta due nostre libere e quindi ha dovuto essere in giunta. Quindi io sono il suo capo di gabinetto, la sostituisco con piacere, vi prego di scusare l'assenza. Del resto siamo entrambi due ricercatori e quindi conosciamo bene quale sia il problema che vi citavo. Dunque, i miei saluti saranno brevissimi, sono stato invitato a brevità, metto solo due concetti. Il primo è il tentativo che dall'assessorato alle politiche per il lavoro, sviluppo economico, università e ricerca in questi due anni abbiamo condotto anche per tentare, insomma, con le poche prerogative, le poche risorse che ha una pubblica amministrazione a livello locale di ovviare a questo problema che è un problema evidente. Abbiamo partecipato, c'è qui una nostra funzionaria che è stata la persona che ha seguito materialmente con grande grinta diciamo, l'organizzazione della notte del ricercatore, immagino che molti dei presenti saranno stati qui, il Comune ha messo a disposizione tutti gli spazi che aveva praticamente all'interno dei Giardini Montanelli eccetera. È stato il secondo anno, è stata un'iniziativa che nel primo anno aveva visto passare 20.000 persone e anche quest'anno non abbiamo i dati definitivi ma è stata un'iniziativa molto molto partecipata. Cosa che mi fa pensare in realtà che ci sia, ed è un argomento che pongo alla sollecitazione che Antonello Villa a sua volta poneva, cioè se la scienza non interessa a nessuno. In realtà probabilmente perlomeno dalla nostra postazione abbiamo verificato come ci sia un oiato, una differenza fra quello che è e quello che tutti pensano che sia, perché nel momento in cui si mettono dei tendoni all'interno dei Giardini di Porta Venezia con dei ricercatori, degli scienziati che spieghino che cosa fanno e facciano degli esempi ovviamente comprensibili alla persone normali, diciamo io sono uno storico di scienza e intesa forse come la intendete voi non so quasi nulla ma arrivano talmente tante di quelle persone interessate a partecipare a un'esperienza di questo genere che forse viene da pensare che tra quello che si comunica e quello che le persone normali potrebbero avere interesse che fosse comunicato ci sia una continua discrasia. Questo del resto non è solo per la cultura della scienza, tra virgolette, noi lo verifichiamo abitualmente anche per esempio per la cultura del lavoro o per la cultura della produzione, ci sono moltissimi telefilm con dentro dei poliziotti o dei mafiosi e ci sono pochissimi telefilm con dentro quello che fanno tutte le persone quotidianamente, cioè il lavorare, i lavoratori o i produttori eccetera. Quindi probabilmente è necessario e noi pensiamo che lo sia un convegno di questo genere anche per ragionare tra gli addetti ai lavori su come sia possibile passare dalla fase della condivisione del problema alla fase dell'azione, posto che, e qui c'è una, non so chi abbia detto la frase a cui si riferiva Villa, ma immagino che possa averla detta chiunque, posto che siccome ognuno deve mettere le sue competenze al servizio della causa che conduce e spesso purtroppo nelle pubbliche amministrazioni competenze di questo genere non sono così disponibili, il tentativo di migliorare c'è e io penso che l'interlocuzione aperta anche col consorzio mio che ha organizzato questa giornata ne sia una testimonianza almeno da parte nostra, perché ognuno parla per sé. Io vi auguro buona giornata e spero che i frutti di questa giornata siano molto buoni. Grazie. Grazie molto il dottor Granata e il comune di Milano per le cose che, l'avvicinanza almeno che ci sta dando. Darei la parola al professor Berti che è il presidente del consorzio mia che vuole darvi un saluto. Ringrazio tutti i presenti e soprattutto i relatori anticipatamente. Tenete presente che io sono un clinico e un ricercatore, mi occupo, sono un professore ordinario di dermatologia, però non ho mai guadagnato una lira, ho sempre fatto ricerca. Quindi non è vero che tutti i medici pensano che la scienza, la scienza ha cambiato profondamente anche l'approccio del medico alla malattia, sia per le informazioni sia per la tecnologia. Quindi noi siamo qui e siamo molto interessati. E però la formazione, quelli che adesso sentirete parlare, sono i talenti di questo campo e i talenti si formano prima e i talenti se non hanno formazione hanno nessuna possibilità di esprimersi a pieno. Quindi auguri e buon lavoro. La parola al nostro magnifico rettore, la professoressa Cristina Messa. Grazie, grazie Antonello Villa, grazie al consorzo mia per aver organizzato questo congresso, questo convegno, questa giornata di discussione al quale tengo in modo particolare. Ne ho parlato con il dottor Villa fin da quando ancora ero più libera e potevo fare il medico e il professore normale di questa università. Perché ci ho tenuto molto? Perché ovviamente questo è un tema di particolare attualità. In Italia si comincia a risvegliare la necessità e il bisogno di ribadire l'importanza della cultura. Ci sono tante iniziative in giro, sono appena stata un'altra iniziativa a Roma, ma dobbiamo ribadire contemporaneamente il mondo della cultura scientifica. Perché si parla e deve ritornare la parola cultura come una delle guide, come una degli elementi più importanti del nostro paese da portare avanti, perché abbiamo un sistema e un patrimonio culturale che è unico e quindi va ribadito e non dobbiamo perdere il treno di affiancare a questo il mondo della cultura scientifica. Quindi lo trovo particolarmente appropriato in un momento come questo, così come lo trovo particolarmente appropriato l'averlo suddiviso in questi tre aspetti, che sono i tre aspetti critici della cultura scientifica, che sono quelli della formazione, dell'informazione e della comunicazione. La formazione sarà sicuramente approfondito il tema nella prossima sessione, è la base, cioè noi dobbiamo partire dalle scuole, dobbiamo partire dagli asili, dobbiamo partire dal portare l'esperienza del mondo della scienza sul territorio e nelle scuole fin dalla prima infanzia. Perché oltre al rettore siamo molti di noi genitori, io pure, e vedo come è importante per i ragazzi parlare con chi fa scienza e che sa comunicarla, perché li incuriosisce, perché li porterà sempre poi nella vita quella curiosità che è fondamentale per tutti noi. L'informazione che legherei alla comunicazione è un problema abbastanza importante nel nostro paese. La comunicazione scientifica in Italia soffre. Noi viviamo in un paese, parlo da medico, in cui tutti i cittadini accedono a internet per avere informazioni mediche, in cui per esempio il nostro cittadino tipicamente è in possesso della documentazione medica, perché noi abbiamo un sistema di questo tipo, in cui sono le persone stesse che sanno, che hanno i referti in mano, che hanno tutte le relazioni in mano e che si informano qua e là chiedendo a varie persone, chiedendo ad amici, chiedendo a familiari, andando in internet. Mentre invece un vero mondo della comunicazione scientifica in questo settore più ampio è decisamente un po' carente, è più soggetto a degli stati d'animo, è più soggetto a una, diciamo, non verifica dell'effettiva importanza della scoperta medica nei vari campi e a volte un po' superficiale, lasciando magari le persone con delle speranze che poi non si possono soddisfare. Quindi io ovviamente ho detto questo perché questo è il mio settore, ma anche adesso i fisici, no? Si parla, grazie al premio Nobel, penso che tutti sappiano del bosone di Higgs e si chiedono poi che cosa sia questo, però è, come dire, a volte finisce lì, non lascia degli strasci, che non lascia delle impronte importanti che possono portare la nostra società a investire nella cultura scientifica e nella scienza, che noi riteniamo invece fondamentale come un elemento che deve servire alla base di un risveglio e rinascita anche della nostra economia. Quindi io ringrazio in modo particolare, ci ritroveremo poi il dottor Villa e il professor Berti del consorzio MIA, il comune e l'assessore che non è potuto venire oggi e ci ritroveremo poi nel pomeriggio per la tavola rotonda e vi auguro buon lavoro. Grazie. Ok, grazie mille. È importante sentire la vicinanza dell'università. Allora, io ora cercherò in pochi minuti, spero di, in meno possibile, anche perché siamo già in ritardo, di spiegarvi innanzitutto cos'è il consorzio MIA, perché abbiamo deciso di organizzare questo convegno, a parte la provocazione che avevo fatto prima, chiaramente, che in realtà è una cosa che effettivamente è successa, però ci sono anche ragioni un pochettino più, meno, così, di sentimento, meno viscerali e, scusate che sono già in… e cercherò anche di spiegarvi, dirvi gli obiettivi che ci poniamo e anche come sarà organizzata la giornata di oggi. Partiamo. Il consorzio MIA è un consorzio di ricerca, un consorzio di ricerca senza fine di lucro, ma mi sembra sempre importante sottolinearlo e, come vedete, ha per soci due università, l'Università di Bicocca, che ospita anche i nostri laboratori, l'Università dell'Insubria, l'Istituto Maria Nera di Milano, l'Istituto Nazionale dei Tumori e tre fondazioni che si occupano di ricerca in campo biomedico. MIA sta per Microscopy and Image Analysis. Infatti il nostro è un consorzio che è nato una decina di anni fa con l'obiettivo di creare un laboratorio morfologico, un laboratorio che avesse al proprio interno competenze, tecnologie ed apparecchiature su cui sarebbe stato antieconomico investire per un unico istituto di ricerca. Nel momento in cui le risorse per la ricerca scientifica sono abbastanza limitate ci sembrava una buona idea cercare di razionalizzare spese ed investimenti. In realtà ci siamo resi conto poi negli anni che forse eravamo un po' troppo avanti nelle cose. Il nostro Paese non è ancora pronto a fare in modo che istituti diversi, enti diversi collaborino mettendo in comune le apparecchiature. Infatti le difficoltà che abbiamo incontrato sono state notevoli, ma non è questo lo scopo del nostro incontro di oggi. Il laboratorio adesso esiste, il laboratorio sta collaborando attualmente con una ventina di gruppi diversi, almeno una dozzina di enti perché collaboriamo sia con i soci che con gli enti esterni, su progetti di ricerca che devono essere però approvati da un nostro comitato scientifico. Il consorzio offre anche un servizio a pagamento, dobbiamo cercare di mantenerci in vita, quindi abbiamo bisogno anche di un po' di risorse sia enti pubblici che privati, ma il consorzio per statuto deve anche promuovere iniziative culturali per far conoscere la microscopia e la ricerca scientifica al fine di contribuire allo sviluppo scientifico, culturale ed economico del territorio che ci ospita. Questo lo facciamo anche tramite un progetto che si chiama Progetto Scuola Consorzio Economia, nato mai da diversi anni con lo scopo di avvicinare i ragazzi, ma non solo, alla ricerca scientifica. Avete capito che il compito principale del consorzio però è fare ricerca, questo l'abbiamo fatto in questi anni e lo stiamo facendo, sinora siamo riusciti a pubblicare più di 90 lavori scientifici su riviste internazionali che hanno ottenuto oltre 7.000 citazioni con un impaffato medio di 8.500, quindi molto alto, direi, o se quasi il doppio di alcuni dei principali istituti di ricerca del nostro Paese. Se consideriamo che solamente nei momenti migliori i consorzio hanno avuto tre unità di personale, direi che posso tranquillamente dire che siamo probabilmente uno dei laboratori più produttivi in Italia, anche perché selezionando e collaborando con gli altri non siamo solamente noi a metterci le energie. Ritornando invece alle nostre iniziative culturali, chiaramente il progetto scuola si rivolge sia a studenti che a docenti, ma anche per molte iniziative alla cittadinanza comune e uno dei progetti a cui siamo più affezionati è un progetto che abbiamo creato in collaborazione con l'Università di Milano Bicocca ed è partito coinvolgendo solamente tre istituti con caratteristiche però molto diverse, un liceo scientifico, un liceo classico e un istituto d'arte. Questo progetto partiva dall'immagine microscopica prodotta dai ragazzi dell'istituto, del liceo scientifico Einstein di Bimarcate, a volte anche con il nostro aiuto utilizzando le nostre apparecchiature. Queste immagini venivano poi analizzate e comparate con opere di artisti contemporanei dagli studenti del liceo classico Zucchi di Monza e le stesse immagini venivano poi elaborate artisticamente dagli studenti dell'istituto d'arte, sempre di Monza, dall'ISA. Questi sono un paio di esempi della loro interpretazione artistica delle nostre immagini. Questo è uno dei prodotti appunto di questo lavoro, appunto gli studenti del liceo scientifico hanno fatto le fotografie, hanno fatto delle schede per illustrare il contenuto, queste immagini poi sono state analizzate dagli studenti del classico e rielaborate, come vedete, dagli studenti del liceo artistico. Gli obiettivi di questo progetto erano chiaramente di avvicinare grazie alla ricerca scientifica, ampliare offerta formativa, eccetera, eccetera. Chi è interessato a queste cose può visitare lo stand che abbiamo fuori alla mostra dove dei docenti che hanno partecipato al progetto possono illustrarvi un po' meglio, più dettagliatamente, anche gli obiettivi che penso che abbiamo raggiunto. Un altro progetto che stiamo portando avanti cercando anche un po' di razionalizzare spese e investimenti, visto le risorse che non ci sono, è un progetto che stiamo facendo con gli studenti dell'Ipsia di Monza, un istituto professionale che forma anche operatori televisivi e cinematografici, i ragazzi che vedete qua in sala che stanno filmando i lavori sono appunto studenti dell'Ipsia e questa che vedete è la copertina di un DVD che abbiamo prodotto per mostrare come si lavora e cosa si fa in un laboratorio scientifico, chiaramente il nostro. Se siete interessati sempre allo stand potrete chiederne una copia. Ecco, come avete visto noi abbiamo cercato in questi anni di fare di cultura scientifica. In realtà due o tre anni fa ci siamo resi conto delle difficoltà che stavamo incontrando. La riforma Gelmini della Scuola Superiore ha fatto sì che gli studenti non avevano più tempo per attività estracurricolari, che i docenti anche essi avevano molto meno tempo anche per la formazione e abbiamo trovato molti docenti che avevano collaborato gratuitamente, chiaramente, tutto il valore sul volontariato con noi per molto tempo, in alcuni casi veramente demotivati. Noi per abitudine o mai tutti gli anni presentavamo una richiesta di finanziamento al MIUR in base alla legge 6.2000. Chiedevamo soldi, non li abbiamo mai ottenuti, per il nostro progetto Scuola. Tre anni fa abbiamo detto, forse è inutile chiediamo soldi per un progetto che sta morendo. Cerchiamo di chiedere i soldi per organizzare un convegno in cui discutere di cos'è la ricerca scientifica e perché iniziative che stanno funzionando non riescono ad andare avanti in questo Paese. Ed è quello che abbiamo fatto. Il primo anno ci è andata male, miracolosamente l'anno scorso abbiamo avuto questo cofinanziamento, spero, in realtà non ho ancora avuto la conferma da parte del Ministero che la rimodulazione sia andata, se non ci arrivano i soldi, ho già detto al Presidente che chiudiamo il Consorzio perché visto le nostre risorse, ciò che spendiamo oggi ci faranno fallire, però ecco, noi abbiamo pensato di organizzare questo convegno appunto partendo dalla considerazione che la cultura scientifica è sicuramente poco valorizzata nel nostro Paese, ma che la ricerca scientifica rappresenta invece, almeno potenzialmente, una delle attività più produttive. Noi siamo convinti che bisogna investire sulla ricerca scientifica e sulla cultura scientifica. Lo scopo di questo convegno è quello di mettere a confronto protagonisti, come voi, che da punti di vista diversi e in campi differenti, quindi formazione, informazione e ricerca, si occupano di cultura scientifica. Gli obiettivi che ci poniamo? Individuare interventi idonei a favorire lo sviluppo culturale scientifico nel nostro Paese, creare effettive sinergie fra i mondi della formazione e dell'informazione e della ricerca. Come vedete sono obiettivi abbastanza facili da raggiungere, non siamo sicuramente ambiziosi. Siamo però convinti che, e secondo me lo vedremo anche oggi, che ogni qualvolta questi tre mondi collaborano fra di loro iniziative buone, interessanti, che interessano alla gente, si riescono a creare. Come fare questa cosa? Iniziative ce ne sono già tante, la mostra che vedremo fuori ce lo dimostra, eccetera. Quello che abbiamo pensato, ma che abbiamo anche discusso con molti dei relatori che oggi parleranno, è che forse dobbiamo puntare sulle opportunità che ci offre il web, anche perché di risorse economiche ce ne sono veramente poche. Quindi quello che ci chiediamo è, è possibile che le opportunità del web possano dare un contributo alla diffusione della cultura scientifica? Probabilmente la risposta è sì, ma vorrei appunto che oggi si parlasse anche di questo. E questa è l'altra domanda che ci poniamo. Potrebbe servire un portale web che raccolga tutte le risorse scientifiche che esistono. Sono veramente tanti. Di portali che si occupano di cultura scientifica ce ne sono tantissimi. Alcuni li vedremo oggi, ne sentiremo parlare, Scienza in Rete, Epicaia. Il problema è che secondo noi, ma è anche appunto, questa è una cosa che è stata confermata anche dagli incontri che abbiamo fatto per realizzare questo convegno, manca forse un coordinamento. E secondo me se si riuscisse a creare qualcosa, ma qua chiaramente non possiamo essere noi a pallarci addosso, è importante che le istituzioni credano in questa cosa e investano. Investano anche poco, perché non ci vuole niente a creare un portale internet, cioè bastano veramente pochi soldi. E magari potrebbero anche esserci di risorse con, non so, ci sono ad esempio anche all'interno di Bicocca, abbiamo un master di comunicazione scientifica, abbiamo già parlato con il professor Cerrone che è responsabile di questo master. Magari uno studente che faccia uno stage che possa seguire queste cose, lo si può anche trovare a basso prezzo, insomma. Forse potrebbe valere la pena. Ecco, questi sono gli obiettivi che ci poniamo oggi, come organizziamo i lavori. Abbiamo chiesto a tutti i relatori di fare interventi iniziali molto brevi, in modo da lasciare molto spazio alla discussione, anche perché vedendo il tipo degli iscritti abbiamo sicuramente in sala molte persone che lavorano nel campo e che hanno competenze. E secondo me potrebbe essere molto interessante. Abbiamo scelto i relatori in modo che siano rappresentate diverse sfaccettature, ad esempio la prima sessione quella sulla formazione abbiamo docenti delle scuole medie, abbiamo docenti delle scuole superiori, docenti universitari, responsabili di master e anche studenti e ricercatori. Ecco, vediamo se sarebbe interessante fosse che una domanda, vederla, sentire la risposta da punti di vista diversi. Cerchiamo magari appunto di capire cosa possiamo fare. Vi ringrazio e darei la parola alla dottoressa avveduto che ci introdurrà nel mondo della cultura scientifica con la professora e quindi vi ringrazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto, buongiorno a tutti. Ringrazio molto il professor Villa e gli organizzatori di questo convegno per avermi invitato. Io dirigo questo istituto del CNR di cui vedete il nome di ricerca sulla popolazione delle politiche sociali che si occupa di temi trasversali, uno dei quali è il tema della politica scientifica e della comunicazione e della scienza. Mi è stato a fare un compito molto difficile. Antonello mi ha chiesto di fare una relazione introduttiva sull'universo perché formazione, informazione e comunicazione ciascuno di questi temi meriterebbe una settimana di convegni. Quindi in 15 minuti darvi un panorama voi capite benissimo che è assolutamente impossibile. E peraltro mi è stato chiesto di parlare da dove partiamo. Quindi partire da qualche dato di contorno. Qualche dato di contorno che comunque inquadra questi nostri temi nel contesto più ampio del paese in cui siamo e nel contesto più ampio in cui il paese si trova. Ci sono dati canonici e dati meno canonici. Il più canonico è quello che tutti citiamo e che non posso non citare che è quello della spesa per ricerca sul prodotto interno lordo. Questa spesa per ricerca sul prodotto interno lordo è uno degli indicatori, non l'unico ma certamente un indicatore pesante e importante che vede il nostro paese purtroppo su una linea sostanzialmente piatta che ruota intorno all'1%, 0,9%, 1,3% con tutte le sfumature del caso da ormai direi almeno un ventennio. Mentre molti paesi, questi dati sono dati UNESCO, quindi troviamo la Corea, la prima, sta quasi al 4%, il Giappone poco meno del 3,5%, gli Stati Uniti eccetera, viaggiano su dimensioni molto molto superiori alla nostra. Ci sono degli indicatori un po' meno canonici. C'è questo nuovo, relativamente nuovo, nuovissimo indicatore, o meglio famiglia di indicatori inventato dall'Oxe che è il Better Life Index. Questo indicatore consente non di fare un ranking delle nazioni, ranking che sono sempre comunque soggetti a critiche, criticabili e comunque da valutare in maniera particolare. Questo è un indicatore mobile. Quelli che vedete sono dei cursori, questa è un'immagine quindi non posso farlo ma in rete si può fare benissimo, spostando i quali si dà maggiore o minore importanza a una famiglia di indicatori che consentono di vedere qual è appunto il Better Life Index di un paese. Quindi se per noi è più importante, non so, i dati relativi all'abitazione, al reddito, al lavoro, all'istruzione, all'ambiente, alla salute, quel che sia, o ma anche a dati un po' più, come dire, sottili, quali la soddisfazione della vita, il bilanciamento tra lavoro e vita, si possono trovare degli indici appunto variabili e diversi. I paesi si collocano in base a questo in posizioni diverse. Ovviamente non posso farvi vedere le diverse collocazioni, vi faccio vedere quella generale. Noi siamo al ventitresimo posto sui 37 paesi dell'Ocse. Anche qui, duale dirlo, tutti gli indicatori sono fallaci e criticabili, però anche in questo caso nell'indicatore generale l'Italia si trova sotto la gran parte dei paesi a noi competitori, a cominciare da quelli europei d'Italia simile alla nostra, Germania, Francia, Regno Unito, ma anche sotto la Spagna, sotto la Slovenia, sotto paesi di dimensioni e di importanza, come dire, minore del nostro. Qualche altro dato canonico, sono pochi ma ve li devo presentare. Un altro dato classico è la presenza di ricercatori per mille occupati. Sono i dati dell'Ocse del 2013 che si riferiscono al consolidato del 2010. Anche questo è per i ricercatori, voi sapete bene che l'Ocse ha un'accezione molto ampia, intende i docenti universitari, i ricercatori industriali, i ricercatori pubblici, c'è un numero di persone abbastanza ampio. Come vedete il tasso in Italia è intorno al 4, paesi scandinavi che in questo senso sono sempre i principali attori sono intorno al 15, tra il 10 e il 15, paesi comparabili al nostro, ancora la Francia, la Germania, eccetera, sono in posizioni ancora più elevate. E peraltro questi sono i numeri assoluti, siamo sui 150 mila, la Germania sui 500 mila, Regno Unito quasi 400, eccetera, eccetera. E peraltro la concentrazione di questo tipo di ricercatori per quello che riguarda quello di cui si parlava prima, l'innovazione e la competitività di un paese, sono concentrati in Italia meno nel settore privato, mentre invece lo sono di più negli altri paesi competitori, più nel settore pubblico e nel settore della ricerca universitaria. Vi parlo da ricercatore pubblico, quindi potete ben capire quanto per me sia fondamentale e importante la ricerca pubblica e la ricerca universitaria in questo paese, ma to cure, però è anche vero che la ricerca industriale è in qualche modo quella che è il motore di una certa spinta economica per lo sviluppo di un paese. E veniamo brevissimamente ai temi del convegno di oggi. Anche qui mi scuserete se sarò sicuramente molto lacunosa perché, come dire, sono temi dei quali per ciascuno potremmo parlare tutti per ore. La comunicazione della scienza, parto da questo. La comunicazione della scienza è, direi, connaturata all'attività di ricerca, fin dal momento in cui il supporto cartaceo e la diffusione della lingua hanno consentito questa diffusione. Certamente il pubblico allora era molto più ristretto, è sempre stato per secoli il pubblico dei pari, dei sapienti o degli scienziati da quando questo termine ha avuto un senso. Il cambiamento epocale veniva richiamato prima non solo del supporto, non più analogico ma digitale, ma anche della facilità di accesso, ma anche dell'attitudine stessa alla trasmissione della conoscenza, è andato e sta andando sempre più verso una trasmissione non unidirezionale, ma verso una trasmissione del sapere in un'ottica sempre più partecipativa. E questa direi che è la parola chiave dalla quale partire. Quindi l'evoluzione dei supporti, unita all'evoluzione delle tecniche e dei modelli, i modelli che vanno dal classico deficit model, di cui nessuno parla più se non i termini di caro estinto, al modello public understanding of science, anche lui in brutte acque, al modello invece partecipativo con varie gradazioni di partecipazione ovviamente attraverso anche qui la rappresentatività delle persone per arrivare fino alla cosiddetta citizen science con tutto quello che c'è intorno. Quindi direi che come comunicazione della scienza la necessità di contemperare conoscenza, competenza e democraticità nelle scelte mi sento di dire che è la cifra degli studi e delle attività contemporanee di comunicazione della scienza. Peraltro anche qui dobbiamo inserirci in un contesto più ampio, che è il contesto non solo della ricerca scientifica, già di per sé molto ampio, ma il contesto dell'innovazione. E l'innovazione anche qui è centrale per la performance economica e per la stessa attività di ricerca. declinata in diverse accezioni, sempre legata a un intervento ovviamente sul capitale umano, ma anche sul capitale sociale e quindi sulla necessità di trovare una coerenza tra politiche della ricerca, politiche della scienza e politiche pubbliche to cure. E insieme ad una governance efficace, e a questo si richiamavano le relazioni precedenti, che coordini non soltanto a livello nazionale, ma a livello locale, a livello regionale e non dimentichiamocelo a livello internazionale, attraverso attori diversi e responsabilità diverse che coprono appunto anche qui tutto un tratto ampio che va dalla scienza alla tecnologia anche al commercio, alla comunicazione, all'ambiente, alla sanità, all'occupazione e all'istruzione. E veniamo all'istruzione e alla formazione. Anche qui solo alcuni flash e alcune parole chiave. L'altro ieri, e non ho fatto in tempo a metterlo nelle slide, è uscito, non fra l'altro ieri, ma insomma molto recentemente, un studio dell'Ocse che si chiama Innovative Learning Environment. Ed è uno studio su 20 paesi dell'Ocse, 125 esempi e 40 esempi approfonditi di cosa e come e quale è un ambiente di apprendimento innovativo. Questo studio lo trovo molto rilevante per i temi che stiamo discutendo oggi, perché è vero che noi dobbiamo considerare tutta una serie di fattori, ma alla fine, al di là del settore al quale questi si applicano, ci sono delle fonti di innovazione e di apprendimento che l'Ocse riconosce essenziali per qualsiasi tipo di apprendimento si parli. Non è niente di trascendentale, però messa insieme, e messa insieme a tutti gli altri indicatori che non vi sto ad elencare perché sono molti, direi che dovrebbero essere, come dire, base di riflessione per i discorsi che andiamo facendo d'oggi. E quindi al di là dei campi, queste fonti di innovazione e di apprendimento sono lo sfruttamento della scienza, della codoscienza e della ricerca e sviluppo, l'avanzamento tecnologico, una riorganizzazione dell'apprendimento modulare e l'importanza del networking, della condivisione della conoscenza. Come vedete, nulla che sposti l'asse terrestre, ma messi insieme, messi insieme ad altri indicatori, dovrebbero essere queste le caratteristiche di qualsiasi apprendimento innovativo e di qualsiasi apprendimento che generi innovazione più che innovativo. Un flash su una cosa che abbiamo fatto noi, anche qui consentitemi un po' di, come dire, l'orgoglio CNR. Nel nostro istituto c'è un gruppo di ricerca che si occupa di comunicazione e educazione scientifica, è coordinato da Adriana Valente che è qui da noi, con noi, sarà presentato anche durante la mostra, la nostra attività. Volevo semplicemente richiamarvi questo. Noi abbiamo fatto un progetto per diversi anni, con diverse scuole italiane, che si chiamava Perception and Wellness Science, Ethics and Polemics, in inglese perché ce l'ha commissionato e lo facevamo con il British Council. E in questo noi abbiamo avuto l'ambizione di coinvolgere gli studenti, non in un progetto di apprendimento to cure, ma in un processo di apprendimento. Noi individuavamo un oggetto di studio controverso, gli OGM, il cosiddetto elettrosmog, la ricerca spaziale, l'acqua. E questo oggetto controverso veniva presentato come tale agli studenti. In un percorso di mesi loro si acculturavano, come dire, insieme ai docenti, ovviamente, sull'argomento. Avveniva poi un momento corale in una conferenza con due esperti dell'area di idee totalmente opposte. Gli studenti partecipavano e poi tiravano le somme di tutto questo processo di apprendimento che avevano avuto. Questo perché abbiamo avuto la presunzione, e come dire, sottolineavamo l'importanza, di trasmettere l'acquisizione di un metodo scientifico e di trasmettere l'importanza del riconoscimento della scienza come controversa e come certamente falsificabile. Ma alla fine di tutto, come dire, dopo anni della scoperta greca dell'uomo, direi che comunque il motore primario della ricerca è comunque l'individuo e la persona. E tutto il sapere filosofico, scientifico, sociale ruota attorno ad essa e non potrebbe essere diversamente. Vorrei precisare però che non mi riferisco all'individuo in senso, appunto, individuale, in senso del singolo, ma è quello che conta, è l'individuo sociale. Il caveat che voglio sottolineare è che la costruzione dell'individuo avviene attraverso la società e della società come aggregati umani. E quindi, come dire, le forze socio-economiche che determinano ma non possono totalmente condizionare il ruolo dell'individuo, premano da una parte, ma dall'altra io direi che in questo ambito la scuola, che non è soltanto il mero leggere, scrivere e far di conto e oggigiorno ovviamente parlare inglese ed essere alfabeti digitali, è l'essenza stessa della società. E quindi, come dire, in maniera sintetica, forse in maniera un po' più sbrigativa, vorrei dire che si parla della produzione dell'avvenire nella scuola, si parla della capacità di individui associati, si parla della capacità di creare conoscenza attraverso tutta la vita. E in questo è centrale sicuramente la dialettica del discorso sui giovani, perché la scuola ovviamente non è trasmissione e costruzione del sapere, ma è, come dicevo, essa stessa società. E quindi un'equazione forse banale, ma alla quale credo molto, scuola uguale società, formazione uguale società. E in questo caso, anche qui, ritornano tutti gli ingredienti di questa giornata di oggi, la formazione, la comunicazione, l'informazione, della quale non ho parlato, ma ovviamente è sostrato a tutti i discorsi che stiamo facendo, e il coordinamento dei moltiplici attori che giocano un ruolo su questa scena, certamente si impone per formulare e per mettere in atto le politiche innanzitutto e le pratiche successivamente. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Profitto per una comunicazione tecnica, come i partecipanti alla mostra, penso sia già stato comunicato, cioè dovrebbero, è stato comunicato tutti che i ragazzi dell'Ipsia faranno una piccola intervista ad ogni stand e chiedevano di indicare un responsabile in modo da potersi mettere d'accordo su quando farla, visto che giustamente adesso alla mostra non c'è nessuno e siete tutti in aula. Se uno per ogni stand magari appunto si mette in contatto con la professoressa speciale che è lì in fondo o parla con i ragazzi, ci fate un favore da un punto di vista organizzativo. Ok, direi che se la professoressa Mantovani, allora abbiamo avuto un po' di defezioni dovuti a problemi di salute, il dottore Arari che doveva moderare con la professoressa Mantovani questo convegno. Questa sessione purtroppo ha avuto dei problemi di salute e non ci sarà, quindi la professoressa Mantovani coordinerà da sola questa cosa. Anche il rappresentante degli studenti, David Rossi, che era rappresentante del Consiglio Nazionale degli Studenti, ha avuto purtroppo ieri un lutto in famiglia, però ha mandato un altro studente a rappresentare, a portare la voce degli studenti. Quindi questa l'abbiamo recuperata. Penso, beh, forse anche tutti i relatori potrebbero prendere posto se... No, no, non c'è, in realtà stamattina non abbiamo una pausa caffè. No, ma se noi mi chiediamo, andiamo avanti, siamo sui punti 45? Beh, magari dividiamoci il ritaldo fra le due sessioni o... Allora, andiamo fino alle due, perché noi e voi sappiamo... Magari poi spogliamo un attimo. Lo sta caricando. Buongiorno, sono lieta e preoccupata di dover moderare da sola questa tavola rotonda. e ringrazio collega Villa per la pervicace e intensa tentativi di coinvolgimento che ha fatto con tutti noi e con tanti in questo periodo per organizzare questo convegno che purtroppo capita in una stagione di forte decimazione da parte di tutti per motivi di salute. E sono anche molto contenta dell'intervento che ha fatto il nostro nuovo, primo nuovo rettore, noi abbiamo avuto un fondatore, un unico rettore all'inizio di questo convegno. Io insegno... Vengo da studi filosofici, insegno pedagogia generale sociale, mi sono occupata per molti anni, soprattutto di temi della formazione, e quindi ho una prospettiva che non può essere integrata anche da un'altra, ma che cercherò di essere... che dia voce, dia magari un po' più di spazio, un po' più voce alle persone che sono qui. Vorrei semplicemente in due minuti introdurre questa prima tavola rotonda con un discorso, non dico di ottimismo, ma in qualche modo di apertura verso il futuro, visto che anche venendo qui questa mattina o anche dai giornali di ieri, ulteriori dati, i famosi dati OXE sul fatto che siamo i più ignoranti sia nella lingua che nella matematica, ci assillano, vengono riportati e discussi anche dai giornali. Io vorrei invece dire questo, che non è contrario, ma un'apertura diversa. Se prendo gli ultimi 15 anni, e dico 15 anni perché 15 anni fa noi siamo arrivati alla Bicocca, e 15 anni fa è partita la formazione universitaria diversa degli insegnanti, e anche la formazione universitaria degli insegnanti, delle scuole, delle infanze primarie, e io stessa sono stata impegnata in modo più forte, e oggi è in prima linea qualcuno che è qui al tavolo con me, cioè la collega Nigris, nella formazione degli insegnanti. Io credo che invece la sensibilità all'importanza di un arricchimento, di un ampliamento della cultura scientifica, sia molto più forte di quanto non fosse 15 anni fa. È insufficiente, forse non ci piace ancora com'è, non riteniamo di raggiungere i giovani in modo sufficiente, ma io credo che ci sia stato un forte cambiamento. Io oggi, è una battuta che ho fatto negli anni, ma che non faccio più, non incontro più qualcuno che sorridendo, adulto, giovane o ragazzo, che sorridendo mi dice, eh, ma io non capisco la matematica. Cosa che trovavo stupefacente, perché non ho mai incontrato qualcuno che fosse alfabetizzato, che mi dice, eh, io non so leggere. Quindi, è un piccolo segno, se volete, è una cosa molto superficiale, credo che questo fatto, che la cultura scientifica, non solo matematica, tutte le altre, siano fondamentali, importanti, non solo per lo sviluppo professionale, ma anche per lo sviluppo professionale, abbia fatto un passo avanti. Grazie a molto lavoro, anche lavoro di istituzioni che qui saranno rappresentate, oltre all'università, del Consorzio MIA, dei Master e quant'altro. Quindi questo lo voglio dire in un momento in cui siamo tutti, diciamo, tutto il peggio possibile sulla scuola e sulla formazione. Avrò la fortuna fra qualche giorno di presentare un libro che ha un titolo molto evocativo, di Dutto, Acqua alle funi, la trovo un'ottima metafora, che dice quanta fatica dura è necessaria, ma anche quanto facendo fatica tutti insieme, forse qualche cosa, si può tirare su un obelisco, questa è la storia, ma si può anche forse dare respiro al sistema di formazione. E questa è la prima considerazione. L'altro aspetto, e credo che mi è fatto molto piacere che l'abbia evocato il nostro rettore, Cristina Messa, come bisogna cominciare da molto piccoli, dall'infanzia. Allora posso dire, questa è quasi una battuta, che noi abbiamo un nido all'università in cui quei bambini da 0 a 3 anni stiamo tentando un primo avvicinamento alla natura e alla scienza. E lo dico perché credo che molte volte, anche nei giornali di oggi, quando si parla di cultura scientifica, si parla troppo di matematica e si parla meno a livello di scuola, di quelle che sono le scienze della vita. Quando i bambini, mi fa molto piacere che abbiamo dei ordinatori in questo senso, soprattutto i bambini più piccoli e al vivente, hanno anche delle domande di ordine astratto, mentale, matematico, scientifico, ma è anche dal vivente, che sono profondamente attratti, profondamente curiosi e quindi che ci danno delle possibilità di coltivare questi interessi. Non voglio dire, io sono il moderatore e quindi non voglio dire molto altro. Chiederei ai nostri relatori e poi mi sono pensato a un ordine che a loro propongo, spero che siano d'accordo e in qualche modo impongo, chiedendo di pensare prima di tutto dal loro punto di vista come pensano che i giovani, gli studenti con cui entrano in contatto vedano la scienza oggi, nella loro esperienza, come la vedano e le domande che si pongono, le difficoltà che hanno nell'accostarsi e poi in un secondo, naturalmente diranno quello che vorranno anche se in tempo molto breve e in secondo battuta, può essere la prima a seconda della libertà di ciascuno, quali possono essere delle proposte, delle riflessioni, dei suggerimenti perché questo è il tema di oggi, formazione, informazione e comunicazione possa essere più efficace e stabilire un rapporto stretto tra tutte le istituzioni che hanno un impegno formativo. Fra l'altro sono molto contenta che sia qui con noi la dottore Sabaggia rappresentanza dell'USR e che subito prima dell'inizio di questo ci sia stabilito un incontro, un patto rinnovato di reciproco impegno anche con la nostra nuova rettore. Allora, io ho pensato così di cominciare dalla studentessa, rovesciamo un pochino i canoni visto che si usa un pochino spero non diventi una moda student voices nella ricerca speriamo che non sia una moda ma di chiedere alla studentessa come si chiama? Non mi ricordo più perché è una sostituta Ilaria sull'intesa di chimica come secondo lei lei e gli studenti pensando anche alla sua storia di studentessa prima dell'università vedono la scienza le difficoltà i problemi ma anche il fascino che evidentemente esercita visto che lei non solo studia ma è anche qui a parlarne con noi poi passerei questo è l'ordine che mi sono fatta al professor Mantovani che è un medico immunologo poi passerei a Ceroni che è un sociologo io direi filosofo della scienza e poi prenderei nel secondo blocco è un po' una scelta obbligata perché partendo dalla studentessa universitaria va da rovescio prima l'università e poi la scuola e poi lascerai invece il secondo pezzo alle persone di scuola e cioè a due insegnanti e alla professoressa Nigris che è la nostra ammiraglia per quanto riguarda i rapporti con la scuola e la didattica anche sul piano dei rapporti della scienza prego Ilaria allora vi chiederei pochi minuti sette otto minuti in modo che ci sia poi tempo di qualche domanda dal pubblico e di una vostra reazione secondo il tempo che useremo nella seconda battuta grazie buongiorno a tutti grazie dell'invito anche se la sostituzione in serata ieri è stata un po' frettolosa per cui mi scuso per l'intervento che è stato pensato durante la notte ma spero che sia sufficientemente efficace ho molto apprezzato il fatto che il rettore dell'università Bicocca abbia sottolineato l'importanza dell'insegnamento nella prima fase della formazione degli studenti perché io sono fermamente convinta che uno dei motivi per cui mi ritrovo a studiare chimica all'università è perché ho incontrato degli ottimi insegnanti di matematica di scienza di biologia e di chimica a partire dalle elementari fino ad arrivare alle superiori senza gli insegnanti che dall'altra parte mi hanno trasmesso tutte le loro curiosità tutte le loro domande a volte anche delle domande a cui loro non avevano risposte ma con cui si confrontavano io ho sempre apprezzato tantissimo il fatto che la mia insegnante di scienza alle superiori fosse prima di tutto una geologa e la chimica non è che le andava tantissimo a genio ma il fatto che lei tutte le volte che entrava in classe si metteva a discutere con noi del cercare insieme delle soluzioni dell'analizzare insieme quello che i libri di testo dicevano è forse quello che ha fatto sì che io alla fine del liceo confermassi la mia idea di andare a scrivermi a chimica idea che comunque c'era già alla fine della scuola media quando invece l'insegnante della scuola media mi aveva trasmesso l'enorme passione del c'è una scienza che studia di cose fatto tutto anche se io non lo posso vedere e ce l'aveva presentata proprio così e io quando siamo arrivati in terza media e ci è stato chiesto bene e adesso dove vi scrivete risposi vado a fare il perito chimico lei mi guardò e mi disse mi sembra un po' azzardato forse potresti provare a fare il liceo scientifico perché magari poi non è che per forza sei convinta ammetto di averla un po' odiata quando al ripasso della maturità ripassavo Hegel e tutte le versioni di latino e pensavo è però io a questo punto potrei essere qui a ripassare tutta la chimica del mondo e invece sto portando latino alla maturità dopodiché direi che è andata bene e all'università ci sono arrivata convinta e direi che anche all'università ho avuto la fortuna di incontrare docenti che insomma almeno per quel che riguarda la mia esperienza sono sempre stati aperti al dialogo al confronto alla risposta non ho ancora capito se chimica in statale sia un'isola felice in cui puoi andare a bussare alla porta del docente anche alle sei di sera e comunque ti verranno date delle risposte però sicuramente l'avere dall'altra parte della cattedra delle persone motivate e con la voglia di insegnare è il punto di partenza per chi sceglie con tutte le difficoltà del caso di fare lo studente di una materia scientifica parlo di difficoltà del caso perché comunque non possiamo dimenticarci che i dati che venivano presentati prima dalla dottoressa in cui in Italia ci sono 4,1 occupati su mille che fanno ricerca insomma quando ti scrivi a chimica una delle allora quando incontri un amico e gli dice cosa studi chimica la prima risposta è chi te l'ha fatto fare ecco va bene forse meglio della versione latino dopo il chi te l'ha fatto fare cioè io alle superiori avevo tre e poi a quel punto ti dicono bene hai già deciso in che paese vuoi andare ho detto ma io come dire un tentativo di restare in Italia lo farei però comprendo le difficoltà quindi insomma tutti coloro i quali che si sono laureati in chimica che io conosco diciamo che 7 su 10 sono andati a fare un dottorato all'estero due finiscono negli uffici delle aziende chimiche che in Italia non hanno più laboratori di ricerca e uno si ferma in Italia e fa il dottorato in Italia accentando di cercare di sopravvivere con mille euro al mese non avendo assolutamente certezza di cosa sarà poi perché se gli va bene avrà un contratto da ricercatore a tempo determinato e poi chissà quindi insomma non è proposte prima di tutto dobbiamo investire su quella che è la formazione di base dal punto di vista scientifico e non parlo solo della formazione fino a prima dell'università io penso che per quanto lei fosse molto ottimista in apertura la matematica resta una lacuna di questo paese ed è una cosa che a me spiace molto magari sono di parte magari mi è sempre piaciuta ma il sapere che le matricole che si sono iscritte a chimica quest'anno che hanno dovuto affrontare il test per accedervi il 70% di colori quali che sono stati selezionati non di tutti i partecipanti e quindi il 70% delle attuali matricole di chimica non ha preso la sufficienza nel test di ingresso di matematica è qualcosa di veramente preoccupante al tempo stesso però riporto con molto piacere che direi ieri su facebook a proposito di nuovi mezzi di comunicazione è partita una discussione sul come mai a chimica in statale vi sia solo un esame di matematica e non abbiamo analisi 1 analisi 2 come tutte le facoltà scientifiche allora forse e io so benissimo facendo la rappresentante che molte linee guida vengono dal ministero che molte volte non si rende conto di quali sono le conseguenze delle riforme che impongono dovremmo ripensare anche lo spazio di tutte le materie scientifiche di base all'interno delle lauree scientifiche perché ci si può specializzare tantissimo ma se si finisce non sapendo si finisce l'università non sapendo impostare una proporzione è vero che il problema parte dall'elementari ma sicuramente deve essere un problema anche del docente universitario che laurea delle persone che insomma la formazione di base forse se la sono un po' persa per strada grazie grazie e sempre dal mio punto di vista in questo intervento molto interessante io semplicemente riprendo alcuni punti Ilaria ha detto che la sua insegnante geologa non è che proprio avesse forse questa passione per la chimica però è riuscita in qualche modo a consolidare la sua passione per quello che ha scelto questo è molto importante si collega al discorso che ha fatto alla fine sulla matematica guardo la dottoressa Baggio qualche anno fa quando ero in una commissione ministeriale per i programmi sono incappata in dei dati non so se siano ancora quelli per cui la grande maggioranza credo che allora si fosse quasi sui due terzi di insegnanti che insegnano matematica nella nostra scuola media in certa misura anche media superiore non hanno la laurea in matematico in ingegneria statistica ma vengono da altre discipline quindi qua si pone un problema la passione del docente per la disciplina che insegna e quando la disciplina che viene insegnata non è la sua passione dominante quali sono i modi per cui può comunque comunicare con passione scusate il gioco di parole che mi sembra un problema didattico cruciale e questo ce lo mettiamo in qualche modo da parte e lo teniamo forse tra gli spunti su cui riflettere adesso do la parola al professor Alberto Mantovani non solo è voi tutti avete i curricula sul sito avete visto e quindi non voglio perdere tempo è un medico è un immunologo ma anche molto impegnato in una comunicazione della ricerca che abbia apertura ed efficacia e gli do la parola per dire quello che vuole e se possibile anche fare le riflessioni sulla formazione e sulle prospettive che abbiamo detto sì buongiorno buongiorno a tutti grazie sì io cerco di condividere qualche riflessione sul tema oggetto di questo pezzo della mattinata che è la formazione non ripeto alcune cose che sono state dette da Sveva avvenuto che avrei detto parto da una considerazione ed è una frase che non sono riuscito a trovare nella sua formulazione letterale per ieri sera ho rimpegnato di un filosofo filosofo della falsificazione delle teorie che diceva che è un dovere per chi ha il privilegio di fare ricerca e di studiare di comunicare nel modo più corretto più semplice e più umile i risultati di quello che fa quindi è un dovere etico e credo che faccia parte della responsabilità sociale di chi fa ricerca e di chi fa formazione comunicare credo che questo faccia parte degli individui cioè del dovere degli individui a un certo punto della loro storia naturale e faccia parte dei doveri di noi come comunità che facciamo ricerca e formazione superiore comunicare la scienza come dubbio viviamo in un mondo in particolare nel nostro paese in cui c'è una visione miracolistica della scienza molte dei messaggi che passano sono messaggi di tipo scientifico ma con una visione miracolistica della scienza a cui non sono estranei gli scienziati stessi credo che comunicare in particolare per quanto riguarda le scienze della vita sia fondamentale dal punto di vista della possibilità di fare scelte democratiche l'analfabetismo scientifico diffuso io penso sia alla base di leggi che giudico assolutamente sciagurate come l'ultima legge sulla sperimentazione animale e il divieto di fare xenotrapianti penso che la diffusa l'analfabetismo scientifico sia alla base di fenomeni come quello di un professore di comunicazione a proposito che scopre un metodo straordinario per fare cellule staminali e così via credo anche che comunicare in modo corretto e umile e modesto incluso il senso del dubbio sia particolarmente importante per chi fa ricerca nel settore delle scienze della vita in quanto la sopravvivenza stessa della ricerca del nostro paese in quei settori dipende da charities l'associazione italiana per la ricerca sul crancro teleton e così via questo fa sì che c'è in qualche modo si salta l'intermedio pubblico lo stato che gestisce la ricerca o enti comunque gestiti allo stato N.I.H. negli Stati Uniti e c'è un rapporto diretto fa chi sostiene la ricerca con i propri denari il pubblico e chi fa ricerca quindi io credo che sia particolarmente importante questo dovere è stato menzionato scienza in rete qualcosa abbiamo fatto e ho fatto in questo senso la formazione la formazione alla comunicazione ma io credo che c'è una forma fondamentalmente credo che si tratti di formare alla pratica della comunicazione è una pratica molecolare diffusa se il nostro problema è un problema di tipo molecolare cioè di analfabetismo diffuso come anche veniva detto da Ilaria io credo che il problema sia quello di coinvolgere fin dall'inizio chi entra in percorsi formativi superiori ad esempio chi entra in un dottorato a pratiche di comunicazione della scienza è qualcosa che noi stiamo facendo e facciamo a livello così di istituzione di piccola istituzione il consorzio mia fa delle cose bellissime come abbiamo visto e veramente lo trovo io credo che sarebbe importante e qui vengo alle proposte fare un salto di qualità cioè che queste cose fossero un po' più strutturate di nuovo non si tratta di inventare l'acqua calda Cancer Research UK prende i postdoc i PhD student e qualcuno di essi fa un percorso formativo alla comunicazione vengono mandati a un certo punto se passano prendono il diplomino così come c'era il diplomino quando io ero in Inghilterra per fare sperimentazione animale e vanno nelle scuole per qualche ora e vengono chiamati gli ambassadors of science e fanno e contribuiscono a mantenere vivo alla cultura empirista di UK che fa sì che sia continui a essere sproporzionalmente efficace dal punto di vista della ricerca scientifica e della cultura scientifica c'è un tema particolare che io credo abbia a che vedere e sono quasi alla fine dei miei minuti che riguarda la comunicazione che è stato oggetto di dibattito che pone dei problemi che è quello delle presenze internazionali nel nostro paese qui non sono stati mostrati i dati ma siamo un fanalino di coda o il fanalino di coda dal punto di vista della presenza internazionale ci sono ovviamente delle eccezioni vedo qua Jacopo Meldolesi ci sono strutture anche la nostra che hanno una componente internazionale molto pesante ma questa non è la regola e questo non contribuisce a un'atmosfera sana non contribuisce a un'atmosfera sana nel contesto contribuisce a un'atmosfera provinciale colpisce per esempio nel dibattito che abbiamo avuto negli ultimi mesi sull'insegnamento in inglese la preponderanza massiccia di interventi contro il fatto che un Ateneo decidesse in piena autonomia di avere degli insegnamenti in inglese qui c'è il rettore e io sono io credo sia stata una delle poche voci che ha parlato che ha scritto in difesa di questa scelta prima però è un problema di autonomia mi sembra autonomia elementare e rimandare questa decisione all'autorità giudiziaria mi sembra surreale come metodo e il contenuto stesso non si capisce non si capiscono cose elementari che avere un contesto internazionale è il modo migliore per formare i nostri studenti perché è aria fresca che respirano perché è un confronto internazionale che non si capisce che il modo migliore per diffondere la cultura italiana è quella di avere studenti che vengono da fuori che vengono da paesi non italiani perché imparano inevitabilmente l'italiano perché imparano a mangiare italiano perché mi auguro che vadano alla scala mi auguro che vadano al piccolo teatro vedono sicuramente film in italiano è il modo migliore per diffondere la cultura ecco per chi ha studenti internazionali la domanda è come si intreccia come si interseca questo con il tema che dicevamo della comunicazione prima c'è un tema fondamentale che non riusciamo a far passare questi messaggi che a me sembrano ovvi autonomia dell'università e salute di un ambiente internazionale rispetto a un ambiente solo italiano il secondo tema è cosa succede di questo la mia esperienza personale è che in realtà alcuni di questi ragazzi sono i migliori ambasciatori della scienza quando li mandiamo in un liceo a parlare perché mi viene in mente un nome una persona che viene da Cambridge perché dà ai ragazzi la percezione della scienza come una cosa viva come una cosa che è vestita in jeans non è vestita in modo con la giacca e la cravata come sono vestito io oggi qualcosa di proposta l'ho già detto torno all'invito a una comunicazione a un patto con i comunicatori di professione che sia basato appunto sul diritto dovere di comunicare sulla correttezza e sulla umiltà della comunicazione scientifica che è fondata sul dubbio e sul piano più pratico mi piacerebbe che le attività di chi fa coinvolge i giovani nell'attività di comunicazione come abbiamo sentito da Antonello Villa nel caso del Consorzio Mio come ci sono altre anche in casa nostra ecco che diventasse qualcosa di più strutturato e di nuovo ci sono esempi all'estero che si possono seguire grazie grazie riprendo solo un piccolissimo aspetto due quello del del dubbio che già era nel discorso della collega avveduto rispetto alla proporre ai giovani temi su cui ci sono opinioni diverse credo meno capita a me che insegnino una facoltà umanistica lo stupore dei studenti universitari qualche volta mi è successo anche nelle lauree magistrali che rispetto ai testi proposti nelle discipline in discipline diverse da quelle di molti che sono qui mi chiedono ma questi due libri quando va bene non sostengono la stessa tesi come se questo fosse stupefacente allora questo c'è qualcosa nella nostra scuola al di là di tante parole sull'educazione critica per cui io credo che la maggioranza degli studenti che escono dalle scuole superiori solo eccezionalmente hanno dei docenti molte volte la mia esperienza dico dei docenti universitario che rispetto a quello che hanno studiato hanno sistematicamente posto il dubbio qualche volta nemmeno i miei colleghi filosofi questo è l'altro punto che riprendo che mi sembra importantissimo e guardo ancora una volta l'USR a dottoressa Baggi e i giovani ambasciatori della scienza questo fatto che i giovani gli studenti universitari gli studenti che hanno fatto delle scelte studenti come Ilario che sono stati all'estero studenti stranieri siano coinvolti presto nella comunicazione nell'orientamento e nel contatto con i loro compagni che possono scegliere mi sembrano due punti molto importanti adesso do la parola al collega Micco Ceroni che è un sociologo filosofo della scienza dice lui quello che preferisce e ci parlerà anche che potrà anche lui rispondere a queste sollecitazioni o invece parlarci più diffusamente di quello che è il suo impegno su questi temi prego grazie ringrazio gli organizzatori per avermi invitato dunque io dirigo uno dei tre master di comunicazione scientifica del nostro paese da quattro anni e sono stato il primo a tenere un corso di comunicazione scientifica dentro un corso di laurea scientifico in Italia nel corso di laurea in biotecnologie della sociologia e comunicazione della scienza 15 anni fa alla nascita della nostra università per una lungimiranza che ha avuto chi ha progettato quel corso bene ma che cos'è la comunicazione scientifica che cosa vuol dire fare formazione sulla comunicazione scientifica a mio giudizio la comunicazione scientifica non è coincidente con l'informazione scientifica ma è quella che normalmente chiamiamo la terza missione dell'università la prima missione ovviamente quella storica è stata la didattica la trasmissione di un sapere accumulato la seconda è stata la ricerca cioè un aumento della conoscenza disponibile e il terzo la terza missione è quella della fuoriuscita della conoscenza attraverso tutti i canali non formali della conoscenza sviluppata prevalentemente dall'università ma non esclusivamente quindi all'interno della terza missione rientrano l'informazione scientifica rientrano la valorizzazione della ricerca attraverso i brevetti rientra tutta la formazione informale come si chiama anche questa è la comunicazione scientifica ma c'è una una specificità e che stiamo entrando in una nuova specie sociale e quindi come etichetta se mi concedi potendo scegliere scelgo quella di scienziato sociale e stiamo entrando nella knowledge society che è un animale una specie sociale completamente nuova nella quale la conoscenza non viene più prodotta solo perché serve al martello o all'automobile a spostarsi serve per fare qualche cosa ma serve in quanto tale e non perché non si producano più martelli automobili astronavi centrali nucleari certamente che si producono ma sempre di più tutti noi produciamo scambiamo e modifichiamo l'un l'altro immediatamente la conoscenza a volte pagando essendo pagati a volte no sul web ognuno di noi mette a disposizione la propria conoscenza succhia la conoscenza dagli altri nella stragrand parte dei casi del tutto gratuitamente e questo è meraviglioso in passato era concesso soltanto a piccolissime elite che si potevano permettere il lusso di dedicare ampi tratti della loro vita della loro giornata a un lavoro come chiamava Smith improduttivo ecco diciamo che la knowledge society trasforma i lavori improduttivi nella produzione chiave nel centro della nuova vita aggregata delle persone quindi fare comunicazione della scienza e uso quella della quella particella per mettere un gradino attenzione non è la comunicazione scientifica cioè informazione cioè divulgazione ma comunicazione della scienza vuol dire rendere la conoscenza scientifica un bene pubblico reale si può discutere se lo debba essere a livello teorico o no fatto sta che è un impegno di una società democratica quella di trasformare un bene come la conoscenza che per sua natura rischia con grande facilità di essere un bene di club cioè a fruizione molto selettiva perché se non hai il gergo non hai le conoscenze di background non sai la scatola che dà significato ai singoli termini non capisci di che cosa si sta parlando quindi non riesci a valorizzare la conoscenza bene comunicazione della scienza vuol dire rendere la conoscenza realmente un bene pubblico questo si collega immediatamente con l'altra parte della knowledge society per un verso c'è l'economia della conoscenza dall'altra parte c'è una cittadinanza una società dei cittadini una knowledge citizenship ecco comunicare la scienza informare alla comunicazione scientifica vuol dire sia arricchire la presenza della conoscenza scientifica negli scambi economici simbolici linguistici relazionali affettivi eh affettivi anche la scienza è una passione non ce lo dimentichiamo eh dall'altra parte c'è una partecipazione democratica a una società della conoscenza che necessita di forme nuove e quindi c'è bisogno di una ricerca che sta appena agli albori su quali sono eh le modalità adatte alla knowledge society per eh rendere davvero democratica la knowledge society e questo stiamo sperimentando alcune prime vie chiudo soltanto con un'esperienza con gli studenti di per una decina di anni quando facevo questo corso al primo semestre del primo anno io facevo il corso come vi dicevo eh ai biotechnology cioè iscritti al corso di laurea in biotecnologie nella aula a fianco avevo altrettanti erano 250 all'epoca avevo altrettanti ma non erano i miei studenti che si erano iscritti al corso di laurea in biologia beh io non ho resistito alla tentazione di mettere un questionario senza nessuna pretesa di scientificità ma semplicemente per avere il polso della situazione perché tu hai fatto biotecnologia e non biologia cosa pensi della biologia e questo lo dicevo i miei studenti e poi ovviamente nell'aula a fianco facevo il viceversa perché hai fatto biologia e non biotecnologia guarda ci sono altrettanti studenti tuoi coetane che hanno fatto la tasa come vedi i biotecnologi beh vi riporto la sensazione che ho ricavato che è fondamentale secondo me perché manifesta due esigenze consustanziali della società della conoscenza i biotecnologi avevano preso biotecnologie perché la scienza è il futuro la scienza è innovazione la scienza corre e vedevano un po' la biologia come gli erbari le ragnatele i microscopi appannati la gente che diventa cieca per vedere il microscopio questa era l'immagine e i biologi gli iscritti al primo anno di biologia come vedevano i biotecnologi gli altri erano persone alla merced delle multinazionali nelle quali erano riposte le peggiori derive di uno sviluppo insostenibile loro invece vedevano nella biologia l'unica garanzia per uno sviluppo sostenibile capite che quando ho pensato a fare assieme al collega Pietro Greco che poi interverrà nel pomeriggio ora sta facendo le selezioni la terza edizione del master e poi gli do il cambio io per permettere di venire qui nel pomeriggio l'abbiamo denominato come il master di comunicazione della scienza e dell'innovazione sostenibile perché non si può più separare una innovazione che abbia la conoscenza al centro del sistema anche economico e dall'altra parte una sostenibilità che non è solo compatibilità con l'ambiente ma è valorizzazione delle risorse dell'ambiente e l'ambiente non è solo naturale ma è anche un ambiente sociale grazie grazie odio fare il moderatore perché mi crea ansia nell'ascolto ma così è a questo punto credo che anche nel denso intervento di Cerroni siano rievocati anche alcuni aspetti già evocati nell'intervento di Mantovani e cioè questo elemento di collegamento tra scienza cittadinanza democrazia e anche su i reciproci pregiudizi che forse vanno in qualche modo di cui bisogna essere consapevoli non sono mai eliminabili che ci sono anche fra discipline molto vicine ora passerei al mondo della scuola con una piccola considerazione iniziale che quando 15 anni fa ho cominciato in modo sistematico occuparmi della formazione degli insegnanti della scuola primaria e quindi ho avuto contatti stretti rispetto alla formazione degli insegnanti e non casuali con i colleghi anche delle discipline scientifiche ho scoperto due cose che credevo fossero solo legate all'accademia umanistica e cioè da un lato che gli colleghi scienziati sono più gentiliani dei gentiliani anche se la riforma gentile aveva dato il primo posto ai licei classici e sosteneva che bastava sapere qualcosa per saperle insegnare stranamente un pochino gli umanisti che forse bisogna pensare anche a come insegnarla ci hanno pensato mentre molto più forte non in tutti ma nei colleghi di scienze qua dico una cosa è una provocazione l'idea che una disciplina basta saperla bene e magari avere passione e sicuramente passerà è molto radicata e mi chiedo in che misura e si è visto non ci sono nelle discipline scientifiche soltanto la matematica anche il settore di insegnamento della matematica gli altri sono o non ci sono o sono scomparsi o non ci sono o sono scomparsi quindi questo ci dice qualcosa in che misura anche la passione ma la possibilità di il decentramento nel trasporre quello che si sa e che si ama ha un'importanza in questo e questo è stato una sorpresa per me felice perché credevo che questi tic fossero solo dei nostri e invece ho visto che è anche la territorialità delle discipline i biologi e i bottecnologi che io avevo notato tra sociologi antropologi filosofi italianisti e quant'altro come siano questo diciamo arroccamento che è tipico dell'accademico siamo tutti un po' maniaci se no non faremo questo lavoro questo arroccamento sia comune a tutta la cultura e su questo la scuola credo abbia un compito da svolgere veramente enorme allora invertendo leggermente l'ordine che avevo pensato su sua richiesta do prima la parola alla collega Elisabetta Nigris perché poi mi dici che l'intervento di Catalani è adesso collegato quindi prego Elisabetta io sono un umanista ma vado con le slide a usare volevo farvi vedere alcune cose solo che mi raccomando il tempo perché così se riusciamo a stare dentro il tempo c'è un attimo di tempo per le domande e anche per il secondo giro finora siamo andati abbastanza bene con un buon esempio soprattutto dagli scienziati dicendo due cose mentre mettiamo a posto le tecnologie io sono un umanista pur avendo fatto lo scientifico poi mi sono scritta lettere e filosofia perché ho avuto degli insegnanti di italiano di filosofia che mi hanno appassionato sono presente nel corso di laurea per maestri di scuola dell'infanzia della scuola primaria e da 15 anni mi occupo collaborando con gli insegnanti della scuola con i colleghi delle discipline con l'ufficio scolastico regionale con i musei della didattica delle scienze ma non vengo dal mondo della scienza delle scienze della vita delle scienze fisiche delle scienze matematiche delle scienze sperimentali quindi da un certo punto di vista parto da un handicap quello di non essere una scienziata a questo tavolo grazie spero dovrebbe partire questo però credo che costituisca un'opportunità sia per me per il lavoro che faccio ma anche per questa conversazione di riflettere sulle difficoltà cioè io riesco a mettermi maggiormente nei panni di chi ha difficoltà ad accedere ad un mondo di cui non conosce il linguaggio in cui c'è un linguaggio scientifico spesso molto interno alla comunità degli scienziati e che fa fatica a cedere a concetti complessi che gli sono ignoti occupandomi di bambini però io volevo iniziare leggendovi una testimonianza di uno dei primi grandi comunicatori televisivi in ambito educativo che è Alberto Manzi Alberto Manzi vi ricordate quelli della mia generazione non è mai troppo tardi insegnava alla televisione a scrivere a quelli che ancora erano alfabeti a scrivere a leggere ma anche lui era maestro e aveva molto a cuore l'educazione scientifica dei suoi bambini vi leggo la documentazione di un momento didattico con i suoi bambini che lui racconta lui racconta un bambino di seconda elementare si chiama Marco non ricordo per quale motivo all'interno di una discussione che si stava facendo in classe mi dice maestro lo sai che ci sono le corde vocali che ne sai tu delle corde vocali a che cosa servono secondo te le corde vocali il babbo mi ha detto le corde sono 21 questa affermazione di Marco mi fece subito drizzare le orecchie e gli chiesi perché quante sono le lettere d'alfabeto mi disse 21 allora io per metterlo alla prova gli dissi ma se voglio dire la Y e Marco prontamente mi fa maestro si vede che non capisci niente Y è fatto da I P S O L O N tu con queste 21 corde puoi parlare tutte le lingue Manzi allora si chiede come potevo dimostrare che era un concetto sbagliato o sgozzavo qualcuno e gli facevo vedere le corde vocali e gli facevo vedere che le corde vocali sono 4 e non 21 oppure glielo imponevo però l'imposizione non forma un concetto ci si dimentica facilmente di quello che ci viene imposto oppure rimane in forma estratta nella mente ma non crea un cambiamento di quello che prima pensavamo ci pensai un paio di giorni poi andai a scuola con un violino un violino a 4 corde e con l'archetto ho cominciato a strimpellare e ho fatto provare anche a loro anche a Marco che ad un certo punto ha detto che strano un violino a 4 corde eppure fa tanti suoni allora io credo che questo sia veramente costituisca una prova della grande genialità di Alberto Manzi così come di altri grandi maestri di Mario Lodi di Bruno Ciari che negli anni 60-70 hanno cominciato a pensare come insegnare in modo più efficace ai bambini perché loro potessero accedere a un mondo a un mondo però di cui fanno parte perché da questo noi vediamo alcune cose innanzitutto vediamo che i bambini hanno un'esperienza spesso di quello di cui gli dobbiamo parlare lo diceva anche prima la professoressa Mantovani i bambini parlano i bambini cantano i bambini le corde vocali ce le hanno ma non le vedono e il fatto che abbiano esperienza porta con sé una risorsa che spesso non viene utilizzata in questo momento in questo caso in questo esempio era più difficile da utilizzare perché era difficile vedere però io vi ho riportato quello che nel 96 ha dichiarato National Research Council che ci fa capire che le scienze sono dappertutto cioè le scienze non sono sui libri ma le scienze sono quello che noi intorno viviamo tutti i giorni noi siamo pervasi dalla scienza lo diceva anche Cerroni in qualche modo ma anche che per far accedere i bambini per rendere familiare ai bambini un mondo che sembra così sconosciuto è importante usare un approccio che sia più vicino a loro che passi attraverso le mani che passi attraverso il corpo o che passi attraverso la capacità di immaginare l'altro aspetto che volevo mettere in evidenza che i bambini arrivano a scuola o arrivano da noi quando gli proponiamo un nuovo concetto scientifico un nuovo fenomeno scientifico avendo in mente delle ipotesi che però non sempre sono vere molti bambini pensano che sia il sole che gira intorno alla terra Marco pensava che le corde fossero 21 anche perché gli era stato detto perché loro credono agli adulti che ascoltano parlare rispetto al mondo che li circonda e quindi a questo punto che cosa facciamo di questo io velocemente però vi volevo far vedere queste definizioni e su questo mi fermo facendovi delle domande non dandovi per ora delle proposte queste sono delle definizioni scientifiche che troviamo su internet lo diceva prima il rettore se andiamo su internet noi possiamo accedere a conoscenze che crediamo scientifiche ma io posso anche trovare un'immagine questa immagine questo linguaggio sono accessibili ai non esperti aggiungono qualcosa nella conoscenza dei non esperti contribuiscono a cambiare le idee che avevano in mente i bambini i non esperti io credo che qua ci sia un problema che ci dobbiamo porre come insegnanti come formatori degli insegnanti come comunicatori scientifici i bambini hanno bisogno di sentirsi parte del mondo che noi gli proponiamo come un mondo da conoscere e in qualche modo devono essersi devono sentirsi coinvolti attivamente la ricerca ci dice che quando noi coinvolgiamo e qua mi fermo i bambini nella costruzione di modelli scientifici o ancora prima nella costruzione di conoscenze scientifiche aumentano gli outcomes cioè aumentano le prestazioni in termini di apprendimento significativo e duraturo dei bambini allora però e qua lascio la parola a chi mi segue dobbiamo scusate sto andando indietro invece che in avanti dobbiamo fermarci a quello che la National Academy of Science dice agli insegnanti e cioè che le scienze non costituiscono un contenuto una parte di contenuto una parte di conoscenza ma costituiscono soprattutto un modo di conoscere e su questo credo che dovremmo interrogarci grazie io credo che Elisabetta Nigris abbia tra i tante cose introdotto anche un elemento molto importante in cui l'infanzia cioè il primo accesso alla scienza nella scuola primaria evidenza un aspetto che poi c'è sempre e cioè quello di un collegamento con l'esperienza e anche però di una possibilità dell'accesso a uscire dalla semplice esperienza secondo me ha avvocato un problema molto particolare noi qua parliamo di comunicazione e della scienza e forse va molto differenziato rispetto al pubblico e al lettore modello cioè i bambini sono seri hanno bisogno di una comunicazione molto rigorosa ma le modalità con cui noi comunichiamo o cerchiamo di mettere in comune i concetti i dubbi e le conoscenze scientifiche deve avere anche una gamma variata tutta rigorosa rispetto ai soggetti a cui noi in qualche modo ci riferiamo e credo che su questo la ricerca non sia così avanzata e c'è semplicemente molte volte un modo di semplificare come mettendo in lavatrice un golfino di cashmere e quindi quello che viene proposto ai piccoli è semplicemente la centrifuga che infiltrisce quello che è stato pensato per i più grandi penso ai libri di test a tanti temi passo a Paola Catalani insegnante insegnante di matematica e scienze nella scuola media che collabora da moltissimi anni con noi alla Bicocca nella ricerca e nella formazione degli insegnanti non mi dilungo le do la parola buongiorno a tutti allora quando ho ricevuto questo invito sono andata in classe e ho chiesto ai miei ragazzi in prima e in terza le scienze per ho chiesto va meglio ho chiesto loro le scienze per l'ho chiesto in prima e l'ho chiesto in terza media le risposte ovviamente sono state diverse cioè come dire prima della cura dopo la cura in prima media comunque è un prima della cura dopo comunque almeno cinque anni sei di scuola queste sono le loro risposte della mia prima media imparare a studiare ci sono persone non meglio identificate che inventano e studiano le cose creare marchi ingegni spiegare perché succedono gli eventi naturali ci sono scienze buone utili altre che potrebbero danneggiare l'ambiente migliorare il mondo viaggio di scoperta insomma una visione un po fantasiosa mediata cioè quello che loro pensano che sia la scienza una visione un po passiva anche in terza media diventano un pochino più concreti capire il meccanismo di tutto ciò che ci circonda visione meccanicistica per carità però risvegliare l'interesse scoprire mondi nascosti risolvere il perché trovare le risposte io ho voluto leggere come dire che due anni di lavoro con loro sono serviti a qualcosa non so se è vero però mi sono illusa di questo nel senso che ho cercato di spostare la loro visione da io leggo e imparo non per tutti è così è alla scuola primaria molti lavorano tanto molti maestri lavorano tanto sul costruire il senso però in molti casi le scienze sono lette sul libro e quindi come dire il tentativo della scuola delle mie che ho fatto nelle mie classi è stato quello di cercare di far costruire a loro i significati far fare a loro le domande e le loro risposte in qualche modo mi convincono di avere fatto qualcosa ho fatto anche un'altra domanda allora le scienze dove sono nella vita di tutti i giorni in prima media loro dicono che si vedono nei boschi negli animali negli zoo gli esperimenti li puoi vedere tu se hai un maestro bravo ci sono ovunque quando mi sveglio faccio colazione eccetera qualcuno vola alto su newton libera la fantasia o ha un approccio utilitaristico sono nei pc che mi servono per sentire la musica sempre la stessa terza media di come dire incominciano a fare riferimento al lavoro svolto cioè quando al super mettono il latte nel frigo i cibi sotto vuoto l'aria tolgono l'aria per conservarli meglio quando cucini la pasta quando osserviamo la muffa e la decomposizione ogni volta che mangiamo ci muoviamo la luna quando mi muovo la crescita del nostro corpo per voi non vuol dire tanto ma per me significa riprendere da parte loro gli argomenti i temi che abbiamo trattato nel corso dei due anni passati con loro e ritrovarmeli come dire con una visione da una parte io aggancio alla vita quotidiana quello che ho imparato ma dall'altra parte ho una visione più consapevole dei fenomeni che ho osservato ho dovuto mettere questa cosa del mio ragazzino di prima che così dice era troppo bello per non portarvelo cioè cercheremo di fargli cambiare idea quando arrivano i ragazzi sono pieni di curiosità sono entusiasti ci sono alcune foto recuperate in giro ma alcune sono state fatte proprio nella mia classe sono pieni di domande magari all'inizio sono un attimino morti passivi ma nel momento in cui li si coinvolge entrano nel gioco e incominciano a fare domande spesso invece la scuola li conce in questo modo cioè mi è capitato di prendere o entrare in classi in cui l'atteggiamento era di questo tipo va bene vi ho fatto una rapida carrellata delle domande dei ragazzi che sono venute fuori da loro non le commento se mai lo faremo se ci sarà ancora del tempo da domande ingenue a domande filosofiche da domande molto alte a domande abbastanza banali che però nascono da loro è da lì che si parte per fare che cosa cioè per passo oltre visto che il tempo è poco semmai ci ritorniamo una riflessione sul cosa fare cioè secondo me e secondo la didattica e le persone di riferimento che sono state il mio faro in tutti questi anni di insegnamento insegnare scienze vuol dire partire da situazioni concrete e agganciare la curiosità dei ragazzi dare senso a quello che loro stanno imparando e cercare di costruire con loro gradualmente dei significati attraverso attività varie che bisogna pensare di volta in volta è necessario però non solo il fare ma anche il riflettere insieme e in questo senso il gruppo classe è una risorsa incredibile perché ci sono venti pensieri diversi che si mettono a confronto far emergere le domande e soprattutto lasciare il tempo lasciare il tempo che le cose vengano fuori io credo che nella scuola dell'obbligo il tempo ancora ci sia poi i tempi diventano molto più stretti e quindi sfruttiamo questi tempi un pochino più distesi che ci sono in questa fascia d'età e quindi il laboratorio vado via veloce sperimentare costruire modelli interpretare formalizzare e quindi come dire usare una didattica laboratoriale per fare discutere confrontarsi e lavorare insieme finisco qui grazie prima dell'ultimo intervento dell'ultimo giro poi se siamo bravi abbiamo tempo per le domande per un altro giro e mi scuso per la pressione soltanto due aspetti fondamentali il tempo che è stato evocato il tempo della sedimentazione del pensiero della sperienza della sperimentazione della scienza credo sia invece una tragedia della scuola anche dell'università troppo tempo compresso troppo didattica forse troppo tempo per non pensare poco tempo per pensare e gli sbadigli credo che quello stupendi sbadigli tragici stupendi sbadigli ci facciano pensare molte cose sul fatto di come dobbiamo insegnare l'ultimo intervento di questo primo giro la Anna Pascucci insegnante di grandissime esperienze responsabile di un importante progetto nazionale sull'insegnamento scientifico non mi dilungo le do subito la parola buongiorno a tutti e grazie per l'invito ho sentito in questa prima parte di mattinata delle note una serie di stimoli e mi è abbastanza difficile cercare di canalizzarli per cui anch'io uso questo strumento questo filo di pensiero diciamo per cercare di dare gambe in qualche modo a delle riflessioni che derivano da esperienze vissute come insegnante poi come formatrice sia in contesti di tipo anche molto diverso e quindi mi piace portare questo quadro di Pollock proprio ad indicare come innanzitutto mi focalizzo sulla formazione parlo di qualche filo della formazione in servizio perché la formazione iniziale ovviamente è altro è un quadro certamente molto complesso e qui fornisco qualche spunto non esaustivo ovviamente la prima cosa è il fatto che sia puntiforme puntiforme nello spazio e nel tempo la formazione in servizio in Italia è in genere vissuta come evento è in genere di singoli di alcune scuole o gestita da singoli non da gruppi ed è molto spesso territoriale e locale molto spesso nella maggior parte dei casi è personale e discrezionale non c'è alcuna progressione di carriera quindi si è parlato di passione certo c'è Gionatti per esempio che ho sentito recentemente e che pone al centro dei processi di innovazione didattica la passione di insegnanti esperti ma la passione va educata va domata se ho fatto delle scelte universitarie perché evidentemente avevo passione la passione non si passa si passa certamente come comunicazione come strategie ma va se si vuole costruire educata in termini di strumenti in termini di metodo in termini di visione quello che mi sembra che in Italia veramente non ci sia è una strategia comune ed una visione comune rispetto all'insegnamento scientifico e alle linee di colore da seguire in misura prioritaria altra cosa della formazione che non è formativa nel senso che non sempre è formativa questo ovviamente sto estremizzando ma molto spesso è un insieme di informazioni ma non ha seguito non è orientata ce ne sono di tutti i tipi che quindi veicolano anche priorità diverse e un fatto per me essenziale è che non è strategica non è funzionale nel senso che non ritorna al sistema al massimo ritorna ai miei studenti come come momento come tempo qualche volta ritorna alla mia scuola ma difficilmente crea un sistema e quindi c'è una capitalizzazione cosa queste queste velocemente queste due queste due immagini questi due scatti l'Italia non ha una strategia e non è colorata in rosso e tra paesi che non hanno strategie per l'educazione scientifica strategie nazionali d'altra parte non esistono dei luoghi di riferimento ce ne sono tanti ma non sono dei luoghi in qualche modo condivisi espliciti dove l'insegnante può andare regolarmente a formarsi che sono luoghi di riferimento sono luoghi esistono ovviamente ma sono molto spesso territoriali cosa dicono alcuni documenti che ho riportato uno diciamo secondo me uno che ha tracciato delle linee in Europa da un po' di anni oramai che ovviamente gli insegnanti sono i mediatori va bene mi si dice tu sei l'insegnante presidente dell'associazione nazionali insegnanti di scienza cosa possiamo sentire da te il problema è questo è che l'insegnante è il vero amplificatore il vero mediatore ed è colui che ogni giorno vede gli studenti e ogni giorno ha il compito di contribuire alla formazione degli stessi quindi si diceva prima che tipo di contatto con la ricerca scientifica fondamentale il problema è che questa volta gli studenti per esempio non sanno assolutamente come procede la scienza quindi vedere banalmente ad analizzare insieme un articolo di nature come è strutturato un articolo di nature è aprire un mondo oppure andare per esempio in laboratorio di ricerca ma vivere per un tempo con gli scienziati per capire anche il quotidiano il fare scienza è un quotidiano non è un occasionale quindi in pratica questo documento per andare veloce altrimenti non diciamo niente individua gli insegnanti al centro sottolinea il fatto che perché ovviamente alcuni problemi della formazione sono problemi comuni non sono solo problemi italiani poi ci sono delle specificità italiane ovviamente e sottolinea il fatto che è fondamentale come la scienza è insegnata il fatto che l'insegnante molto spesso spesso è solo e quindi creare dei network è fondamentale e quindi che cosa si è provato a fare tutte queste riflessioni perché insomma questa associazione oramai è da 30 anni che esiste con 28 sezioni in tutta Italia e che vuol dire che è una capitalizzazione di esperienze non soltanto mia si è cercata di mettere su un programma quello a cui si riferiva prima la professoressa e cioè abbiamo denominato in latino scienza minquirendo discere ed ha questi tre pilastri fondamentali cioè si seguono dei fili che possono essere anche discutibili sono aperte a qualunque forma di discussione cioè che in realtà la finalità è quella di passare un approccio un approccio molto complesso l'Italia ma non solo l'Italia è un paese un po' delle mode per cui si è passati insomma dalla didattica laboratoriale all'Ipse ora questo Ipse in qualche modo è un distintivo che si mette su cose che probabilmente Ipse non sono purtroppo perché insomma come dice anche Maria Santodachi giustamente condivide questo e questo è un problema tipico italiano quello di non andare dentro le cose mi ricordo mi sono ricordata prima con l'intervento della professoressa da un pezzo famosissimo del libro Il piacere di scoprire di Feynman dove lui va in giro per il bosco per la cosa insieme al padre e vede un uccellino e chiede al padre ma come si chiama e beh insomma ovviamente il padre dà una serie di risposte ma era chiaro che non sapeva quale fosse il reale nome allora confrontandosi con i suoi amici beh ma tuo padre non sa proprio niente non sa come si chiama con l'uccello e lui commenta in questo libro capì molto presto la differenza tra sapere il nome di una cosa e conoscere una cosa questo penso che sia un po' fondamentale anche nella formazione scientifica in generale nell'essere insegnanti professionisti perché è l'ultima devo stare un minuto e mezzo e mi sembra un minuto e mezzo no la cosa la cosa fondamentale è inutile che ci prendiamo in giro gli insegnanti sono molto eterogenei hanno delle valigie piene e vuote di cose diverse di esperienze diverse di motivazioni diverse e così via esistono degli insegnanti esperti questo sistema Italia direi che non valorizza queste persone ed è uno spreco è semplicemente uno spreco in non capitalizzare delle possibilità di sinergie e di esperienze che andrebbero a vantaggio di tutti voglio soltanto dire di questo programma quali sono gli elementi perché la cosa importante è non tanto disegnare dei fili non è non sono i vari colori del quadro di Pollock ma è l'insieme insomma anche frattale peraltro quindi che dà poi il senso al tutto e questo è quello che abbiamo cercato di mettere in questo programma fondamentale è ovviamente la cooperazione tra Accademia Nazionale dei Lincei e direi la passione per la scienza la definirei così volendo distillare e la passione per l'insegnamento un insegnamento riflessivo e questi sono mi fermo qui i centri pilota che sinora sono stati messi su in Italia seguendo questo questo approccio all'insegnamento apprendimento basato sull'Ipse grazie grazie anche da quest'ultimo intervento sono venuti dei spunti molto importanti per quanto riguarda l'università sembra che si chiuda il cerchio aveva accennato Ceronia la terza missione anche la formazione permanente non da soli la formazione in servizio la formazione ricorrente è un compito che spetta all'università assieme ad altre agenzie per quanto riguarda la scuola assieme al mondo della scuola e dovrebbe perdere queste caratteristiche di frammentazione ha usato un termine migliore puntiformità e anche incapacità di valorizzare di mettere in rete le esperienze questa è una sfida così come appunto dagli ultimi dalle ultimi aspetti che ci sono stati indicati vediamo quante anche esperienze interessanti ci sono che però restano in qualche modo un po' separati e dovrebbero diventare cultura comune mi sembra che in tutti gli interventi ci sono stati moltissimi spunti io darei 7-8 minuti per fare delle domande non degli interventi ma delle domande in modo che i nostri relatori abbiano poi per quanto brevemente la possibilità di aggiungere qualcosa o di reagire alle vostre domande prego poi dopo prendiamo il giro di risposte grazie io sono Clementi volevo più che una domanda rispondere no rispondere prendere spunto da alcune considerazioni che ha fatto Mantovani e poi molti altri Mantovani lui anche lei per dire io sono un pochino il responsabile del progetto Scuola dell'Accademia dei Lincei che è stato menzionato da ultimo da Pascucci e che voleva dire che parte dalle basi che abbiamo sentito stamattina chiaramente e volevo solo indicare alcuni punti che ci siamo proposti e speriamo di riuscire no quello non lo so perché ogni volta che uno si propone delle cose non sa mai se arriva in fondo in questo paese uno è due cose uno è il bersaglio sono gli insegnanti gli insegnanti sono la chiave per modificare la scuola per modificare quindi la società che va dopo tutti i dati dicono che noi siamo molto malandati nelle scienze e nella matematica e nella lettura purtroppo e allora lo sforzo che cerchiamo di fare è di fare un progetto di tipo nazionale abbiamo ormai 11 centri sparsi in tutta Italia che cercano di portare avanti questo progetto un progetto che parte dall'inizio parte dalla scuola elementare passa nella media che è il buco nero dell'Italia e poi cerca di fare la filiera fin su naturalmente quindi è un progetto che cerca di essere un pochino grande ma però speriamo di riuscire ci sono l'altro punto è questo di avvalersi non inventare cose nuove ma avvalersi di tutte in ogni posto di quello che in realtà c'è già fatto cercando di coinvoliarlo verso queste cose molte volte sono esperienze che vanno verso i studenti noi vogliamo andare essenzialmente verso gli insegnanti e l'ultima cosa è vogliamo portare avanti in maniera contemporanea l'educazione di laboratorio perché ormai questa è l'espressione ma non solo nella matematica non solo nelle scienze ma anche nell'italiano cioè fondere queste tre cose basilari della nostra cultura e cercare non solo di metterle una separata dall'altra ma anche di fonderle per esempio insegnare l'italiano durante una lezione sperimentale di matematica o di scienze eccetera questo è già molto più difficile e l'ultima cosa che voglio dire dovunque siamo partiti abbiamo trovato un entusiasmo negli insegnanti eccezionale e una collaborazione molto buona qui è la presentata quella di Milano da parte degli uffici scolastici regionali o provinciali su cui evidentemente ci basiamo l'ultimissima cosa è no no ultimissima il progetto non vuole solo dire questi sono progetti che costano in Lombardia è sorretto dalla fondazione Cari grazie chiedo sempre scusa ma vorrei che ci fossero anche altre domande solo una una provocazione si è parlato di insegnanti come bersaglio ma si sono discritti gli insegnanti come coattori ma questa è chiaramente una battuta prego vi prego in modo che abbiamo anche tempo per una reazione dei nostri relatori di in mezzo minuto un minuto formulare quella che è la vostra o provocazione o domanda o pensiero grazie non so se sia ma non collabora no io mi stupisco sempre l'ha sfiorato soltanto Andrea Cerroni mi stupisco sempre che quando si parla di scienza si dicono tante cose belle e giuste ma la cosa forse per me più importante cioè il fatto che la scienza ha come primo compito quello di seminare i dubbi e poi eventualmente di provare a rispondere ma prima deve provocarli questo è un resta sempre molto molto nel sottofondo e poi un auspicio io spero che verrà il giorno io non lo vedrò in cui non si parlerà più di cultura scientifica perché secondo me l'aggettivo che si aggiunge dovrebbe essere superfluo sì alto c'era poi go buongiorno io sono un insegnante di scienze di un liceo classico di Milano purtroppo al tavolo non c'è seduto nessuno del ministero dell'istruzione mi dispiace perché si continua a parlare gli insegnanti dovrebbero gli insegnanti dovrebbero allora il ministero di formazione ne fa poco o nulla se noi andiamo a vedere anche in Lombardia la formazione proposta per i neoimmessi in ruolo di parte scientifica c'è veramente poco niente altra cosa importante io butto degli spunti perché il tempo è breve allora si parla tanto di scuole sulla scuola la scuola è considerata un serbatoio ma quante volte gli insegnanti che sono gli unici depositari della didattica vengono chiamati a progettare sulla scuola si riversa tutto ma nessuno ci chiama mai quando bisogna partire ed è per questo che la scuola molto spesso è A molto più avanti delle cose che vengono proposte e B non partecipa allora il progetto l'accademia dell'ince io c'ero l'anno scorso all'istituto Lombardo di scienze lettere volevo sapere quante scuole nello scorso anno scolastico hanno partecipato a questo progetto perché se ci fosse una diffusione così capillare forse la si vedrebbe perché se i dati Ox e Pisa i dati invasi continuano a dire che ci sono delle cose che non funzionano vuol dire che forse va cambiato qualcosa a monte e quindi vanno benissimo gli ambasciatori della scienza portiamoli in laboratorio ma questo non incide sulla didattica e non incide sulle competenze sono soltanto dei bellissimi episodi io ci porto i miei ragazzi ma non formano informano e al massimo qualcuna appassiona riprendo l'intervento di Ilaria giusto io insegno al classico un sacco di miei studenti vanno a fare chimica probabilmente la collega di filosofia appassiona meno di me non lo so ma sta di fatto che o si passa dal mondo della scuola ma non nel modo con cui si sta facendo ancora due una o due domande se brevissima una e un'altra se ci sta brevissima una o due poi basta allora scusatemi ma ho questo ingrato compito io so ho insegnato molto all'estero e mi piace molto vedere che facendo proprio un sunto distillato di quello che emerge io cercavo di dirgli all'ultimo anno dell'università university for forming a critical mind ma qui la critical mind lo vedo che in realtà deve essere un leitmotiv che parte e lo vedo lei ce l'aveva già la critical mind prima di venire all'università perché se l'è formata prima cioè deve essere dovrebbe essere io lo vedo qui cioè è la struttura di base per tutto hand on beh quello è active learning PBL la medicina in Inghilterra si insegna con active learning non più con i libri grazie l'ultima poi credo che nella giornata ci saranno sicuramente altri spazi di cui io grazie al cielo non sarò responsabile prego mi presento sono Pessina e lavoro ormai da decine anni in un progetto di sensibilizzazione all'educazione al rischio sismico offrendo dei con l'istituto di cui faccio parte un istituto di ricerca offrendo dei percorsi informativi alle scuole gratuiti e una testimonianza la prima cosa è che abbiamo visto girando per l'Italia abbiamo già contati con più di cento istituti se l'istituto risponde autonomamente allora il progetto funziona benissimo invece se viene imposto dal provveditorato dal comune eccetera non funziona e questo sta anche a sottolineare la risposta degli insegnanti voglio proprio sottolineare che abbiamo avuto delle risposte incredibili belle proprio basate sulla buona volontà e l'altra cosa invece un pochino più estesa è occupandomi di terremoti è chiaramente una scienza non esistono scienze diciamo di livelli diversi però è una scienza che parla sulla sopravvivenza delle persone e la domanda è perché non viene direttamente nelle scuole cioè non viene nel progetto ministeriale o comunque non riusciamo a inserirci tanto nelle scuole su questo lancio magari non tanto una provocazione ma quanto una richiesta di aiuto a voi che avete esperienza su come fare a entrare nelle scuole una cosa per tutte all'Aquila prima del terremoto abbiamo contattato tutte le scuole attraverso il ministerio eccetera non ci hanno risposto hanno partecipato al progetto solo due scuole ma perché abbiamo preso il telefono e abbiamo un po' rotto le scatole allora se voi ci date la chiave per entrare in questo campo insomma grazie la chiave la possa dare l'ufficio scolastico regionale magari anche in collaborazione con noi darei la parola ai relatori in ordine inverso quindi ricomincerei da Anna Pascucci per una breve replica e così concluderà la studentessa e io ne approfitto fin da ora per ringraziarvi e quindi per lasciare i 12 minuti che abbiamo abbiamo sforato di un quarto d'ora e quindi non possiamo andare oltre poco più con i colleghi perché io e la Tori possano replicare bene io rispondo innanzitutto alla collega rispetto al numero dunque mi prendo la responsabilità di dire che la formazione a pioggia non serve a niente per cui si parte le trasformazioni sono molto lente vanno sostenute c'è un tempo per la riflessione fondamentale altrimenti non è una trasformazione reale e questo e per gli insegnanti e per gli studenti per cui non si può partire con grandi numeri si deve partire necessariamente con piccoli numeri e con strategie le strategie sono di contaminazione anche interna se io dicessi facciamo questo programma sicuramente un insegnante per scuole media 1 massimo 2 mi vengono ma non serve a niente perché è molto più difficile avere una contaminazione all'interno della stessa scuola e creare delle comunità di pratiche quello è il punto vero è una comunità di pari critical mind siamo perfettamente d'accordo non sono potuta andare ovviamente nei particolari è quella raraffinatezza quindi e anche l'impegno formativo sono in media 80 ore all'anno di formazione e non tutti gli insegnanti sono disposti questa grande onda peraltro molto complessa con delle complessità interne molto raffinate è basata sul volontariato e questo è un altro punto non ci sono mega risorse per tutto questo e quindi ritorno al problema della strategia complessiva non c'è una strategia che noi italiani possiamo raccontare all'estero rispetto a modalità formative in campo educativo nell'educazione in servizio non parliamo di quella iniziale gli insegnanti sono molto d'accordo con quello che diceva la collega di liceo cioè gli insegnanti devono come dire tamponare e affrontare le 10.000 istanze che ci arrivano da tante agenzie e soprattutto dai nostri ragazzi allora ovviamente in primis vengono i ragazzi che vanno garantiti detto questo ad un insegnante cosa viene chiesto viene chiesto di essere un esperto disciplinare peccato che nelle scienze pensate a quante lauree afferiscono a una classe di concorso tipo 0,60 peggio ancora 59 scusate infatti traduco insegnamento delle scienze alle superiori insegnamento di matematica e scienze alle medie cioè ci sono almeno 15 lauree scientifiche agli insegnanti alle medie quindi è chiesto di essere esperti disciplinari non sto scherzando psicologi sono richieste capacità di relazioni con gli adulti ma soprattutto con ragazzi in età adolescenziale ci sono richieste doti di comunicazione ovviamente come a tutte le persone che lavorano con altre persone che cosa succede nella nostra formazione non abbiamo avuto nulla adesso con il TFA l'anno scorso e con la Silsis negli anni passati c'era stato un tentativo di formare gli insegnanti anche in campo psicopedagogico ovviamente ci sono finiti i soldi sono finite non lo so che cosa non si fa più formazione dei nuovi insegnanti la formazione degli insegnanti in servizio è episodica blanda sono molto d'accordo con quello che diceva Pascucci cioè nel senso che sono tante piccole cose e effettivamente è vero che non funziona una formazione su larga scala perché serve investire tempo denaro persone e non ci sono quindi che cosa succede le scuole come dire si mettono insieme a formare reti si supportano l'un l'altro fanno quello che possono però oggettivamente serve un po' più di sostegno non solo ci sono molte persone che spesso parlano di scuola basandosi sui propri ricordi la scuola non è assolutamente più quella che abbiamo frequentato ma la scuola non è più neanche quello che ha frequentato lei abbiamo scoperto che ha frequentato la scuola in cui insegno ma è cambiata e cambia di anno in anno con una velocità esponenziale e gli insegnanti vecchi e nuovi che siano non hanno spesso gli strumenti per affrontare queste difficoltà io invece rispondo un po' alle provocazioni giuste che sono venute da più parti sul tema del dubbio a prescindere che il collega Mantovani ha esordito con questo e anche prima la dottoressa ha veduto io credo che qua sia il nocciolo e butto lì una provocazione io l'anno scorso io ho tenuto il corso di progettazione e valutazione ai futuri insegnanti di matematica e scienze delle medie nel TFA che adesso si spera temporaneamente è sospeso allora in quasi 50 partecipanti mi hanno detto che nessuno di loro aveva mai sentito parlare del termine epistemologia della disciplina ovvero teoria di un certo ambito del sapere questo significa che a scuola e all'università gli è stata insegnata la disciplina come una verità assunta cioè non come il segno di un modello scientifico che è un modello culturale come ci dice Foucault ma come ci dicono anche gli epistemologi della scienza spostando questo alla ricerca didattica ormai è chiaro che le prestazioni scolastiche soprattutto in ambito scientifico ma in generale sono correlate alla capacità dell'insegnante di far partecipare gli allievi nella costruzione del concetto e ancor di più nella costruzione del modello scientifico noi raccontiamo delle dimostrazioni io allo scientifico mi vedevo raccontare le dimostrazioni o meglio le dovevo copiare dalla lavagna nessuno pochi studenti nella nostra scuola a pochi studenti è richiesto di provare a dimostrare e se portano una dimostrazione diversa da quella degli insegnanti si sentono dire che non era quello che dovevano dire ve lo dico perché come studente come madre come formatore ricercatore che lavora con 400 scuole primarie della Lombardia e anche delle medie e delle superiori lo vedo questa è la prima provocazione allora dobbiamo chiederci che formazione viene data a scuole che formazione scusate viene data all'università perché qua siamo all'università la seconda provocazione velocissima è sulle domande io sono un'appassionata e una ricercatrice su questo ho condotto delle ricerche in questo ambito ci sono delle comparazioni internazionali che dimostrano che i paesi come diceva prima il collega dove l'insegnamento avviene attraverso le domande degli allievi o con un modo di insegnare che suscita domande di problematicità e non domande che richiedano risposte esatte che queste risposte siano la dimostrazione un modello una definizione non è che siccome una definizione scientifica allora è più critica è comunque una definizione è comunque una memorizzazione che io chiedo nei paesi dove si favoriscono le domande intanto gli studenti le fanno i nostri colleghi spesso ci dicono ah i nostri studenti non fanno le domande peccato che se fanno la domanda sbagliata vengono redarguiti la volta dopo non la fanno più quindi rispondo alle provocazioni con due provocazioni Ceroni abbiamo sei minuti secondo me non più di due magari un e mezzo in modo che non siamo rispettosi per chi ci segue tra l'altro prima ho anche parlato troppo quindi sarà ancora più breve e per fortuna sono state anticipate molte delle cose che volevo dire il complimento migliore che ho ricevuto in vent'anni che insegno nell'università è stato anni dopo aver terminato il corso all'epoca lo tenevo in bocconi ma lei non è un professore perché lei non professa lei è un insegnante perché lascia il segno che cos'è che lascia il segno non sono le risposte tantomeno quelle scientifiche che cambiano e per fortuna che cambiano sono le domande perché perché le domande implicano una messa in dubbio non è soltanto il dubbio metodico ma è la messa in dubbio delle proprie conoscenze pregresse questo però ha due conseguenze e su questo volevo concentrarmi primo dobbiamo diminuire disinflazionare l'accento ormai giunto all'esaustività sulla performance sulla prestazione cioè sul knowing that piuttosto che sul knowing how o sulla messa in discussione quindi sulle pre-conoscenze e da ultimo una riflessione lo dico sempre ai miei studenti siamo qui a fare didattica e la ricerca dovrebbe essere un'altra rubrica mentale c'è un altro registro c'è un'altra cosa un'altra misurazione delle mie prestazioni ma io francamente non vedo così nitidamente il confine tra formazione tra didattica e ricerca forse è un privilegio di occuparmi della scienza nella knowledge society ma qui c'è un punto importante lo spirito scientifico la cultura scientifica o la cultura o ciò che ci distingue come genere umano dal resto delle forme di vita che conosciamo è che siamo una svolta antropologica e dunque la messa in dubbio e quindi la didattica è fondamentale anche per la stessa ricerca cito soltanto due esempi la convergenza nano bio info e neurocognitive non la sappiamo pensare la stampante in 4D vi sfido a pensare che cosa è se non l'avete letto su wikipedia la stampante in 4D in 3D già facciamo difficoltà ma pensatela in 4D è produrre un oggetto che cambia nel tempo quell'oggetto che forma è? è biologia? è zoologia? è? o è un oggetto? è un mattone? io uso un minuto spero ma riprendo innanzitutto confesso la mia umiltà nei confronti degli insegnanti di chi si occupa di insegnamento ad altri livelli in particolare nella scuola primaria e secondaria prendo due parole una è problem based learning di degli esposti e poi che formazioni ricevono e allora io mi confesso colpevole io insegno medicina quanti corsi di medicina hanno una componente di problem based learning per esempio qualcosa non le facciamo ma e quindi quel tipo di approccio problematico forse se lo usassimo di più avremmo meno persone che credono nell'omeopatia o in amenità di questo tipo e quindi io credo e questo io credo che solleva un problema in un tempo in cui c'è un tema di valutazione abbiamo un problema di come di far entrare parametri legati all'outcome formativo nella valutazione degli atenei e degli insegnanti che insegnano nelle atenei dove ci si fa la domanda che formazione ricevono qua dentro grazie io concluderei rispondendo alla provocazione del professore mi immagino che si auspicava che l'aggettivo scientifica di fianco a cultura diventasse superfluo discutendo di questo convegno con una mia amica che studia lettere mi ha detto devi assolutamente leggere il libro La cultura degli italiani di Tullio De Mauro il libro inizia così nella nostra tradizione cultura vuol dire specificatamente cultura letteraria un esempio il volume La cultura incluso nella storia d'Italia in Audi al suo interno è inutile cercare qualsiasi nome che non sia di scrittore poeta romanziere critico letterario storico della letteratura saggistica di varie umanità questa è l'opinione comune chi non conosce a memoria una poesia di Montale chi conosce a memoria una poesia di Montale è colto chi non la conosce non lo è può essere un grande matematico o un biologo ma non conosce Montale non è colto tutto il resto della cultura anche della cultura intellettuale è ombra io penso che quando in questo paese avremmo imparato a dare uguale importanza al saper impostare una proporzione al sapere in memoria le poesie di Montale forse avremmo davvero capito che senza cultura un futuro non esiste grazie 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 ai relatori e grazie al pubblico che ha ascoltato e credo che abbiamo molte cose a cui pensare grazie a tutti la professoressa Mantovani e a tutti i relatori mi è sembrata che di stimoli ce ne sono stati parecchi io vorrei riportarvi un attimo alle domande che vi facevo all'inizio si è parlato di formazione di formazione continua di problemi di formazione degli insegnanti insomma abbiamo parlato di tante cose ecco io vi chiedo forse potrebbe davvero potremmo davvero utilizzare di più il web per riuscire a risolgere anche questi problemi di formazione continua ad esempio cercando in questi giorni ho scoperto casualmente in internet una lezione del professor Mantovani divulgativa per gli studenti che parlava che spiegava cos'era l'immunologia ecco quanti sono gli insegnanti che magari sarebbero interessati a sentire questa lezione o anche quanti potrebbero essere gli studenti interessati a sentire una lezione di un professore universitario che cerca di divulgare il suo sapere ecco trovare questa lezione in internet è praticamente impossibile youtube ha dentro un fracco di cose tutte le iniziative ad esempio di degli epi aure evoluzionisti che ritengono a Milano sono filmate sono tutte interventi di divulgazione scientifica che però non sono accessibili perché non si trovano probabilmente basterebbe che qualcuno investisse su un web di questo tipo e catalogasse le cose potrebbero essere a disposizione di tutti passiamo alla sessione successiva la dottoressa Alba la storina e la moderatrice questa sarà una sessione in cui soprattutto si mostreranno le cose buone che si stanno facendo quasi ti hanno dato tutti le presentazioni non so se non so se le hanno caricate loro va bene dobbiamo vedere come si fa eh niente bisogna ah perché non lo sta beccando no praticamente ok no c'è no no collegamento oppure hai da caricare l'arata dovrebbe essere dunque dunque dovrebbe essere quella di arata arata c'era già vabbè la metto sul destra e c'era mi aveva chiesto catti ma quelli le avevo messo eh va bene sono a posto no posso tagliare proprio selvaggiamente mi si lascia lo spazio buongiorno a tutti chiedo innanzitutto scusa per la mia assodente voce e anche per questo gesto poco diciamo signorile che darò ogni tanto un po' d'acqua perché o diciamo sono reduce come molte molte persone danno influenze e quindi e quindi insomma un po' di difficoltà a parlare peraltro non è il mio compito quello di parlare anche se moltissime cose che sono state dette mi hanno sollecitato tantissime riflessioni però il mio compito è quello di fare diciamo il facilitatore delle idee che in qualche modo si incroceranno su questa su questa tavola e quindi insomma cercherò di appunto non invadere troppo il campo intanto volevo ringraziare Antonello Villa per avermi chiesto di moderare questa sessione che trovo molto interessante effettivamente diciamo prevede un salto stiamo passando un po' alla scienza come cultura senza scientifica in questa sessione c'è questo passaggio sono sicura che ci saranno delle diciamo degli interventi interessanti e quindi che si contribuirà a questa giornata con degli spunti interessanti tutte le tematiche che vengono affrontate in questa giornata hanno un interesse scusate ma devo iniziare a vedere le mie 21 corde vocali insomma sono bagnate bene dunque tutte le tematiche che vengono affrontate in questa giornata hanno un grande interesse per me e soprattutto per il gruppo di ricerca con il quale lavoro che si occupa istituzionalmente al CNR di modelli di didattica e di comunicazione della scienza nonché delle relazioni tra mondo scientifico e società se ne occupa peraltro con un approccio che è tipico dell'ente nel quale lavoriamo ed è quello di fare appunto di questi temi oggetto di ricerca e di sperimentazione in parte appunto già si aveva veduto anticipato alcune delle attività che ha svolto questo gruppo parlando appunto del progetto Ethics and Polemics e ne io qui ovviamente potrò essere esaustiva e diciamo potrò fornire molte altre informazioni sui nostri lavori peraltro c'è uno stand che insieme a tanti altri soggetti appunto che sono qui presenti dove potranno essere approfondite un po' di queste attività volevo però diciamo fare proprio due battute su alcuni risultati che abbiamo raccolto in questi anni soprattutto una serie di dati e di esperienze abbiamo messo in piedi una specie di osservatorio sulla scienza sulla ricerca scientifica appunto abbiamo condotto indagini a diverso livello nazionale e internazionale investigando i vari attori dello scambio del sapere scientifico studenti insegnanti scienziati esplorando le pratiche della comunicazione e i loro immaginari di scienza perché questi sono due termini appunto che non vanno mai dati per scontati ma vanno esplorati in tutti i sensi epistemologici uso la parola ve l'ero già scritta ma mi sembra che sia una delle parole chiave anche di questa giornata quando parliamo di comunicare la scienza o di tecno scienza come oggi viene definita buona parte della conoscenza elaborata all'interno delle accademie e delle istituzioni di ricerca l'attenzione va proprio ai problemi delle relazioni tra questa conoscenza e i vari soggetti e la società perché come ci ha insegnato Funtowitz parliamo di conoscenza caratterizzata da forti elementi di incertezza che deve fare quindi conti con decisioni con la necessità di prendere decisioni in tempi molto urgenti e quindi solleva una serie di questioni etiche sociali che invitano tutti al dibattito quindi è importante diciamo oserei dire avere una visione sistemica anche della cultura scientifico della cultura della didattica della comunicazione della scienza così come è importante appunto appunto tener presente l'elemento del dubbio della critica che sono stati già sollevati più volte in questa mattinata e soprattutto creare degli scambi tra i vari soggetti che interagiscono nella comunicazione scientifica cioè il mondo della ricerca fatto di scienziati di scienziate come ha detto qualcuno con i loro linguaggi i loro contenuti le loro immagini e le loro idee di scienza e anche con i vincoli i limiti e le criticità del fare ricerca oggi in Italia e diciamo a livello planetario le scuole gli studenti gli insegnanti con i loro percorsi con i tempi della didattica e anche qui con le opportunità ma con le limitazioni il mondo dell'informazione con le sue leggi i suoi legami con la politica con la società e i cittadini la cui partecipazione ovviamente alle questioni di carattere tecno scientifico si fa sempre più imprescindibile e i decisori politici ovviamente con le loro scelte di programmazione un'ultima cosa appunto abbiamo visto come il pubblico in particolare gli studenti e i docenti e i giovani delle scuole vedono gli scienziati e sono emerse delle relazioni interessanti che stabiliscono forse questo può essere interessante per la sessione precedente ma anche per questa un legame privilegiato in effetti con il mondo della ricerca quindi sia il mondo scientifico che abbiamo esplorato sia il mondo della scuola in effetti si considerano appunto diciamo soggetti verso cui incrementare le attività diciamo e soprattutto l'attenzione quindi c'è da un lato il mondo della scuola molto ricco che ha una grande articolazione e nello stesso tempo appunto diciamo raggiunge questo obiettivo dell'incontro con grande fatica concludo qui per dire che come è stato detto più volte l'elemento della ricerca quindi rifarsi degli studi nazionali e internazionali stamattina appunto aveva citato i dati Oxe proprio Sveva sono molto importanti per ripensare e quindi vengo all'altro l'altra parola chiave del nostro lavoro ricerca e sperimentazione ripensare e sperimentare percorsi e modelli di comunicazione che riescono appunto di interazione quindi società scienza più consapevoli che riescono quindi ad essere efficaci ed effettivi mi fermo qui dicendo che appunto in questa sessione avremo le occasioni di scambio tra scienza e società sono tantissime in questa sessione ne vedremo presentate alcune delle più rilevanti ad opera di musei scientifici festival della scienza e altri soggetti culturali si tratta di esperienze che dimostrano qualora fosse ancora necessario è stato detto più volte che in realtà il riscontro del pubblico è altissimo e allora viene da chiedersi da dove viene questa forza questo successo a quale domanda della società hanno dato risposta a quale quale voto queste sono ovviamente le sollecitazioni che io lancio a questa diciamo ai relatori di questa sessione e quali sono gli elementi tra tutti ovviamente più importanti di questa riuscita io provo ad elencarli alcuni possibili ovviamente saranno diversi a seconda delle esperienze che qui vengono citate il rapporto con il territorio la città dove si svolgono queste iniziative la collaborazione con altri soggetti come il mondo della scuola il mondo della ricerca o dell'editoria o dei media le amministrazioni pubbliche le imprese o la politica cioè quindi cosa rende possibile il perdurare di tante di tali iniziative alcune di queste hanno veramente al proprio attivo un numero di anni in cui si incrementa diciamo l'attenzione del riscontro quindi e sono diventati dei punti di riferimento anche qui la professionalità il volontarismo e poi cercheremo di capire cosa manca cosa visto che uno degli obiettivi di questo convegno è anche di formulare diciamo indicazioni operative e quindi di rivolgersi a quegli attori che speriamo non siano proprio del tutto assenti diciamo i decisori politici il ministero eccetera cosa manca cosa chiedono alle istituzioni perché non si tratti solo di sforzi di singoli soggetti ma di una formula culturale che funzioni quindi io direi diciamo ovviamente non è la sede questa per dare la riuscire a rendere la ricchezza delle iniziative che verranno presentate diciamo in questa sessione peraltro ripeto c'è un ci sono degli stand che daranno maggiore spazio però chiedo quindi diciamo che i discorsi che ciascun relatore faccia possano avere questi due binari quindi quali sono gli elementi che hanno decretato la riuscita e quindi quali le criticità e quali infine queste indicazioni operative vi ringrazio io direi che manterrei più o meno l'ordine diciamo del programma semmai l'unica cosa che potrei fare che visto che ci sono delle esperienze in ambito diciamo appunto scientifico e festival della scienza potremmo proseguire seguendo l'esempio della mia collega che mi ha preceduto prima con lui con appunto con la fondazione città della scienza poi con il festival con Luigi Amodio con Manuela Rata poi potremmo appunto far parlare Maria Santudachi del museo Leonardo da Vinci di Milano e poi invece passare a quell'altra mi sembra abbastanza diviso a quell'altra parte che sono più altri tipi di soggetti che appunto presentano le loro iniziative quindi inizierei con Luigi Amodio di fondazione IDIS di città della scienza e niente che è appunto direttore e ideatore della sua origine se non sbaglio del Science Center di Napoli che ha decisamente affrontato una grande sfida perché si è andato a sorgere proprio in un'area industriale in dismissione proprio negli anni 90 quindi a te la parola Regi allora grazie Alba grazie chiaramente ad Antonello Villa per l'invito e anche per la bella mattinata che c'è stata fino e qui chiaramente come dire il mio intervento è un intervento che avviene in un momento non normale per come dire per usare per usare un aggettivo familiare perché chiaramente noi siamo segnati da quello che ci è successo nei mesi scorsi e che diciamo adesso è come dire stiamo vivendo una sorta di fase di elaborazione di quello che di quello che è avvenuto e proprio in occasione di questo di questo incontro di oggi come dire ho cercato anche di riflettere in qualche modo sulla su questi mesi che abbiamo che abbiamo attraversato e come appunto rispondere alle domande che Alba che Alba che Alba faceva e su cui appunto abbiamo discusso discusso in queste in questi in questi mesi perché appunto insomma tutti sapete quello quello che ci è successo è stato un fatto importante credo ci ha insegnato varie ci ha insegnato varie cose che tenterò velocemente di esporre a partire appunto dal al sentirsi in qualche modo centrali rispetto a una a una comunità questa è una cosa che io diciamo voglio trasmettere a tutti i colleghi che lavorano nei musei nelle istituzioni culturali eccetera eccetera perché molte volte appunto noi tendiamo a sentirci magari trascurati a vivere tutta la parte difficile del nostro lavoro la mancanza di risorse le difficoltà la lotta con le istituzioni e così via discorrendo beh io credo che la lezione più importante che noi abbiamo tratto dall'incendio del 4 marzo sia stata proprio quella noi siamo importanti siamo maledettamente importanti per la comunità in cui noi stiamo e non solo per la comunità perché poi appunto gli attestati di amicizia qui solo diciamo agorascienza di Torino sono stati probabilmente i primi bergamoscienza che mi dispiace oggi non sono a questo tavolo gli ultimi ma dalla comunità appunto dei musei della scienza sia nazionale che internazionale ad esempio è venuto un sostegno molto molto forte e molto importante è quello che ci ha consentito di come dire di continuare a lavorare dal giorno dopo dal giorno dopo l'incendio queste sono alcune delle foto fatte dai colleghi dei vari musei della scienza d'Europa giù c'è Nemo di Amsterdam sopra c'è il parco della scienza di Granada il CCST di Grenoble e questi appunto sono solo alcuni di quelli che hanno come dire interpretato anche in maniera interessante quello che era successo Gago Mariano Gago che è l'ex ministro della ricerca portoghese un fisico una bellissima testa dice non vorremmo in questo momento dell'Europa che questa sia in qualche modo la forma che prende il futuro del nostro continente no? Probabilmente anche come dire risentendo di quello che è un clima che nei paesi dell'Europa meridionale si sente si sente quindi che quell'incendio che quell'evento sia in qualche modo la forma appunto del futuro dell'Europa e poi c'è stata chiaramente anche come dire il senso della rilevanza che ti viene per esempio dal il tema di Ciro che ha colto in maniera a mio avviso e non lo dico diciamo andatevelo a leggere è un ragazzino di nove anni che poi è venuto a trovarci eccetera e lui coglie in maniera lucidissima il nesso tra diciamo sviluppo cultura e come dire benessere diffuso lo coglie molto meglio di tantissimi nostri amministratori questo è un dato di fatto ha capito tutto perfettamente e lui appunto è stato una delle persone che ci ha che ci ha che ci è stato vicino che ci è stato vicino così come per esempio il pizzaiuolo che ha perduto la propria pizzeria in un incendio in un incendio doloso e questo appunto il giorno dopo che il foglio pubblicava un articolo in cui si diceva sostanzialmente che forse città della scienza come altre istituzioni scientifiche andava distrutta prima perché era comunque un luogo di idee diciamo di idee pericolose e diciamo chiaramente l'ironia dei napoletani poi ci ha aggiunto il suo ma ecco questi sono secondo me tutti i segni di come appunto la rilevanza di un'istituzione possa poi no? farsi sentire in un momento di in un momento di di difficoltà e chiaramente diciamo incendiare come dire le istituzioni culturali non è il modo migliore per provocare diciamo movimenti ma questo è stato diciamo un movimento della città questa fu una manifestazione di 15.000 persone la domenica dopo la domenica dopo l'incendio proprio a testimoniare in qualche modo il bisogno di come dire opporsi a quello che era stato un evento e secondo me questo non è semplicemente un fatto come dire un evento legato alla legato all'orrore per l'attentato perché poi appunto non è l'unico che è successo a Napoli c'è stato il palazzo di giustizia c'è stato lo sferisterio c'è una storia diciamo di eventi del genere ma questa volta le persone sono anche si sono mobilitate perché no? è stata distrutta un'istituzione è stata danneggiata fortemente un'istituzione culturale e quindi questo secondo me è un fatto che risponde alcune delle cose che già stamattina venivano dette a proposito del bisogno delle persone poi di partecipare a quelle che sono le nostre le nostre attività ora noi dobbiamo noi musei noi istituzioni eccetera dobbiamo sicuramente adattarci a questo momento perché prima diceva Alba diceva di che cosa c'è bisogno ma intanto c'è bisogno di certezza delle poche risorse che ci vengono date questo io lo voglio dire noi abbiamo difficoltà a programmare le nostre attività abbiamo visto a proposito di legge 6.2000 che è quella che finanzia questo convegno abbiamo visto le risorse del 2012 quindi quelle che diciamo noi rendicontiamo il 31 dicembre 2012 ce le siamo viste assegnare qualche settimana fa no? Questo dà l'idea di come si arranchi poi nella programmazione di come non si programmi diciamo o almeno si programmi in maniera fantasiosa e così via e ci dobbiamo adattare a uno scenario che cambia e poiché io sto lavorando adesso proprio al piano di ricostruzione al piano di diciamo di riprogettazione dei contenuti del nuovo Science Center sperando appunto di riuscire a farlo in pochi anni volevo appunto proprio con tre cose dire le linee su cui ci stiamo muovendo la prima linea lo dicevano molti è il dubbio noi non possiamo più presentare un'immagine della scienza pacificata dobbiamo necessariamente mettere in scena quelle che sono le contraddizioni quelli che sono i punti oscuri quelli che sono le ombre oltre che le luci credo che sia un dovere nei confronti proprio intellettuali nei confronti dei nostri nei confronti dei nostri visitatori e questa è una linea la seconda linea è la partecipazione perché e qui io vorrei vorrei sottolineare un fatto non è più solo il problema di far partecipare i nostri visitatori al dibattito sui hot topics oppure sui temi di frontiera eccetera no i nostri visitatori vogliono intervenire questa appunto è una ragazzina che dopo l'incendio ha detto io la città della scienza la vorrei così un'altra ragazzina di nove anni deve essere una buona annata quella di nove anni fa e lei appunto dice io voglio che sia così cioè i nostri visitatori vogliono intervenire all'interno di quelli che sono anche i processi tra virgolette decisionali su quello che noi facciamo all'interno dei musei e questo è un'altra diciamo è un altro aspetto è un altro aspetto a mio avviso importante terza cosa c'è un grande recupero delle mani noi proprio in questi giorni noi stiamo facendo una manifestazione dedicata ai docenti ha avuto un grandissimo successo e quello che stiamo vedendo è che c'è un recupero da parte dei ragazzi della appunto della manualità legata chiaramente alle nuove tecnologie i makers hanno fatto la fiera a Roma qualche giorno fa ed è stato un grande successo i fab lab diciamo si diffondono questo secondo me è un altro degli elementi che non può non mancare nei musei del del futuro noi vabbè siamo per ripartire appunto da tra un mesetto con la nostra con la nostra manifestazione futuro remoto riaprono anche degli spazi ultima cosa questo è come noi pensiamo che debba essere il museo diciamo ricostruito con un dialogo che prima era interrotto diciamo con la spiaggia quindi anche simbolicamente ricostruire proprio un rapporto con il territorio che probabilmente è uno diciamo dei problemi di alcune delle istituzioni delle nostre istituzioni cioè noi tendiamo a volte a chiuderci credo che la lezione che noi abbiamo avuto la lezione principale che abbiamo avuto da questa brutta storia che abbiamo vissuto e che invece dobbiamo aprirci dobbiamo aprire le nostre istituzioni fisicamente come dire mentalmente culturalmente e anche proprio nell'elaborazione di quelle che sono le nostre attività grazie per l'attenzione grazie Luigi direi che insomma effettivamente questo discorso di essere che in questo momento drammatico avete avuto un riscontro di essere centrali in una città come Napoli forse è una cosa ancora più la rende ancora più interessante lascio la parola adesso a Manuela Rata che molti di voi conoscono è presidente fondatrice del festival città della scienza più noto come il festival della scienza è componente dello European Research Innovation Advisory Board ed è stata anche al CNR come nell'ufficio di trasferimento a diretto dell'ufficio di trasferimento tecnologico non approfitto per dire magari qualcosa altro di Manuela delle sue note che nel 2013 ha ricevuto dalla municipalità di Shanghai il Magnolia Silver Award che è un riconoscimento dato a cittadini stranieri che riconoscono contribuiscono in modo significativo allo sviluppo dell'economia del business e delle relazioni internazionali quindi forse il suo intervento avrei anche a fare anche con questo grazie Manuela allora grazie molto di avermi invitata è stato un invito molto gradito io ho solo quattro slide perché dovete vedere il festival se non lo avete ancora visto dovete viverlo quindi vi racconto solo un po' di dati sintetici che servono a fare due ragionamenti compiamo dieci anni quest'anno è una Kermesh che ha tutti i tipi di modi di presentare la scienza devo dire prevalentemente a partire dai fatti di tutti i giorni quindi effettivamente l'approccio del svelare la scienza che c'è dietro alle cose con le quali interagiamo tutti i giorni ha grande successo e quello che tutti riconoscono a livello internazionale appunto ho avuto questo grandissimo onore a Shanghai che è una città di 26 milioni di abitanti premiasse la presidente del festival della città dei 600 mila è abbastanza strano però ci riconoscono tutti il fatto che è un caso unico al mondo cioè una città invasa dalla scienza innamorata della scienza e questo si percepisce camminando per la strada questi sono i numeri fino ad oggi abbiamo vi dico quali sono i più significativi a me piacciono i 5271 animatori scientifici la scienza è spiegata dai ragazzi sono studenti delle materie scientifiche ma anche no perché quelli che non sono di materie scientifiche le usiamo per fare cose organizzative quest'anno abbiamo 130 ragazzi dei progetti scuola lavoro orientamento sono felicissimi e questo è un discorso profondo ecco in 8 minuti non riesco a farvi tutti i ragionamenti e le cose di passione che vorrei dirvi questi 5.000 vengono da tutta l'Italia vengono anche da altre parti del mondo perché spiegare la scienza e fare l'esperienza al festival della scienza è un'esperienza pagata perché abbiamo voluto che il lavoro dei giovani fosse riconosciuto e non fosse come sempre considerato stupidamente volontariato però questi ragazzi imparano a spiegare la scienza cioè il lavoro che noi stiamo facendo è cercare di creare una nuova generazione di ricercatori che abbiano il DNA la capacità di trasferire la nuova conoscenza e abbiamo anche una scuola specialistica poi se c'è tempo nelle domande magari ve lo dico per cercare di fare questa cosa in maniera anche strutturata però questi 5.000 sono diventati molti sono diventati progettisti di eventi e di iniziative e capaci di farlo molti si sono indirezzati verso la carriera della ricerca e quindi è stato un lavoro di promozione di una nuova mentalità nel mondo della ricerca come vedete i numeri sono grossissimi abbiamo avuto più di 2.000 visite noi contiamo le visite perché non vendiamo biglietti individuali e quindi dobbiamo contare gli accessi se non vendiamo abbonamenti un altro elemento importante è stato far pagare perché noi diamo un'offerta culturale e le cose scientifiche gratuite ovviamente vanno a finire sotto classe se i genitori sono disposti a pagare 7-8 euro per mandare i figli al cinema dove vedono anche spessissimo delle gran boiate devono tirare fuori i soldi per mandarli a fruire di un'offerta culturale di alta qualità scientifica questo dà valore grandissimo impatto sulla stampa credo che abbiamo avuto anche un ruolo nel cambiare un po' l'atteggiamento di molta della stampa perché dai buchi neri antimateria sono passati a parlare anche di cose un pochino più vicine e non avere sempre la scienza presente sui media come una cosa esoterica che è un errore è un errore marchiano quello di passare sempre per strani questo è interessante il budget allora il budget del festival è costituito per il 70% da fondi privati fundraising da aziende fondazioni bancarie solo meno del 30% viene da un po' dal ministero e dagli enti locali come vedete c'è stata una bella botta dovuta alla crisi ma a questo calo del budget non è corrisposta ma anzi c'è stata una cosa contraria di crescita degli eventi della partecipazione perché il festival è una cosa inclusiva noi ogni anno facciamo una call for proposal come si fa nel mondo scientifico e devo dire è diventato un patrimonio della della comunità scientifica ma non solo nazionale devo dire anche internazionale dice questa cosa ho fatto bella la devo portare al festival della scienza quindi se una volta per avere ospiti dei gruppi dovevamo sempre dare un contributo economico adesso che diciamo non ce l'abbiamo ti diamo solo gli spazi e l'animazione vengono lo stesso quindi quali sono stati a mio parere alcuni elementi di successo del successo che ha stupito anche noi a me non tantissimo perché io avevo fatto il paragiocando che era una mostra interattiva per i ragazzini nel 1996 e aveva fatto 17.000 visitatori in 10 giorni quindi è una roba pazzesca e quando io ho detto ma adesso facciamo il festival della scienza tutti mi dicono ma ci fai di nuovo giocare quindi c'era una voglia penso che il primo successo l'hanno decretato sicuramente i genovesi e questo si è legato alla storia della città che dal 93 in poi ha visto chiudere la maggior parte delle fabbriche tra l'altro ad alto contenuto tecnologico perché Genova è stata una città di elettronica di turbine energia trasporti eccetera quindi noi avevamo una classe operaia molto qualificata dal punto di vista tecnico quindi c'era una tendenza ad accettare bene il discorso scientifico quando sono chiuse le fabbriche il messaggio è stato ti mando a casa in casa integrazione o in mobilità perché sta arrivando l'economia della conoscenza la gente aveva un punto interrogativo enorme e non capiva allora fatto di aver preso tutti questi ragazzi averli pagati e averli lanciati verso una progettazione culturale importante ha dato alla città evidentemente un segnale molto positivo e la risposta quindi è stata molto grande questo si è riverberato poi a livello internazionale appunto noi adesso abbiamo dei legami a noi italiani riconosciuto di saper fare bene le cose l'ultima cosa che voglio dire ed è importante perché festival io avevo la consapevolezza che noi siamo un paese che ha una scarsa capacità di investimento e quando riusciamo ad investire poi non abbiamo i soldi per mantenere allora abbiamo preferito una formula che potesse essere più flessibile dal punto di vista economico e che facesse però il botto siamo molto vicini alla vicenda di città della scienza che è stata un nostro modello con futuro remoto come abbiamo copiato però mi ha stupito positivamente la reazione che c'è stata non solo a Napoli ma in tutto il nostro mondo e non solo scientifico di fronte a questo orribile fatto cioè c'è stata una reazione leonina adesso ti aspettiamo al festival a raccontarlo così atteniamo sempre attesa l'attenzione su questo argomento grazie molto quest'anno il titolo è bellezza nulla può rappresentare bene la bellezza come questa raganella che è anche molto evocativa e vi segnalo che abbiamo la Corea Paese ospite ci sarà il professor Choi che è l'ispiratore della riforma educativa coreana che oggi è considerata la migliore al mondo quindi se qualcuno è interessato a venire ci sarà un incontro anche con gli insegnanti e i dirigenti scolastici grazie grazie a proposito della comunità di pratiche di cui si parlava prima forse diciamo tutto questo bagaglio di esperienze potrebbe concluire in questa comunità di pratiche appunto di cui si ho parlato prima darei la parola a questo punto rimanendo sempre nell'ambito dei musei scientivi vi scuso perché prima giustamente ha detto Luigi che appunto introna non sarebbe potuto venire Martino introna di Bergamo Scienza perché abbiamo avuto i problemi peraltro proprio in questi giorni c'è Bergamo Scienza quindi mi scuso che non l'ho detto già io prima Maria Xanthudaki dunque è il direttore dell'education e del CREI che è il centro di ricerca per l'educazione informale del Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano quindi iniziamo a parlare anche un po' di Milano ecco buongiorno allora la prima foto che vi faccio vedere l'ho trovata nei mesi scorsi durante una ricerca che stavo facendo negli archivi del museo per scrivere un articolo sui 60 anni dei servizi educativi noi quest'anno compiamo 60 anni come vedrete li portiamo molto bene però vi volevo far vedere questa foto prima di tutto per farvi notare due cose non solo la differenza nell'abbigliamento dei ragazzi che sono in visita nel museo nel 53 e nel 2013 ma anche al fatto che fin dall'inizio il museo della scienza ha avuto come sua missione l'educazione il nostro fondatore ingegner Guido Uccelli ha detto che il museo deve raccontare l'industria la scienza della tecnologia italiana e deve formare le giovani generazioni oggi siamo questi solo due dati per inquadrare un pochino dove ci troviamo quindi vi faccio notare solo due cose i nostri 15.000 oggetti nelle collezioni tanti di quali sono esposti nelle nostre esposizioni di 25.000 metri quadri nel totale i 13 laboratori interattivi che sono questi spazi attivi fiore all'occhiello almeno per noi all'interno dei quali invitiamo i nostri visitatori a conoscere la scienza a essere partecipi nella scienza a diventare critici verso le domande scientifiche e poi i 200 progetti e programmi educativi che noi sviluppiamo e rivolgiamo a pubblici diversi poi di questi progetti ne parliamo più avanti vi faccio anche vedere alcune immagini quasi senza commento per dare un'impressione di come è il museo oggi e della diversità delle attività che svolge per poi andare a commentare e a rispondere alla prima domanda di Alba che qual è il nostro elemento innovativo il museo dai da dieci anni da quando è diventato fondazione è in continuo rinnovo quindi qui un esempio di una delle sezioni inaugurate dedicata all'acciaio più recentemente i nostri laboratori interattivi spazi di esperienza la formazione degli insegnanti che cresce diventa sempre più strutturata specialmente dal 2009 quando è nato il nostro centro di ricerca per l'educazione informale la formazione degli operatori dei musei che è una cosa più recente che però a cui noi teniamo tantissimo siamo tanti musei sul territorio italiano siamo colleghi facciamo cose molto simili ci rivolgiamo alla società e quindi creare momenti di confronto se volete momenti anche sociali dove ci guardiamo negli occhi trascorriamo delle giornate insieme facciamo delle cose anche pratiche e riflettiamo sul nostro lavoro è una cosa molto importante perché solo attraverso la nostra formazione la nostra riflessione riusciamo a crescere e riusciamo a dare un contributo migliore confronto con la comunità scientifica anche questo è una cosa un filone diciamo di sviluppo un filone di attività che abbiamo intrapreso specialmente con il nostro laboratorio di ricerca dell'università degli studi di Milano dedicato alle nanotecnologie che ci ha aperto un mondo e questo mondo è quello prima di tutto della formazione dei ricercatori a comunicare il loro lavoro cosa mica tanto facile come ci hanno detto loro stessi un mondo di confronto diretto fra visitatori e ricercatori che sono liberi a chiedere tutte le domande che gli vengono in mente e il museo in questo caso diventa il mediatore di questo dialogo le nodi di ricercatori noi dall'anno scorso abbiamo cominciato ad avere questo evento l'anno scorso 6.000 visitatori quest'anno 9.000 visitatori con grandissimi e bellissimi eventi in cui abbiamo avuto l'opportunità di mettere i due se volete a confronto e anche in un contesto molto informale e ultima questa è una foto dal nostro compleanno di 60 anni per dare uno stimolo per dire che vogliamo integrare anche la scienza dentro il nostro discorso il patrimonio è un elemento molto importante ma un messaggio che vorrei lanciare è che il museo è per tutti deve essere per tutti quindi deve creare le condizioni affinché ogni persona trova nel museo un momento piacevole un'esperienza bella da portare a casa per sempre e ovviamente una esperienza che gli fa fare un pochino la differenza con il suo rapporto con scienza e tecnologia che è il nostro primo obiettivo allora come riusciamo a fare queste cose abbiamo riflettuto al museo con i colleghi partendo dalla domanda di oggi e qui ho sintetizzato quelli che credo siano gli elementi condivisi sui quali si basa l'innovazione del museo allora prima di tutto una riflessione continua su cosa fanno i nostri visitatori chi sono i nostri visitatori come apprendono come costruiscono la loro esperienza e quindi cosa possiamo fare noi come museo con le nostre esposizioni con i nostri laboratori con i nostri incontri per incoraggiare questa esperienza per fargli diventare più critici più competenti più sicuri di sé quindi non avere paura di avere un'opinione critica verso la scienza e voler entrare dentro e fare le cose pensare le cose con le loro capacità il nostro staff di 110 persone è tutto parte permanente dell'istituzione e questo devo dire è un asset molto importante e se lo vedete in combinazione col terzo elemento di innovazione processi di progettizzazione organizzazione vuol dire che noi siamo cambiati negli anni nel nostro modo organizzativo e stiamo ora prevalentemente funzionando a progetti allora il progetto in questo senso in questo caso è inteso come un processo con un inizio una metà una fine con un gruppo di lavoro collegato con un obiettivo che deve essere raggiunto con un budget e dietro a tutto questo con identificato un bisogno da andare a soddisfare che diventa un beneficio culturale per la società e ovviamente diventa anche un beneficio economico per noi vorrei ricordare qua che noi abbiamo un 75% del nostro bilancio finanziato attraverso finanziamenti privati mentre solo il 25% è un finanziamento pubblico quindi mentre noi pensiamo alla società pensiamo alla nostra missione pensiamo al rinnovo del nostro museo dobbiamo anche fare i conti con la sopravvivenza quindi facendo lavorando con una mentalità di progetto riusciamo a prima di tutto coinvolgere le expertise interne che servono ogni volta per portare questo progetto alla fine alla conclusione e questo vuol dire dagli educatori agli allestitori ai grafici ai comunicatori alle persone del web e tutte quelle professionalità che abbiamo coinvolto nella trasformazione del museo dieci anni fa e che riteniamo sono oggi le professioni museali indispensabili quanto tempo bene allora finisco dicendovi che il resto delle cose le potete leggere qui nel resto della slide sono ovviamente a vostra disposizione dopo se avete domande vi lascio anche il mio recapito così ci venite a trovare seguite sul twitter che è un canale che io ho deciso di aggiungere perché credo è un canale di discussione e di riflessione molto interessante e vi ringrazio grazie Maria Santudaki grazie mille io mentre chiedo a Michele Catti appunto di diciamo iniziare a prepararsi volevo solo aggiungere una cosa che mi ha incuriosito del discorso sul confronto con la comunità scientifica uno dei dati che appunto sono emersi in una delle indagini che abbiamo fatto a proposito di come comunicano gli scienziati è emerso che quando collaborano con delle istituzioni quindi non solo scientifiche ma culturali come e di diffusione della cultura scientifica come un museo emerge diciamo della loro narrazione della scienza l'elemento dell'esperienza del perché si sono avvicinati a quella disciplina la passione quindi diciamo si mettono in moto tutta una serie di come dire di risorse che generalmente nella comunicazione classica della scienza invece sono un poco sacrificate Michele Catti che è il prossimo relatore ordinario di chimica fisica presso il dipartimento di scienza dei materiali dell'università Milano Bicocca fin dalla sua fondazione e presidente del corso di laurea di scienza dei materiali dell'università Bicocca ed è qui a parlarci appunto del progetto lauree scientifiche non so però se sono già pronti sì ok grazie allora buongiorno a tutti vi parlerò brevemente di che cos'è questo piano di lauree scientifiche in realtà il piano di lauree scientifiche nacque nel 2005 con nome di progetto di lauree scientifiche e una delle cause principali che diede all'origine a questo progetto come noto era il calo molto forte che c'era stato all'inizio del 2000 negli iscritti ai corsi laurea in matematica fisica e chimica di queste scienze dure non solo in tutte le università italiane poi questa situazione fortunatamente è cambiata non oso pensare che sia dovuta esclusivamente ai risultati del piano di lauree scientifiche è dovuta a molte cause fortunatamente e quindi questa motivazione del piano si è un pochino attenuata e sono entrate in maggiore rilievo le altre che sono di più lunga durata e che sono poi essenzialmente sono legate a quello che è l'obiettivo principale del piano orientamento degli studenti e formazione degli insegnanti per quanto riguarda le materie scientifiche quindi questi sono gli obiettivi del piano quindi orientare e indirizzare gli studenti della scuola media superiore verso l'interesse nei confronti delle materie scientifiche e contemporaneamente migliorare la formazione dei loro insegnanti attraverso uno strumento comune di lavoro che è il laboratorio PLS quindi centrale punto centrale dell'attività del piano di varie scientifiche è quello di indirizzare il lavoro congiunto di studenti e insegnanti attraverso il laboratorio partecipato che è una forma di didattica fondamentale per attirare gli interessi dei studenti abbiamo visto il laboratorio partecipato vuol dire che gli studenti sono primi attori nelle esecuzioni di sperimentazioni relative agli argomenti scientifici che loro devono toccare e abbiamo visto come poi metterò in rilievo anche più avanti che questa modalità è veramente si è arrivata allo strumento essenziale per attirare l'intenzione degli studenti orientali verso la scienza lo studente diciamo di fida verso l'esposizione così cattedratica tradizionale della materia scientifica che spesso trova ostica o dura mentre invece quando lo si fa intervenire direttamente in una sperimentazione di laboratorio questo fa poi nascere spontaneamente delle domande lui fa delle cose ottiene dei risultati e a questo punto si chiede il perché e a questo punto allora si informa va a chiedere ed è più facile che si interessi anche alla parte quello che sta dietro e quindi diciamo a penetrare un po' in quelli che sembravano i misteri della scienza allora questo piano l'area scientifica quindi si è articolato in tre edizioni è partito nel 2005 e attualmente sta terminando la terza edizione nella prima edizione si chiama progetto nella seconda e terza si chiama piano sono cambiate alcune caratteristiche ma qui non ho modo di entrare in questi dettagli si articola in quattro aree disciplinari che sono la matematica e la statistica fisica chimica e scienze materiali scienze materiali un po' a cavallo tra la chimica e la fisica dello stato solido e ha la caratteristica di essere molto orientata alle applicazioni tecnologiche un altro punto che abbiamo visto nell'esecuzione di questi laboratori è che lo studente è molto interessato a vedere quali sono poi le applicazioni tecnologiche diciamo dei principi scientifici che lui impara o su cui sperimenta e a questo proposito uno dei punti chiave del progetto è stato anche il collegamento con poi gli sbocchi il mondo del lavoro cioè vedete che compare anche la collaborazione di Confindustria in questo progetto noi vogliamo che lo studente avvicinandosi alla scienza si renda anche conto di quali sono poi le prospettive di sbocco di lavoro se lui intraprenderà una carriera scientifica questo diciamo è un punto fondamentale che lega anche in modo importante la scienza alla società in cui ci troviamo a vivere e operare qui ho messo una tabella che dà un'idea un po' quantitativa dell'entità del progetto cioè ho messo i valori medi per anno del numero di sedi universitarie che partecipano al progetto per ciascuna delle quattro discipline vedete che sono numeri di tutto rispetto cioè per la matematica la fisica e la chimica direi che sono l'80-90% delle sedi universitari che partecipano la scienza di materiali naturalmente è più ridotta a un'entità che è circa un terzo di ciascuna delle discipline più importanti vedete il numero delle scuole sul numero di università non ho messo i totali perché naturalmente ci sono delle sovrapposizioni la stessa scuola può partecipare ai progetti quindi il totale non avrebbe avuto molto senso vedete il numero degli insegnanti il numero degli insegnanti corrisponde più o meno a uno per scuola perché in genere diverse scuole partecipano al progetto ciascuna è meglio con un insegnante e il numero di studenti che hanno partecipato solo ai laboratori il totale è molto più elevato perché oltre al laboratorio in senso stretto ci sono anche altre attività ma dato che il laboratorio è l'attività principale ho ottenuto opportuno mettere solo il numero di studenti al laboratorio vedete che c'è un rapporto circa 10 a 1 rispetto agli insegnanti cioè in genere un insegnante porta 10 studenti nel laboratorio qui c'è anche uno schema che mostra il numero di personale di diversi tipi che ha partecipato al progetto vedete che in generale gli insegnanti della scuola coprono da un terzo a metà del numero dei partecipanti e sono una maggioranza relativa dopo viene il personale dell'università e dopo altro personale accessorio veniamo dunque quindi traendo le conclusioni i punti forti di importanza e dei risultati che abbiamo ottenuto riguardano prima di tutto l'interazione molto approfondita tra il lavoro dei docenti universitari e degli insegnanti della scuola che ricordo hanno collaborato insieme a organizzare i laboratori cioè ciascun laboratorio è stato progettato coprogettato dal personale universitario e dal personale della scuola quindi questo è stato uno dei non frequenti momenti in cui i due tipi di docenza si sono incontrati insieme per collaborare il secondo punto importante è la risposta estremamente positiva degli studenti di fronte al carattere partecipativo operativo del laboratorio cioè al fatto che loro intervenissero direttamente nel realizzare delle esperienze e quindi arrivassero a porsi le domande sugli aspetti scientifici partendo dall'imperia dall'esperienza che è il modo a cui che dovrebbe essere il modo canonico con cui funziona la scienza terzo punto sono state attuate forme interessanti di valutazione e autovalutazione del lavoro fatto attraverso una serie di strumenti quali questionari relazioni scritte presentazioni eccetera punti critici punti critici ci sono essenzialmente due il primo è che in realtà abbiamo visto che gli insegnanti che partecipano a questo questo progetto non tendono molto a rinnovarsi cioè tendono sempre a essere più o meno gli stessi cioè sono quelli più motivati quelli più interessati ma questo non basta cioè noi vorremmo che il progetto si ampliasse si estendesse anche ad altri ed è difficile motivare una platea più ampia di insegnanti soltanto con la passione e con interesse culturale e personale ci vuole altro cioè ci vogliono delle incentivazioni soprattutto di carriera più che economiche di carriera cioè bisogna che queste attività vengano riconosciute in qualche modo e poi l'altro punto un pochino dolente è quello che questi progetti non hanno una continuità organizzativa stabilita cioè ogni anno ogni biennio bisogna ricontrattare quel ministero tutto quanto non si sa se vengono dati i finanziamenti diciamo c'è questa carenza di continuità che è molto sofferta soprattutto dagli insegnanti stessi i quali non sanno se il lavoro che fanno poi diciamo ha una durata delle prospettive o meno e poi anche il fatto che in realtà questo progetto copre tutta la penisola ma le realtà territoriali sono molto diverse e quindi anche gli esiti sono molto positivi in certe zone e in altre invece sono molto meno per motivi sui quali noi non possiamo direttamente intervenire bene grazie ringrazio ancora per questo intervento chiedo a Pietro Danise di prego a Pietro Danise di intervenire mi sono assestato va bene va benissimo dunque ricordo che Pietro è un insegnante che ha cominciato come ricercatore quindi conosce un po' tutti e due i mondi voglio anche ricordare che ai tempi in cui abbiamo fatto appunto ethics and polemics Pietro era insegnante di una scuola media l'unica media che ha partecipato a questo progetto gli altri erano tutti istituti licei scientifici comunque l'unica media e devo dire è stato di rinascita ecco quindi ti do la parola incoscienti vuol dire l'avventura famosa allora intanto ringrazio Antonello Villa perché ha avuto il coraggio di mettere Scienza Under 18 assieme ai giganti della comunicazione scientifica italiana e allora io mi sono domandato come mai e allora parto cercando di anche di capire di spiegare quello che non è Scienza Under 18 oltre a quello che è prima di tutto la prima cosa che vorrei dire è che Scienza Under 18 non è un progetto sulla divulgazione scientifica non è un progetto sulla diffusione della cultura scientifica Scienza Under 18 è un progetto sull'educazione scientifica che ha come oggetto l'educazione scientifica che utilizza la comunicazione scientifica come volano di apprendimento per gli studenti quindi è in una situazione fortunata nel senso che può utilizzare o comunque utilizza e vuole utilizzare tutti quelli che sono gli studi sulla diffusione scientifica che appunto ho fatto da esperti per portarla in qualche modo a scuola per costruire un progetto di scuola io questo notavo intanto che mi sedevo qui che a parte i 50 anni portati bene dal museo della scienza e della tecnologia 60 portati bene in realtà Scienza Under 18 nel suo piccolissimo è il più vecchio progetto che sede in questo tavolo quindi in qualche modo mi sono detto forse non siamo assolutamente delle dimensioni narrate prima cioè siamo incommensurabili eppure forse allora qualche cosa qualche cosa all'interno di questo progetto c'è stato adesso cercherò di spiegare ma credo che molti di voi conoscano Scienza Under 18 nonostante la mia tengo basso perché comunque con molti di voi abbiamo avuto già contatti diciamo in sintesi in estrema sintesi che Scienza Under 18 è un progetto sull'educazione scientifica che ha due moduli collegati tra loro il primo modulo si svolge in classe la costruzione del progetto quindi che si serve anche di tutti come dicevo prima di tutti gli stimoli che possono venire dall'educazione scientifica informale diciamo così quindi di musei cioè può servirsi di qualsiasi cosa però il progetto diciamo lì comincia non finisce perché spesso i progetti che hanno anche attori della divulgazione scientifica poi finiscono con a volte a volte con anche performance degli studenti ma spesso finiscono con le interrogazioni con le verifiche no? in realtà noi lì invece partiamo per il secondo modulo nel senso che si aggiunge già subito un progetto sulla comunicazione scientifica in questi anni li abbiamo analizzati tutti quelli che abbiamo visto e che abbiamo potuto quindi noi abbiamo sezioni di exhibit abbiamo sezioni di fotografia scientifica abbiamo sezioni di teatro scientifico ne abbiamo veramente analizzati tanti tra cui anche il convegno a cui Alba prima faceva riferimento per portare fuori gli studenti in una grande manifestazione cittadina generalmente cittadina ma può essere anche estesa alla provincia in cui gli studenti diventano protagonisti della comunicazione scientifica e allora io qui affermo senza proprio patema Dario qui sta la differenza la differenza la differenza è qui cioè tutti noi lo sappiamo la differenza tra in qualche modo diciamo essere coinvolto in un exhibit anche il più interattivo possibile anche con i salti mortali possibili e essere protagonista di una comunicazione di un exhibit cioè si apre un mondo cioè si sviluppano competenze impensabili anche per noi noi non sapevamo bene cosa stavamo facendo quando siamo partiti l'abbiamo capito piano piano e allora da lì diciamo abbiamo pensato che può essere creato un modello nuovo di scuola quale allora se noi riusciamo a capire che la scuola non è soltanto un contenitore da riempire anche con la più grande divulgazione scientifica lo dico qui perché so che mi capite so che che mi capite anche con la più grande divulgazione scientifica e in qualche modo resta lì abbiamo un modello in testa comunque di scuola come contenitore abbiamo comunque in mente in cui la scuola deve riprodurre un sapere esperto prodotto da altri noi abbiamo un sogno noi abbiamo un sogno di costruire un sapere scientifico della scuola di costruirlo cioè di verificarlo volta per volta attraverso le nostre cose cioè allora qualcuno in qualche convegno mi ha detto ma ma gli ma gli scienziati i miei ragazzi non possono mai diventare scienziati e no certo non sto parlando di questo sto parlando di processi sto parlando di processi che vengono messi in atto che i ragazzi possono fare che i ragazzi sicuramente possono mettere in azione cioè affermare che possa esistere un sapere scientifico della scuola vuol dire pensare e non so dove è andato Pietro Greco che pensare che la scuola è un'isola in cui ci sono due direzioni cioè in cui la scienza entra attraverso gli esperti attraverso la cosa viene rielaborata ed esce sotto un'altra forma che è quella della scuola e che è visibile confrontabile perché e qui è la scoperta noi per dieci anni siamo stati al museo della scienza della tecnica ospiti noi nel nostro piccolo abbiamo capito che non il gioco non sta nella differenza fra educazione formale ed educazione informale che secondo me è una cosa che in qualche modo ha fatto anche danno ma la cosa sta nei processi si lo so finisco subito il problema il problema sta nei processi cognitivi che si instaurano e allora i processi cognitivi che costruiscono i ragazzi quando allestiscono un estibito sono uguali ai processi cognitivi che fa un ricercatore quando ma voi lo sapete e allora finisco soltanto con una dovevo dire tante parole ma poi mi dilungo con una cosa allora io dico noi abbiamo dieci sedi in tutta Italia siamo piccoli se crediamo a questo modello non chiedetemi di parlarne con il ministero non mi capiscono io parlo parlo con voi cioè vogliamo pensare che possa esistere anche all'interno delle vostre ci sono già lo so che ci sono ma costruire un tavolo in cui questo modello venga proposto come modello al ministero eccetera ci aiutate ci aiutiamo a costruire questo modello parlo con città della scienza con festival della scienza con tutti gli altri che sono qui al tavolo io faccio questa proposta è un sogno per noi siamo volontari della didattica grazie grazie mi scuso per il mio ruolo appunto tirallo però lo so benissimo che in pochi minuti non si può esaurire tutte le cose che uno vuole dire e mi immagino e capisco che questo è soltanto un momento di inizio però altro volevo dire solo questa cosa che secondo me questo tuo sogno di fare sì che appunto il sapere scientifico della scuola venga cioè in realtà la scuola già e soprattutto voi siete degli elaborati il sapere scientifico però va bene lascio la fine del tempo lo prendo io lascio la parola al prossimo relatore dunque che dunque sarebbe in programma Sergio Rari dell'associazione Peripato non è presente lui non è potuto venire viene venuto appunto Michele Capuali al quale chiedo per evitare che io sia una tiranna di attenersi per cortesia al tempo che gli abbiamo dato e lascio a lui anche spiegare questa associazione che a pochissimo è molto giovane insomma grazie allora sì io sono sono un sostituto malaticcio anch'io ma il mio presidente è più malato di me quindi abbiamo scelto il male peggiore sono qui a parlarvi brevemente di Peripato che è come recita questa slide un ponte tra la medicina e la cultura come in quest'altra slide si evidenzia il fatto che la relazione tra il paziente e il medico è sostanzialmente un racconto espresso da parti diverse Peripato nasce e si aggrega attorno a questo principio io non sono un medico mi occupo di design dirigo una rivista del nostro settore e mi sento di dire qui come primo punto che è la creazione di reti orizzontali quelle che favorisce la diffusione della cultura scientifica in generale più in generale ma nel caso specifico per un progetto come quello di Peripato ovvero è la relazione la commissione tra saperi diversi competenze diverse che permette di andare avanti di portare avanti la propria missione la propria visione il diritto alla salute la cultura i nostri stili di vita come incide l'ambiente sulla nostra salute cosa si può fare per promuovere una salute e stili di vita più sani e come si può informare su questi temi Peripato nasce è giovanissimo mi spiace dirlo ha un annetto quindi qui si parla più di buona intenzione che di progetti fatti non solo i 60 anni del museo della scienza della tecnica ma ha due caratteristiche Peripato che vorrei portare alla vostra attenzione la prima è certamente il fatto di lavorare su un settore un pochino più specifico che non i colleghi che hanno preceduto negli altri interventi e quindi di essere come dire fortemente verticale sulla relazione molto umanistica che esiste o dovrebbe esistere tra il medico e il paziente L'altra questione e qui vado vado veloce perché se no Alba giustamente ecco allora mi fermo semplicemente su questa slide per introdurre un argomento di carattere più generale come potete vedere il 43,8% dei cittadini o pazienti che oggi cercano assistenza medica lo fanno informandosi su internet questa ed è anche un punto che mi ha abbastanza sorpreso non trovare qui esplicitato soprattutto nella sessione precedente è la relazione che esiste tra la divulgazione scientifica e i nuovi migliori di questo mi occupo per cui non essendo medico mi permette di parlare d'altro allora qui ci sono in aula alcuni studenti pochi perché forse li abbiamo un po' annoiati ne sono rimasti pochi ma io sono certo che ciascuno di quei pochi sa molto più di quanto so io non in termini di contenuti specifici ma in termini di modalità di comunicazione questa cosa è la rivoluzione vera che è avvenuta nel mondo della formazione oggi cioè qualunque studente a qualunque livello sta in aula ne sa di più presumibilmente di chi sta in cattedra ripeto non sulla questione sull'aspetto specifico ma sulle modalità di trasmissione della comunicazione rispetto a quel dato argomento questa novità che poi la novità parlando fuori di metafora è la novità dei social media o delle maniere di comunicare introduce un concetto fondamentale che fino a dieci anni fa non esisteva ovvero quella della comunicazione peer to peer ciascuno di noi soprattutto chi sta di là della cattedra è come dire è ansioso di comunicare in un sistema di comunicazione tra individui allo stesso livello cioè di portare il proprio contributo in una discussione più ampia questa cosa è al centro dell'attività che noi vogliamo svolgere con Peripato e mi permetto di suggerire di fare molta attenzione in qualunque momento noi parliamo di comunicazione dell'attività dell'attività scientifica perché è il nocciolo della modernità negli strumenti di comunicazione di questi temi allora noi intendiamo lavorare fortemente su questo perché è c'è l'ansia di portare il contributo piuttosto che di ricevere una comunicazione che viene dall'altro per quanto come dire scientificamente assolutamente corretta e legittima la seconda la seconda questione poi veramente ve li faccio passare molto velocemente e finirò forse anche prima degli otto minuti allora vi faccio due esempi sui formati su cui stiamo lavorando il primo è un evento che è avvenuto la primavera scorsa in cui si è trattato del tema che come sapete sulla stampa è molto presente e diffuso dei virus ovvero dalla viaria a ebola a tutto quanto come dire sta stravolgendo non tanto dei paesi occidentali ma nei paesi del terzo mondo lo stile di vita allora su questi temi per esempio c'è una fortissima commissione con gli aspetti narrativi di fantascienza ovvero il modo di narrare la fantascienza può in qualche modo portare un contributo importante per ridimensionare riportare alla giusta dimensione quello che è il rischio reale dei virus questo è un altro evento ecco chiuderei con questa slide allora noi stiamo lavorando e su questo naturalmente il confronto è aperto e stiamo stiamo cercando anzi abbastanza disperatamente degli aiuti dei contributi abbiamo deciso di nel 2014 di aprire questo festival della salute e del benessere in cui tratteremo i titoli che sono la nostra la nostra missione vorrei farvi notare soprattutto ai milanesi che sono qua che noi tra settembre ottobre siamo come dire bersagliati dalla formula del festival che è molto diversa dal festival della scienza di Genova ma dalla letteratura alla filosofia al festival della mente al festival dell'economia nasce questo questo formato allora è un fenomeno relativamente recente che adesso io non so lei è molto più informata ed esperta di me ma che io ricordi da una decina di anni esiste questo formato allora io vorrei portare la vostra attenzione su questo fatto ovvero la modalità di comunicazione dei social media corrisponde in maniera assoluta e perfetta a quella dei festival e hanno in comune quello che dicevo prima ovvero la voglia di partecipare non passivamente ma attivamente a qualunque iniziativa venga proposta che si tratti di letteratura che si tratti di scienza o di qualunque altra cosa allora io credo che su questi temi deve essere come dire aggiornato il dibattito che noi facciamo sulla divulgazione della scienza ovvero sulla modalità sulle differenti modalità di accesso che vengono offerte a un pubblico più vasto perché è su questo credo che si collabori soprattutto e qui concludo quando parliamo dei degli under 18 ovvero di tutti quei giovani che hanno modalità di comunicazione diverse da quelle di un cinquantenne come sono io che mi sforzo disperatamente di adeguarmi ma dove faccio molta fatica allora inclusione partecipazione nuovi strumenti di comunicazione credo che qualunque dibattito sulla divulgazione non possa prescindere da questi temi e qui vi concludo e vi ringrazio grazie Michele Capuani pareva di un prodotto questo tema che effettivamente non era stato diciamo sufficientemente esplorato io non lo so se ne sanno più di comunicazione i giovani però certamente hanno più familiarità con questi mezzi e utilizzano effettivamente internet come una delle fonti per informarsi quindi certamente è una delle cose di cui bisognerà tener conto io non voglio essere autoreferenziale spero che magari Adriana Valenti o Sveva Venuto dopo ritorneranno su questo tema magari nelle domande del pubblico do la parola Enrico Predazzi che ringrazio per aver atteso che è professore merito di fisica teorica delle università di Torino e che interviene in quanto presidente di Agora Scienza gli lascio proprio la parola grazie grazie e intanto grazie soprattutto a Antonello Villa per l'organizzazione di questa giornata io cercherò di essere molto breve e quindi sarò anche molto schematico ma chi potesse volesse essere poi magari durante il pranzo possiamo anche eventualmente parlare con calma io devo parlarvi brevissimamente di Agora Scienza che nasce in una forma che starei per dire complementare a quella del progetto lauree scientifiche che io avevo lanciato negli anni di cui ha parlato il collega Catti con le persone che lui ha ricordato non vi posso raccontare in che senso è complementare ma ci sono svariati ragioni per cui lo è ma nasce essenzialmente da una profonda convinzione che all'epoca io preside della facoltà di scienza dell'università di Torino avevo sviluppato e cioè che il ponte tra la cultura chiamiamola accademica e la società non poteva che essere fornito dalla società dei ricercatori scientifici e che non poteva non passare attraverso una strettissima interazione con la scuola e quindi con le sue due componenti essenziali i docenti da un lato e gli studenti dall'altra e a questi tre attori bisognava pensare con una prospettiva che eventualmente prima o poi ma più poi che prima ahimè coinvolgesse anche l'industria quindi nasce Agorascenza sette anni fa con quattro essenzialmente missioni ma la missione principale è proprio quella di spiegare ai ricercatori di coinvolgerli direttamente in prima persona per raccontare quello che loro fanno e perché lo fanno perché molte volte il problema è proprio quello il ricercatore non solo non ha uno stimolo a raccontare quello che fa ma soprattutto pochissimo stimolo a dire perché lo fa i ricercatori noi siamo abituati a collaborare a colloquiare con i nostri omologhi e ormai lo facciamo attraverso il mondo in tempo in tempo istantaneo in tempo reale con la velocità della luce ma col col pubblico con la società c'è scarsa c'è sempre stata scarsissima collaborazione tant'è che la famosa torre di di avorio che un mio antenato fisico il professor Bernardini chiamava la Iron Tower con una certa non dubbia ironia e di lì è molto difficile farli uscire allora come abbiamo provato a farli uscire beh essenzialmente con gli strumenti classici ma io vi risparmio tutti quelli con cui abbiamo provato a lavorare certamente per esempio abbiamo fatto abbiamo prodotto un libro abbiamo fatto delle inchieste una proprio col CNR tuttora non conclusa e il pubblico degli scienziati come gli scienziati vedono la società molto comune l'inverso come la società vede gli scienziati ma qua stiamo cercando di capire come gli scienziati vedono la società abbiamo avvicinato il grande pubblico per esempio nel 2010 abbiamo fatto a Torino ESOF 2010 e da otto anni facciamo la notte dei ricercatori con un continuo incremento non solo di pubblico ma soprattutto di partecipazione dei ricercatori sono passati da 100 che erano grossomodo nel 2006 a oltre 500 che erano quest'anno quindi c'è veramente un progresso che vediamo ma soprattutto abbiamo cercato di farlo con la scuola e con la scuola direi anche dove abbiamo avuto i risultati lasciatemi dire più promettenti forse dovrei dire lusenghieri ma insomma promettenti almeno visto che il nostro maggior impegno con la scuola è unicamente via web quindi quando si parlava dell'uso del web questo è lo strumento principe perché costa poco pensate che il nostro costo per studente che abbiamo raggiunto che abbiamo coinvolto non raggiunto ma che lui si è fatto coinvolgere in attività di questa di cui sto parlando varia dai 10 ai 20 euro per un'attività che è durata per ciascuno di loro grosso modo un anno nulla sarebbe possibile di questo genere con metodi convenzionali quindi web e i metodi della cosiddetta democrazia partecipativa che sono molto comuni nei paesi del nord europa ma che sono viceversa molto all'avanguardia o perlomeno molto poco noti nella nostra nel nostro paese fra le altre tante cose vi do soltanto qualche numero che insomma proprio per proprio per la notte dei ricercatori ma lasciamo perdere i tempi sono tali per cui ma questa iniziativa con la scuola siamo ormai a quinta edizione che si chiama scienza attiva ha raggiunto complessivamente oltre tra i 6 e i 7 mila studenti grossomodo coinvolgendo 300 docenti di scuola 100 esperti nel senso tutti volontari come ovvio abbiamo vinto due premi internazionali tutti dateci dall'Inghilterra o dal o dalla comunità europea e stiamo facendo un primo esperimento di lancio di questa per lo meno metodologia non proprio della della stessa struttura ma metodologia alla ricerca attraverso un nostro diciamo portale che è talmente flessibile talmente bello che si può veramente utilizzare per tutta una serie di cose agorascienza è un centro intrauniversitario delle quattro università del Piemonte aperto a collaborazioni da tutte le università io sogno il giorno in cui ci sarà agorascienza Lombardia agorascienza Lazio agorascienza Toscana agorascienza Piemonte agorascienza Molise magari sono un po' un utopista ma insomma criticità non parliamo di criticità sono quelle solite ma vorrei soltanto ricordare che per esempio anni fa io ho fatto con le scuole elementari un'inchiesta su come i bambini vedono gli scienziati mi ricordo una bambina che rispondeva lo scienziato è una persona che si pone domande che cerca di rispondere alle domande se avesse aggiunto e verifica che la sua risposta è giusta avrebbe dato una perfetta definizione del metodo scientifico io sono ottimista anch'io concordo sul fatto che abbiamo visto cambiare le cose abbastanza in sette anni o perlomeno negli anni da cui siamo partiti ma certo stamattina mentre lasciavo la stanza dell'albergo ho visto una reclam dell'agip che diceva l'energia non arriva si crea grazie grazie anche per chi sono questo passo peroni voglio ricordare che con Agorascenza e il nostro gruppo di ricerca ha iniziato una collaborazione perché stiamo cercando appunto di allargare di indagare il modo con cui comunica la comunità scientifica un po' diciamo sia nell'università sia nell'entità di ricerca quindi diciamo che abbiamo anche in corso diverse persone in corso io direi che forse qualche minutino per qualche domanda c'è 10 minuti al massimo però io qualcuna ecco chiederei per cortesia però che siano delle domande proprio anche brevi in modo tale che ci sia la possibilità di riscontro se c'è qualcuno che vuole che vuole intervenire ho catturato il microfono parlo io ecco io non vedo da dove viene la voce però vabbè ok la neosenatrice Avita Cattaneo ha detto 3-4 giorni fa che nonostante tutto il lavoro tra virgolette di divulgazione festiva della scienza eccetera eccetera la situazione in Italia non è cambiata come rispondono gli astanti a questa affermazione apodittica grazie io lascio c'è qualche vogliamo raccogliere un paio di domande oppure iniziamo subito caldo andiamo la mia domanda è perché un insegnante sceglie di portare la propria classe con tutte le difficoltà a uscire da scuola sceglie di portare la propria classe a meet me tonight per dire l'ultima cosa che ho insomma la situazione di fiera della scienza e invece non molto difficilmente accoglie una proposta di fare un percorso di ricerca con la propria classe allora lo dico perché noi abbiamo questo problema a Scienza Under 18 che le classi che arrivano sempre meno hanno fatto un percorso di ricerca che porta a quel prodotto che poi loro mostrano al pubblico presentano al pubblico e sempre di più interferiscono cose come esibirsi in pubblico allora io credo che dovremmo cominciare a porci il problema ah e poi succedono anche delle cose che questi ragazzi non so estragono il DNA come hanno visto fare in molti festival fiere musei eccetera e poi non sanno di cosa stanno parlando cioè se uno gli fa una domanda non so girano la provetta con dentro la poltiglia e credono di vedere l'elica del DNA allora il problema è vogliamo mettere in discussione il modello della facilitazione della scienza e chiudo con quello che è diventato il nostro motto che ha detto una luna di Pietro una ragazzina di seconda media abbiamo scoperto che la scienza è difficile ma se non fosse difficile non ci divertiremmo grazie facciamo già subito rispondere no c'è ancora qualcun altro brevissimo buongiorno Federico Brunetti docente di disegno della scuola del design del Politecnico di Milano mi sono permesso due appunti anche da mettere in comune con i partecipanti io ho curato il libro si chiama gli anelli del sapere che è la prima pubblicazione diciamo istituzionale che è stata fatta su LHC del CERN di Ginevra con l'INFN edita ad abitare RCS devo dire e sono stato per questo motivo poi invitato all'Open Day che c'è stato al CERN di Ginevra che ha avuto 70 mila visitatori 5 milioni di tweet una cosa enorme ma legato evidentemente alla dimensione internazionale alla rilevanza dell'esperimento eccetera però devo dire che la disponibilità la partecipazione e l'interesse evidentemente con un fallout evidentemente ad altro livello a cui il pubblico poi riesce ad acquisire nell'intorno di questi luoghi di ricerca effettivi mi sembra che come dire rimarchi l'importanza dell'idea degli Open Day dei luoghi di ricerca come qualcosa di molto complicato molto difficile da costruire però veramente con dei grandi risultati se mi posso suggerire o proporre due spunti di domanda ho terminato subito da un lato io credo che sia molto interessante questa diversa percezione che gli scienziati portano rispetto alla realtà per la loro capacità di analisi di interpretazione e questo è sicuramente una cosa molto suggestiva quando ci si domandava che cosa muove le persone probabilmente è questo diverso punto di vista che credo che sia molto interessante oltre alla esibizione delle macchine diciamo così e secondo me anche in questo nuovo rapporto tra arte e scienza che questa nuova iconografia scientifica è in grado di produrre come esplicitazione dei dati come visualizzazione degli esperimenti anche lì credo che ci sia un grande tramite di una buona comunicazione che credo ognuno di noi e anche vedevo all'experi che c'è qua fuori in qualche modo riesce già a rintracciare grazie buongiorno io direi che quest'ultimo magari lo consideriamo un contributo diciamo alla discussione mentre la prima domanda era quella appunto su diciamo sui numeri dei festival eccetera e lì forse una brevissima battuta a voi appunto Luigi Emanuela e Maria Xanthiudate e l'altra invece ricordo era la discussione del modello di facilizzazione che aveva posto il collega di Scienze del 18 vedete voi chi vuole rispondere sì sì la prima domanda infatti stavo dicendo forse vuole rispondere voglio rispondere a voi se non ricordo male rispetto ai numeri quanto poi di fatto è modificato ah l'impatto la percezione la percezione della scienza da parte del pubblico e quello che dicevo non è cambiato molto ma è cambiato secondo me è cambiato ok allora io devo dire abbiamo dei numeri ovviamente differenziati c'è tutto un lavoro di attività di orientamento e di attrazione dei ragazzi verso le materie scientifiche che ha portato io l'ultimo dato dell'università di Genova ce l'ho al 2008 perché non so perché poi non me li hanno dati però c'era stato 100% di aumento a matematica ma non da 2 a 4 da 40 a 80 e l'anno scorso invece Giorgio Cevasco mi dice a chimica non sappiamo più dove metterli quindi il risultato è positivo soprattutto per i genitori l'impatto sulla politica perché invece c'è stato qualcuno che ha detto com'è che la Cataneo dice facciamo tanto lavoro tanto sono lavori lenti poi abbiamo fatti poche di queste cose pensate che l'India dieci anni fa ha fondato 365 science center in un anno quindi noi facciamo un festival a Genova siamo proprio quattro gatti però se il Parlamento fosse composto di genovesi sono sicura che non avrebbero fatto le votazioni che hanno fatto nell'ultimo periodo perché quantomeno il metodo di mettersi seduti e discutere da fazioni diverse sentendo pareri esperti di tipo diverso e poi prendere delle decisioni quello lì sicuramente è stato instillato e il risultato più importante di cui io sono orgogliosa e lo dico perché è una proposta che io ho già scritto al Ministro noi abbiamo sdramatizzato la matematica ha ragione la studentessa la matematica è lo scalino senza il quale non ci sono studi scientifici è un buco nero del quale non possiamo più essere orgogliosi non possiamo permetterci che i nostri figli vivano nella società digitale senza capire un accidente di matematica abbiamo avuto il massimo successo sulla matematica abbiamo fatto l'unica iniziativa permanente è mate fitness sulla matematica io penso che l'Italia debba fare un grande progetto della matematica a partire da Archimede e da Pitagora e poi andando al circolo dei matematici di Palermo abbiamo una quantità di storia e di competenze e di conoscenze per cui dovremmo veramente fare un grandissimo progetto nazionale per la matematica proprio molto 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 brevemente non ho certezze rispetto alla seconda domanda diciamo che veniva fatta dal professore di scienza nel 18 l'unica certezza che ho è che io ho un diploma di pianoforte non porterei mai un bambino di 8 anni a sentire la passione secondo Matteo di Bach sperando diciamo poi di fargli venire la passione per la musica o non credo che gli farei leggere mai con la forza a questo punto l'uomo senza qualità di Musil allora probabilmente diciamo come dire rimettiamo un po' i piedi per terra e rendiamoci conto che appunto i center i festival che si fanno in tutto il mondo peraltro appunto senza grande scandalo e con un poco più di leggerezza servono appunto a quello che servono ad avvicinare e anche appunto magari a fingere di giocare con le poltiglie pensando che ci sia che ci sia il DNA insomma non credo che si possa avere diciamo ambizioni molto più come dire più spinte di queste francamente pare che ci sia un ragazzo io direi perché un ragazzo gli facciamo fare questa domanda e poi una persona se lo risponde qualcuno gli da il microfono velocemente poi veramente chiudiamo qui divertente buongiorno buongiorno sono Federico Baglioni volevo solo dire una cosa per la mia esperienza io sono coordinatore di un progetto che si chiama Italia Unita per la Scienza dove cerchiamo di fare divulgazione scientifica è nata da studenti anche di questa università abbiamo organizzato a giugno dei convegni in tutta Italia per proprio parlare di scienze di argomenti scottanti abbiamo tirato su tutto in maniera totalmente gratuita grazie all'aiuto anche per esempio della diffusione in rete di scienze a rete le scienze ed altre realtà la mia domanda è più che altro uno stimolo cioè da un lato far capire che noi giovani magari non tutti ma abbiamo capito qual è l'importanza della scienza e anche l'importanza di una mancata corretta informazione scientifica e dall'altro chiedere riusciamo ad avere l'appoggio ma anche più sostanzioso a livello di pubblicità da parte dei big insomma delle grandi realtà di diffusione e divulgazione scientifica io lascerei rispondere Pietro Danise a me piacerebbe sapere che se la professoressa Cattaneo che io stimo tantissimo abbia anche fatto qualche proposta in merito ecco perché credo che dal mio piccolissimo osservatorio il problema è tra lo scarto che in genere c'è tra quelli che sono i bisogni di formazione quelle che sono le proposte di formazione il problema in Italia si potrebbe risolvere se queste due cose si incontrano e allora dov'è che si possono incontrare non si incontrano a tavolino si incontrano soltanto attraverso degli oggetti su cui si può vedere noi avremmo anche una proposta di formazione ma questa forse non è qui non è questo il momento io volevo tornare un momento sulla domanda fatta prima in relazione al rigore nel modo di trattare la scienza quale viene poi applicato in questi tipi di iniziative questo secondo me è un punto chiave perché prima si è molto parlato di dubbi del fatto che la scienza deve essere insegnata in maniera critica eccetera però c'è anche l'altro corno delle medaglie cioè un'escussione scientifica non è equivalente a una discussione filosofica sono due cose diverse perché l'escussione scientifica vuole poi la verifica dell'esperimento quello che ha detto il professor Peralazzi prima questo è un punto ineliminabile che caratterizza la scienza rispetto alle altre discipline e questo deve essere tenuto ben presente a tutti i livelli sia di divulgazione sia di formazione bisogna che i ragazzi gli studenti che sono visionati alla scienza capiscano che il metodo scientifico è basato sulla verifica nei confronti dei fatti sperimentali cioè ci si scontra con la durezza del mondo esterno non è solo la mente umana che pensa e crea idee certo le idee sono anche importanti ma però vanno poi verificate su qualcosa di esterno questo è fondamentale bisogna che nel presentare la scienza al pubblico agli studenti ai ragazzi questo punto sia sempre presente perché è fondamentale cioè non si possono fare sconti su questo punto quindi semplificare sì ma non cedere sul rigore logico da una parte e sulla verifica con i fatti esterni dall'altra questo è un messaggio che su cui non si può derogare perfetto chiudiamo ovviamente molte domande sono rimaste risolte ma ci sarà dello spazio per discutere magari anche informalmente fuori grazie a tutti mi spiace molto che al contrario delle previsioni abbiamo lasciato poco spazio alla discussione facciamo un po' fretta anche perché il catering è gestito sempre all'interno del nostro progetto scuola da un istituto alberghiero di Monza quindi sono dei ragazzi che si stanno dando da fare e il fatto che noi stiamo arrivando con 20 minuti di ritaldo li sta mettendo in difficoltà quindi cioè voglio dire noi quando facciamo non ci vuole io direi che possiamo iniziare anche perché ormai abbiamo già accumulato un quarto d'ora accademico di ritaldo e dopo l'esperienza di stamattina magari se riusciamo siamo in orario ah perfetto benissimo ah vabbè allora basta basta ma io non ma io non non ho aspettato no 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 sì sì no anche perché non vuoi togliere no ma ovviamente al primo di Grazie a tutti. 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 I giornalisti hanno una salute cagionevole, ce ne mancano due dei relatori, vabbè, però quelli che ci sono sono quelli in forma resistente, i migliori naturalmente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche i miei colleghi, anche i miei colleghi ricercatori hanno molto da dire e probabilmente anche i giornalisti hanno molto da dire sui ricercatori. Quindi sarà un buon confronto, spero. del mondo del giornalismo, mondi che a volte fanno un po' fatica a comunicare, perché partiamo da alcuni dati di fatto, io sono il ricercatore quindi comincio con i dati di fatto. Mediamente per i miei colleghi, 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 per i miei colleghi scrive qualcosa di poco corretto. Per i giornalisti con cui ho avuto abbastanza modo di interagire, anche qui tiriamo un po' all'estremo, il ricercatore, il docente universitario è invece il grande trombone che se ne sta nella sua torre d'avorio, ha arroccato sulle sue posizioni, non in grado di fare un comunicato scientifico adeguato, perché insomma a parte comunicare tra pari, il ricercatore non sa fare comunicazione in altro ambito. E quindi diciamo che questo è soprattutto per il nostro paese un quadro abbastanza realistico, questa è la situazione così. Quindi noi partiamo da questo punto e vediamo appunto con gli interventi di oggi e soprattutto con la, così speriamo, lo stimolo per le vostre domande e l'interazione, vediamo di capire se questo quadro che avevo dipinto in maniera così anche molto esagerata è reale oppure se invece siamo in una situazione diversa. Grazie per l'introduzione, è pieno di complimenti per il mondo del giornalismo, la mia notazione è una, la mia presentazione è un approfondimento del concetto, cioè il fatto che spesso e volentieri il mondo della ricerca e non solo il mondo della ricerca, anche tutto il mondo di coloro che si occupano di comunicazione e che usufruiscono la comunicazione pensano che i giornalisti siano tutti uguali. Qui volevo introdurre un concetto che ho imparato tanto tempo fa quando prima di fare il giornalista facevo il biologo ed è quello di specie criptica. A volte succede che ci sono delle specie animali più spesso che vegetali che sembrano assolutamente identiche, almeno nell'aspetto ovviamente, finché non si va a scoprire che per qualche strana ragione sono due, tre, quattro, cinque specie diverse. È successo ad esempio con almeno un paio di pipistrelli europei che quando si vanno a sentire i loro gridi si scopre che sono totalmente diverse, sono specie separate. Allo stesso modo, spero che il confronto con i pipistrelli animali da me amatissimi non offenda i miei colleghi, allo stesso modo non tutti i giornalisti sono uguali, i giornalisti sono una specie criptica, siamo in tanti e siamo diversi. I giornalisti scientifici in particolare sono abbastanza separati dal resto del giornalismo, per tantissime ragioni che spero possano arrivare nel corso delle presentazioni e nel corso della discussione. Quello che vogliamo fare oggi è cercare di vedere all'interno ancora una volta, scusate la deriva tassonomica ma per me è una passione divoante, all'interno ancora una volta della specie giornalista scientifico le varie sottospecie, cioè come si collocano le persone che scrivono nei vari mezzi di comunicazione. Cerchiamo di avere un quadro il più ampio possibile di questa situazione, in modo che anche per voi sia poi più facile quando vedete le cose in televisione, ascoltate la radio, leggete i giornali quotidiani, i mensili e soprattutto vi informate su internet, su facebook, su tutti i mezzi di comunicazione diciamo elettronici, digitali, possiate capire qual è la fonte che è una cosa fondamentale ancora per noi giornalisti. La prima persona che ci illustra qual è il linguaggio, l'approccio, il modo di ragionare, il modo di porsi, il modo di lavorare per un quotidiano è Pietro Greco, che per chi è del mestiere non ha bisogno di presentazione, lui si presenta come giornalista e scrittore, dicevo prima meglio che non dica quello che ha fatto, perché stasera stasera, stasera le nove. Comunque Pietro Greco ci parla della, diciamo del mondo del giornalismo dei quotidiani. Sì, cercherò di interpretare questo tema. Innanzitutto grazie per l'invito, sono molto contento di poter intervenire qui, anche se da cretino. Diceva un mio maestro chimico, che era Alfonso Maria Liguori, mentre gli scienziati specialisti ormai sono quelli che sanno tutto di quasi niente, perché lo specialismo li focalizza su alcuni momenti molto ristretti, i giornalisti sono quelli che sanno niente di quasi tutto. Ecco, io sono una di queste persone che sa nulla di quasi tutto, perché un giornalista che lavora in un quotidiano, sia esso giornalista scientifico o un giornalista di altra razza o di altra specie, deve sapere in qualche modo tutto, cioè deve sapere nulla, ma di quasi tutto. Vorrei fare anche una premessa, perché penso di avere solo otto minuti, quindi farò sei punti in sei minuti, più una premessa in un paio di minuti. La prima è che fare questo mestiere è una cosa bellissima, io ho cercato di fare il ricercatore, poi per il bene della scienza, ma anche per il bene mio abbiamo lasciato perdere. E dicono anche molti miei colleghi che fare il giornalista è qualcosa di faticoso, ma anche è sempre meglio che lavorare e quindi ci troviamo. Vi parlerò in questa mia breve trattazione solo di una parte di questo lavoro, la parte brutta, il lato B, la faccia oscura del giornalismo, ma vi assicuro, lavorare in un giornale quotidiano è estremamente importante, è estremamente bello ed è estremamente importante perché il giornale quotidiano dovrebbe essere la prima faccia o la prima agorà, come verrebbe da dire a Fredazzi, nel rapporto tra scienza e società. Però il giornale quotidiano, il giornale quotidiano, i mass media in generale, ma il giornale quotidiano in particolare ha delle difficoltà a rappresentarsi e a essere una efficacia agorà. Il quotidiano non ci riesce, per una serie di motivi che magari approfondiremo dopo. Va detto anche, chiudo la premessa, che la biodiversità dei giornalisti anche all'interno di un quotidiano è elevatissima. Molto spesso ci ammettere tale per cui semplicemente non ci capiamo. Per i nostri caporedattori, noi giornalisti scientifici, che secondo appunto il mio maestro Alfonso Maria Liguori diceva sapete nulla di quasi tutto, siamo invece degli ammazza notizie, perché cercano un minimo di verifica nei fatti. Ecco, e per questo rappresentiamo un po' il prototipo del non giornalista. Quindi ci troviamo in mezzo al guado, come spesso succede. Bene, prima notazione allora. Riguarda l'Italia, riguarda i quotidiani in generale. Cosa dovrebbe fare un giornalista scientifico che lavora in un quotidiano? Beh, dovrebbe essere una persona che è in grado di raccontare la scienza in maniera estremamente rapida. Mi hanno a me chiamato perché è stato assegnato il Prima Nobel per la pace ad un gruppo, che io non ho letto la notizia, ad un gruppo che si è occupato, diciamo, di disarmo chimico e mi hanno chiesto di scrivere. Ecco, mentre io sto parlando qui non riesco ancora a scrivere, ma il pezzo ci dovrà essere. Io spero di aver deviato, ma è possibile che succeda. Un giornalista scientifico in un quotidiano può essere chiamato a scrivere di cose che non sa, ovviamente, anche nel giro di un'ora o due. E per quanto strano possa apparire a chi non faccia il giornalista, questo è un vingolo non superabile. O io mi dimetto dal giornale, oppure gli presento il pezzo. Quindi capirete qual è la difficoltà di scrivere in maniera abbastanza seria. E in più, come vedremo fra poco, bisognerebbe scrivere in maniera approfondita, perché intanto il mondo dei mass media sta evolvendo, anzi negli ultimi anni sta evolvendo in maniera talmente rapida, che al giornale quotidiano, che una volta era il mezzo di comunicazione più rapido, quello che portava la notizia più fresca, ad essere diventato un po' obsoleto. E quindi gli richiede di fare dell'approfondimento in due ore. E quindi questa è la realtà. Però noi ci troviamo in Italia. La condizione dei quotidiani in Italia è particolare. Un mio amico, Giancarlo Bosetti, ha dato una definizione meravigliosa, perché poi i giornalisti o a cosa sanno fare, del quotidiano italiano. Li chiama quotidiani melassa, né elite né massa. Perché negli altri paesi esistono i quotidiani di elite, New York Times, ed esistono i quotidiani popolari, che nessuno intellettuale legge, ma che vendono milioni di copie. Ecco, in Italia in genere non esiste nell'uno o nell'altro, ma esiste una mediazione tra i due. Devo dire che molti giornali quotidiani negli ultimi anni stanno propendendo più verso il trash che verso il quotidiano di elite, ma questa è una considerazione personale. Quindi prima considerazione. Scrivere in un quotidiano melassa appunto significa scrivere degli articoli e molto spesso possono essere melassa e quindi il tentativo di un giornalista scientifico è di non essere, di non farsi catturare dalla melassa. Scrivere poi in un paese che non ama la scienza. Diciamogli onestamente, questo paese ha una domanda di scienza molto molto carente. Dico un numero, noi spendiamo in ricerca e sviluppo l'1% del prodotto interno lordo. Adesso le statistiche internazionali parlano dell'1 e 3, ma semplicemente perché è diminuito il prodotto interno lordo, non perché è aumentato. Ma quindi questa è la condizione. Bene, sui giornali quotidiani, da un'analisi che noi abbiamo fatto, lo spazio occupato della scienza va intorno al 2-3%. Quindi i quotidiani, come dire, rispondono ad una domanda maggiore di quella che è la domanda reale del paese, diciamo, in qualche modo. Adesso sto ovviamente approssimando. Però, insomma, scriviamo in giornali melassa in un paese che non ama la scienza. Quindi ci sono queste difficoltà. Ma viviamo, inoltre, in un'era forte e formidabile di transizione, con una formidabile accelerazione di questa transizione che è quella dal quotidiano a internet. Quando io supero tu mi fermi. A internet. E internet rappresenta l'ultra rapidità, nel senso che molti scrivono su internet in tempo reale, in qualsiasi modo, dal tweet a un articolo breve su... E quindi la rapidità, che era la caratteristica prima a cui doveva rispondere il giornalista del quotidiano, è andata perduta. E quindi i quotidiani stanno cercando confusamente, devo dire, in tutto il mondo occidentale almeno, in tutto il mondo occidentale, stanno rispondendo in maniera abbastanza confusa. E la risposta è sostanzialmente duplice. Da un lato, con mille e mille eccezioni, ovviamente, perché appunto la biodiversità è tale che le eccezioni assolutamente non mancano, è che il giornalista di un quotidiano è ormai considerato, per quanto strano possa sembrare, una persona che deve approfondire quello che internet o la televisione ti dà in tempo reale. Quindi tu devi scrivere, quando scrivi su un giornale quotidiano, qualcosa in più di quello che è già stato reso pubblico attraverso gli altri mezzi di comunicazione. Ora è chiaro che non tutti devono scrivere in due ore su un quotidiano, si può scrivere anche in tre ore qualche volta. Ma sostanzialmente è questa la condizione. Ed è una condizione abbastanza difficile. L'altro è che molti quotidiani stanno aprendo dei siti internet. E quindi, infine, c'è una certa confusione tra il cartaceo, che esce l'indomani, ma che deve tener conto di quello che esce oggi, e lo stesso giornalista scientifico, per il motivo che dirò dopo, è obbligato a essere contemporaneamente il giornalista che scrive sul sito internet e poi il giornalista che fa l'approfondimento sul cartaceo. E quindi grande, grande confusione sotto il cielo dei quotidiani. Quinta, quinta, remarca, le risorse, ecco, le risorse stanno diminuendo per i giornali quotidiani in tutto il mondo, perché stanno diminuendo le risorse pubblicitarie. Ora, anche in questo settore c'è stata un'evoluzione formidabile. Cento anni fa, l'ottanta per cento delle risorse per i giornali quotidiani venivano dall'acquisto in edicola. Quindi il riferimento principale dell'editore e del giornalista era il suo lettore, accreditarsi verso il proprio lettore. Oggi l'ottanta per cento delle risorse viene dalla pubblicità e quindi l'interlocutore principale dell'editore e in qualche modo anche dei giornalisti è l'inserzionista pubblicitario. Ma queste risorse stanno diminuendo perché sta diminuendo la pubblicità. Molti lettori si stanno trasferendo dai quotidiani a internet, ma le risorse non si stanno trasferendo su internet, perché le risorse che stanno perdendo i quotidiani non si stanno trasferendo su internet. E questo crea confusione non solo nei quotidiani, ma anche sulla stessa internet. Alla luce di tutto questo, e poi penso di aver esaurito i miei otto minuti, posso dire quale sarà il futuro dei quotidiani. Diceva un grande fisico, Nils Bohr, che fare delle previsioni è difficile, soprattutto quando le previsioni riguardano il futuro. Ecco, per quanto riguarda il futuro dei quotidiani è pressoché impossibile. Non lo so come finirà. Grazie. Il secondo contributo ci viene dal settimanale, però un settimanale di larghissima diffusione, come è oggi, che deve utilizzare un linguaggio molto particolare e che per chi ha approvato è estremamente difficile. Devo essere sincero, è difficilissimo riuscire a trasferire la complessità di una notizia scientifica, scientifico-medica, al linguaggio del mio settimanale. Sentiamo se la mia difficoltà corrisponde alla realtà da Edoardo Rosati, che è caporedattore di oggi, appunto, perché c'è un po' di medicina. Prego. Grazie Marco. Grazie Marco e buonasera a tutti. Appunto, io mi occupo, ho dedicato la mia laurea in medicina al giornalismo medico-scientifico e appunto curo le pagine della salute e della medicina su oggi, che un giornale generalista entra nelle case di tante famiglie italiane e volevo ricordare appunto una frase che era solito sempre dirci il nostro storico direttore, che è Paolo Chipinti, il quale ci invitava sempre a riflettere sul contrario della parola popolare. Il contrario della parola popolare non è sofisticato, non è specializzato, non è patinato, il contrario della parola popolare è impopolare. Quindi praticamente l'obiettivo è cercare di entrare, per non essere impopolare, l'obiettivo, la prima missione, la prima direttiva, per dire alla Star Trek, è quella di entrare in sintonia con le lunghezze d'onda del paziente e non puntare di prima chito sul suo bagaglio culturale. Ecco, questo è fondamentale per non consentirci di dare per scontato tutta una serie di dati, di input che possono spiazzare la prima lettura e abbandonare e costringere il lettore all'abbandono. Ecco, come ci riusciamo? Cioè, come ci proviamo, insomma? Idei chiare, frasi, parole semplici, frasi brevi, non lasciarsi tentare, come dire, dal gerco tecnico. c'è una... Tim Redford, che è un giornalista del Guardian, che ha stilato un decalogo del perfetto giornalista, tra virgolette, e uno dei suoi punti è nessun lettore potrà mai lamentarsi perché avete scritto qualcosa di troppo facile da capire. quindi questo è un assunto, insomma, da tenere presente, ma oltre agli ingredienti che ho citato, fondamentalmente nel Popolare, rispondo anche alla domanda di fondo di Marco, nel Popolare c'è una... ecco, un collante fondamentale, un ingrediente che va messo in un articolo medico-scientifico, in un articolo che parla di salute, di biotecnologie, ed è l'emozione. A mio avviso, un articolo medico-scientifico deve saper emozionare. Detta così, può essere un'impresa... un'impresa... un po' così... vaga. Però è anche vero che un articolo sa emozionare quando c'è un uso accorto delle parole. Ecco, io devo dire che nel mio mestiere, anche per formazione professionale, ho sempre avuto una visione un po' farmacologica delle parole. Le parole per me sono farmaci, le parole hanno degli effetti collaterali, perché lo sperimentiamo nella vita di tutti i giorni, negli ambienti di lavoro, in casa. Le parole hanno azioni terapeutiche, le parole... c'è una posologia delle parole, bisogna saperle dosare. c'è una modalità di somministrazione delle parole. Ecco, secondo me questo è un po' il mix da utilizzare un popolare, cioè la parola deve essere emotiva, una parola emotiva. Poi vi illustrarò un paio di esempi che volevo citare. In questo concetto di parola emotiva, in realtà, se poi andiamo a... armandoci di rasoio di Ockham, noi andiamo a sfondare tutti i vari rivoli dei nostri discorsi, in realtà, il fatto che la parola debba essere emotiva, ma ci viene fondamentalmente dalla stessa medicina. Perché, a ben pensarci, il primo fondamentale atto della medicina, cioè il primo, quindi essenziale, determinante atto della medicina, è un racconto. cioè il paziente entra nell'ambulatorio di un medico e che cosa fa? Parla. E da lì parte la detection medica, ma si fonda su un racconto, sono parole. Cioè, praticamente, il primo fondamentale atto della medicina è raccontare e ascoltare un racconto. ed è proprio cavalcando un po' questo assunto che cerchiamo di costruire, appunto, i nostri articoli. Dirò di più. Il fatto che la parola sia così determinante nella comunicazione medico-scientifica è anche, spiega anche lo sfilacciamento che si sta verificando nell'annuoso rapporto medico-paziente. è uscito un lavoro sulla New England Journal of Medicine in cui un team di ricercatori si è preso la briga di andare a verificare negli ambulatori dei medici dopo quanto tempo il medico interrompe il paziente nel suo racconto. Ed è stato visto che praticamente il medico stoppe il paziente dopo 22 secondi. 22 secondi, mediamente. Un altro articolo del British Medical Journal invece ha cercato di rincarare la dose e ha verificato che basterebbero praticamente due minuti di racconto del paziente per centrare l'80% dei casi il problema medico del paziente. Quindi basterebbe farlo parlare per due minuti. Insomma, la parola è determinante. Allora, esempi pratici e poi chiudo. io volevo mostrare due esempi di come della nostra modalità di intervento sul giornale quindi io ho portato un esempio il classico esempio ahimè tragico quello di Eluana Inglaro allora su Eluana Inglaro sono stati versati proprio i proverbiali fiumi d'inchiostro e devo dire che l'impressione generale seguendo le trasmissioni la gente eccetera ma secondo me è un'impressione che condividono forse in tanti ma non avete avuto la sensazione che Eluana sia stata descritta come la bella addormentata nel bosco cioè nel senso noi immaginavamo questa povera ragazza cristallizzata in un sonno eterno di 13 anni quindi proprio un sonno intonso lei aveva perso la vita cognitiva ma c'era una vita vegetativa che procedeva c'era un corpo che continuava ad agire Eluana Inglaro continuava ad assimilare cibo bisognava somministrare dei periodici clisteri per la rimozione delle feci poi per non parlare appunto dei reni che continuano a funzionare per non parlare del ciclo mestruale che era ripreso insomma noi abbiamo cercato di recuperare questa storia di un corpo che continuava a vivere e l'abbiamo voluto fare sempre cavalcando l'idea del racconto che cosa ci siamo inventati siamo andati semplicemente a casa di Carlo Alberto De Fanti neurologo che ha seguito per 13 anni la Eluana siamo stati da lui un intero giorno e lui praticamente ha raccontato ha raccontato quindi senza indugiare ha raccontato semplicemente la sua storia di 13 anni con Eluana per cui il risultato è la mia Eluana quindi noi abbiamo parlato della Eluana Inglaro semplicemente non attraverso la nostra voce del giornalista ma attraverso la voce di un neurologo del suo neurologo quindi abbiamo recuperato questa azione e poi ultimo esempio chiudo riguarda la SLA anche qui un grande testimonio anche qui malattia tragica malattia difficile da gestire un po' un cubo di Rubik dall'infinite combinazione proprio per la delicatezza del tema abbiamo trovato un signore malato di SLA musicista il quale col gruppo dei suoi amici ha malato di SLA e col gruppo dei suoi amici ha messo in rete una sua canzone intitolata SLA ma SLA in questo caso vuol dire solo libera l'anima perché non malato di SLA è soltanto quella che resta veramente libera e per cui quello che abbiamo fatto è che sfida cantare la mia vita alle prese con la SLA cioè in altri termini noi pensiamo e chiudo che si possa parlare veramente di tutto in un giornale popolare bisogna trovare proprio la formula giusta ma giocando con l'ingradiente più comune di questo mondo che è la parola ecco grazie ce l'ho fatta il prossimo contributo è ancora nel campo della comunicazione medico-scientifica ed è Margherita Fronte una valentissima collega che ho di che ho di rimpetto quando lavoro a Focus e lei ci parla di come affrontiamo a questo punto mi metto dentro anch'io questi argomenti in un giornale in un mensile di larga diffusione che cerca di fare una divulgazione popolare ma sempre basata su robusti fatti scientifici prego innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori dell'invito molto molto gradito come diceva Marco appunto entrambi lavoriamo a Focus ci vediamo uno di fronte all'altro le scrivanie io mi occupo di medicina soprattutto di medicina Focus è un giornale di grande diffusione un giornale popolare che quindi si rivolge a un pubblico vasto che può non avere nessuna alfabetizzazione scientifica e che spesso compra Focus per avere delle risposte o per conoscere delle cose nuove quando io penso che quando un nostro lettore legge un articolo di medicina lo fa soprattutto per avere delle risposte noi ci confrontiamo con i problemi che hanno un po' tutti i mensili per esempio il fatto che chiaramente non possiamo andare dietro la cronaca quotidiana che è coperta benissimo dai quotidiani da qui deriva per esempio il fatto che su Focus non è uscito una sola parola di stamina fino a questo momento il motivo è che questa vicenda dolorosa è stata è complessa è stata coperta abbondantemente da quotidiani da settimanali da settimanali da siti e noi come mensile venendo comunque quando gli eventi uscendo quando gli eventi sono già accaduti non avremmo potuto dire nulla di più e nulla di meglio di quanto non fosse già stato detto da altri peraltro ci sono invece altri argomenti dibattuti che non hanno questa urgenza della cronaca e dei fatti che avvengono di giorno in giorno che invece abitualmente affrontiamo copriamo e sui quali diamo una nostra una nostra opinione una nostra visione non so per esempio ho fatto il caso dei vaccini recenti oppure la questione della sperimentazione animale e così via quando io mi occupo di medicina però vi dicevo questo focus è un giornale di grande diffusione che non seleziona i suoi lettori anzi tende a includere il maggior numero possibile di tutte le età di tutte le provenienze questo però significa anche che la responsabilità che si ha quando ci si rivolge ai lettori è in un certo senso aumentata e la medicina ha alcune caratteristiche che fanno sì che la responsabilità di un giornalista che si occupa per un giornale di grande diffusione di questi argomenti debba tener conto di alcune particolarità che ha la scienza medica e che non hanno le altre scienze questo è un punto importante perché sono cose che ovviamente i giornalisti conoscono ma che forse chi fa ricerca e guarda come viene divulgata la medicina sui giornali a volte non ha bene in mente magari dice questo articolo è superficiale questo articolo non ha detto questa cosa non ha detto quest'altra spesso dietro a queste caratteristiche che ha ciascun pezzo ci sono dei motivi la prima peculiarità della medicina è che non ha nessun'altra scienza è il fatto che la medicina tocca degli aspetti fondamentali della vita che sono la vita la morte il dolore la sofferenza non è solo scienza la medicina la medicina incide su delle su degli istinti primordiali che sono radicati e profondi quando noi scriviamo di medicina andiamo a colpire lì spesso non sempre ma spesso sì non a caso la salute è uno dei diritti fondamentali come è sancito dall'ONU non esiste un altro diritto fondamentale coperto da altre discipline scientifiche la salute il diritto alla vita sono un ambito della medicina per questi motivi fra l'altro tipicamente le questioni che riguardano la medicina le grandi questioni che riguardano la medicina sui giornali hanno solitamente un spazio molto maggiore rispetto ad altre grandi questioni che riguardano le scienze altri settori del sapere altri settori delle scienze pensate per esempio è stato citato prima il caso di Eluana Inglaro per molti giorni e per molti mesi si è scritto moltissimo su questo caso pensate al caso Stamina che ho citato prima ma pensate anche ai dibattiti sulla procreazione medicalmente assistita sul fine vita Eluana Inglaro di nuovo sulla non so sulla clonazione sono tutte questioni che hanno certamente un aspetto tecnico scientifico ma hanno anche un altro aspetto che è più psicologico e filosofico anche che chi si occupa di questi temi non può non tenere in mente a differenza di altre discipline anche è che la medicina muove degli interessi economici che non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli delle altre discipline per esempio il bilancio della sanità il peso della sanità sul nostro bilancio nazionale è una delle prime voci di spesa il settore sanitario l'assistenza sanitaria lo shutdown recente degli Stati Uniti perché è avvenuto perché si sono scontrate sulla riforma sanitaria le grandi industrie farmaceutiche hanno dei fatturati che non sono lontani da quelli dei prodotti interno di piccole nazioni come l'Irlanda per dire quindi l'interesse economico che c'è dietro alla medicina e ad alcuni aspetti in particolare al settore farmaceutico però non solo sono molto importanti è la questione dei conflitti di interesse che è stata molto spesso affrontata da chi fa comunicazione della scienza e della medicina comunque è una questione sempre da tenere presente un ultimo aspetto che mi preme sottolineare è che in nessun'altra disciplina scientifica esiste qualcosa che sia neanche lontanamente paragonabile al rapporto medico paziente quando chi fa comunicazione della medicina si rivolge a un grande pubblico come facciamo noi su Focus deve sempre tenere in mente che quello che lui scrive non deve in alcun modo pregiudicare questa relazione che è fra medico e paziente ovviamente io scrivo non posso sostituirmi al medico a parte che medico non sono ma comunque devo fare attenzione a a a questo punto non posso far sì che quello che io scrivo determini una decisione non negoziata con il medico da parte di un mio lettore non discussa con il medico da parte di un mio lettore quindi capite che in un mensile come Focus tutti questi aspetti soprattutto perché ci si rivolge a un pubblico molto ampio danno luogo poi a degli articoli che raccontano le cose ma che per esempio sono sempre molto attenti nel dare consigli che non siano per esempio consigli generici quando si racconta una scoperta scientifica bisogna sempre fare molta attenzione alle possibili ricadute pratiche che questa scoperta ha c'era una frase e con questa chiudo molto bella di una guida che era stata fatta qualche anno fa da alcune istituzioni inglesi che si occupano di scienze insomma e che era rivolta proprio a chi fa giornalismo medico e diceva questo quando hai finito di scrivere un articolo rileggi quello che hai scritto e mettiti nei panni di una persona che ha un parente stretto oppure che sei tu stesso colpito dalla malattia di cui stai parlando ti sentiresti a tuo agio con quello che hai scritto ora a parte la correttezza scientifica il fatto di sentirsi a proprio agio con quello che si è scritto pensando che quella è l'unica informazione che un eventuale paziente può ricevere e che non è convogliato dal medico è un punto molto importante perché significa di essere stati onesti con se stessi significa di non aver voluto per esempio portare troppo oltre l'entità dei benefici di una scoperta o meno significa sostanzialmente aver fatto una informazione corretta concludiamo la diciamo la tornata la prima tornata con Telmio Pivani che insegna ora a Padova filosofia della biologia giusto? sono dominato e però è un divulgatore e in particolare per quel che riguarda questo pomeriggio lavora per le scienze e quindi deve utilizzare per un mensile di diffusione meno ampia di quanto non sia focus ma di maggior specializzazione deve utilizzare un linguaggio ancora una volta diverso a tutti quelli che ci hanno preceduto concluderà Telmo anche con una una specie di overview di quello che è successo nel web con uno dei più importanti siti di divulgazione anzi no decisamente il più importante sito di divulgazione dell'evoluzione in Italia che si chiama Picaia che Telmo stesso insieme ad altri ha fondato qualche annetto fa non mi ricordo 2004 quasi dieci anni fa 2004 2004 sì quasi dieci anni fa prego ringrazio Marco e tutti voi per questo invito che mi ha permesso di tornare a casa peraltro dove ho insegnato per tanti anni fino all'anno scorso io pensavo brevemente di fare una piccola racconto su queste due esperienze di comunicazione della scienza e poi Marco mi concede qualche minuto per chiudere anche su una overview più generale spero di fare anche da introduzione poi alla tavola rotonda quella conclusiva è successiva devo parlare delle scienze al posto di Claudia per me è molto difficile perché a differenza di Claudia non conosco esattamente le cifre delle scienze però so che è un'esperienza che continua ad essere molto particolare di grande successo in Italia adesso con l'accoppiata con mente e cervello da qualche anno sta sperimentando come forse molti di voi saprete soluzioni ibride tra la rivista cartacea che resiste resiste bene in quel caso il sito web app e altri progetti ibridi che stanno andando abbastanza bene diceva Marco prima correttamente le scienze ha un compito particolarmente delicato perché non è una rivista di divulgazione nel senso classico del termine è una rivista io direi abbiamo parlato spesso con Marco Cattaneo che la dirige di mediazione nel senso che nascendo da Scientific American ma ormai facendo integrazioni italiane ed europee sempre più corpose deve dare ogni mese una panoramica generale su quello che sta succedendo nella scienza attraverso rubriche attraverso interviste attraverso da qualche mese anche racconti di esperienze concrete spin off esperienze positive deve fare degli approfondimenti mediando e facendo raccontare le scoperte direttamente ai diretti interessati e quindi vedete che lavora molto sulla grafica sulla titolatura sulle sintesi degli articoli perché quella difficoltà sta tutta lì e il pubblico però apprezza perché io credo capisce che si tratta di un'informazione affidabile anche se devo ammettere non sempre di facilissima lettura siamo decisamente lontani da una divulgazione pop o popolare da qualche mese a questa parte grazie a Marco Cattaneo che ci tiene molto io sono molto d'accordo con questa evoluzione della rivista lui vuole e io sono molto d'accordo con lui che ci sia sempre più un intervento pubblico di questa rivista in tutte le grandi temi controversi di dibattito pubblico in questo paese Marco è intervenuto spesso in modo polemico provocatorio su tante questioni che riguardano soprattutto le straordinarie performance scientifiche della nostra classe politica per cui Marco è uno che va in Parlamento spulcia le varie iniziative che si fanno mozioni ordine del giorno così scopre non so ricorderete cos'era all'inizio di quest'anno no forse l'anno scorso quel nostro parlamentare che fece quell'interrogazione parlamentare sugli alieni dicendoci che dovevamo investire molto più soldi perché ormai il loro arrivo è imminente quindi bisogna prepararci facciamo anche il nome magari Vatinno qualcosa del genere non è stato rieletto non è stato rimesso nelle liste ma per puro caso nel senso che il partito nel quale non è entrato in Parlamento quindi sì esatto è lo scilipoti della scienza italiana allora le scienze molto brevemente è questo e la sfida è quella di mantenere questo livello di qualità e di apertura al pubblico Picaia è un'esperienza molto molto diversa Picaia corrisponde molto bene mi è piaciuto questa mattina l'intervento di Alberto Mantovani che ha ripetuto almeno due o tre volte la parola umiltà nella comunicazione della scienza ecco Picaia è un portale di servizio e non ha mai voluto essere niente più di questo è un portale di aggiornamento è un portale molto letto noi siamo molto contenti da un pubblico che cresce sempre di più molto fiducioso insomma che ha molta confidenza ormai con il portale e in sostanza sono studenti insegnanti ricercatori che sanno che se vanno su quel portale una volta alla settimana presso a poco sanno che cosa è uscito di importante sulle riviste scientifiche in particolare nel campo dell'evoluzione della biologia evoluzionista quindi è un portale di servizio e non vuole essere nulla più di questo però è diventato in realtà anche più di questo perché ci siamo dal 2004 da quando si fecero i Darwin Day a Milano e io mi sono accorto insieme a quella redazione che è presente Andrea Romano che ci ha lavorato tantissimo e continua a lavorarci che la continuità di un'esperienza sul web io penso ma non è tempo non è questo il momento sul web si dicono cose molto euforiche sulle quali io sono molto perplesso non penso che il web sia la panacea dell'uomo nuovo che scaturirà magicamente dai tablet penso al contrario che il web sia un amplificatore delle ambivalenze del comportamento sociale umano compresa la menzogna compreso l'estremismo compreso il fondamentalismo e Picaia è stata vittima e continua a essere vittima proprio di questi che continuano a farne oggetto di attacchi proprio perché facciamo questo servizio minimale ma onesto e affidabile e devo dicevo la continuità ha fatto sì che Picaia diventasse un punto di riferimento e continua ad esserlo continua ad esserlo nonostante e vado alla seconda parte poi chiudo Picaia come Andrea Romano sa bene è un portale che ormai da tre anni è svolto in modo totalmente volontario non riusciamo a trovare una lira per mandarlo avanti però questo è il paese in cui siamo e prima o poi ne verremo fuori glielo dico così tiene duro ancora per qualche mese vorrei fatta una brevissima introduzione a queste esperienze chiudere con proprio tre parole su quello che abbiamo discusso anche questa mattina e poi faremo ancora dopo nella sessione successiva perché sia le scienze che Picaia e tante altre esperienze che conosco noi parliamo no? facciamo ci scambiamo un sacco di mail riunioni di redazione c'è un sentimento abbastanza diffuso tra tutti noi che siamo in questo settore che dico in un modo un po' brutale la diagnosi del problema italiano l'abbiamo già fatta basta l'abbiamo già fatta è chiara continuiamo a ripetercela forse qualche volta ci fa anche piacere continuare a sentire però ormai la diagnosi sul piano scientifico oserei dire è chiara abbiamo capito qual è il problema abbiamo capito che è un problema serio abbiamo capito che è un problema che viene da lontano dal punto di vista culturale strutturale di questo paese Pietro Greco ha scritto libri bellissimi su questo e li potete vedere capire cos'è successo perché siamo arrivati fin qui allora appurato che la diagnosi è chiara a tutti io credo che dovremmo sempre di più impegnarci nei prossimi mesi nei prossimi anni a lavorare su altre questioni cioè non direi la terapia o anche la terapia però per esempio io scelgo tre uno sono le potenzialità alle quali stiamo assistendo in questo paese in quest'ultima fase forse perché sono malato di ottimismo però voglio dire i Nobel del 2013 andate a leggere le motivazioni di quello della fisica e di quello della medicina e fisiologia c'è dentro tantissima Italia in quei premi Nobel anche in quello della fisiologia se andate a lettere le motivazioni c'è gente italiana che ha permesso quella scoperta e poi il Nobel l'ha preso un tedesco e due americani su questo non entro nella questione sul fatto che poi i Nobel li prendono gli altri però c'è dentro tanta Italia lì le potenzialità enormi le capacità enormi che hanno i ricercatori italiani quando vanno all'estero sono note certo noi vediamo la bottiglia mezza vuota e quindi è una perdita un dissanguamento giustamente dell'intelligenza italiana però è anche un successo dei nostri ragazzi all'estero che è indiscutibile e che dimostra che forse la preparazione di base che noi diamo loro prima di lanciarli oltreoceano non è poi così male e ancora di più questo perché me ne occupo personalmente è vero quello che diceva Pietro Greco prima cioè che siamo minoritari rispetto alla sensibilità nei confronti della scienza però è una minoranza che cresce è una minoranza che diventa un pochino più rumorosa sempre di più i numeri dei festival della scienza di questo paese sono oggetto di studio da parte di studiosi stranieri perché sono un fenomeno particolare vengono a studiarli qui poi li coppiano in altri paesi a New York è successo tre anni fa il successo delle mostre scientifiche l'audience delle trasmissioni televisive che parlano di scienza mi raccontava l'altro giorno un mio collega che è stato ospite da Fazio e eravamo insieme proprio quando è successo Fazio dopo qualche giorno lo chiama e gli è quasi sorpreso gli dice ma sai che nel tuo dieci minuti abbiamo avuto un picco di audience e si parlava di scienza ovviamente è una cosa stratosferica impensabile e lui era tutto contento di questo ecco piano piano ci si accorge che una domanda c'è da parte del pubblico italiano è una domanda che attende un'offerta adeguata però è una domanda che cresce e se ne stanno accorgendo in tanti poi però davanti a queste potenzialità e ho finito proprio ancora un minuto per chiudere il mio ragionamento uno si domanda ma queste persone che affollano i festival che vanno alle mostre scientifiche pagano il biglietto che scelgono le trasmissioni televisive che parlano di scienza sono in questo paese ancora un'elite di privilegiati e di colti o sono una popolazione che sta crescendo piano piano sempre di più io non so rispondere a questa domanda però è un tema importante questo queste potenzialità cozzano brutalmente con una seconda parola che vorrei mettere lì che è la qualità del dibattito pubblico in questo paese e il dibattito pubblico è fatto dagli opinion makers è fatto dai politici è fatto dai giornalisti è fatto da quelli che hanno una voce in questo dibattito pubblico facciamo una fotografia di quello che sta succedendo in Italia in questi mesi mettiamo insieme tre campi tre titoli gli organismi geneticamente modificati le biotecnologie il caso stamina e il tema della sperimentazione animale prendete tutti e tre questi casi e fate un confronto tra la qualità del dibattito pubblico in altri paesi e quello che succede nel nostro paese le trasmissioni che abbiamo visto tutti su stamina che gridano vendetta all'onestà intellettuale a mio avviso allora c'è un problema di dibattito pubblico e di qualità del dibattito pubblico e teniamo presente che io penso si debba sempre essere autocritici secondo me su tutti e tre quei temi lì la comunità scientifica non fa abbastanza la comunità scientifica non fa abbastanza in termini di impegno nella comunicazione scientifica bisognerebbe fare molto di più bisognerebbe lavorare chiudo faccio tre proposte perché Antonello mi ha dato l'impegno ognuno deve fare delle proposte e le mie tre sono queste brevissime la prima lo diceva Alberto Mantovani all'inizio sono totalmente d'accordo con lui bisogna lavorare ancora di più lo stiamo facendo ma molto di più su una nuova comunicazione della scienza partecipativa lui diceva che esalti il dubbio io aggiungerei che esalti la scoperta imparare sempre a raccontare la scienza non dai suoi prodotti ma dai suoi processi così contemporaneamente racconti i contenuti della scienza ma anche come ci si è arrivati il processo la metodologia cosa vuol dire lavorare in campo scientifico e l'apertura popolare oserei dire bisogna fare progetti che vadano per strada una volta facevamo gli angoli nelle stazioni ferroviarie con la gente che si fermava con gli scienziati oggi c'è stata Manuel Arata forse ve ne ha parlato col festival della scienza siamo andati nelle stazioni ferroviarie ecco queste queste cose qua secondo la comunità scientifica è una mia ossessione la ripeto ancora una volta io continuo a stupirmi del fatto che in altri paesi ci sono fondazioni scientifiche nazionali ci sono società scientifiche che creano un link diretto tra la voce della comunità scientifica e le classi dirigenti il potere esecutivo e il potere legislativo dobbiamo trovare il modo per creare o esaltare riutilizzare valorizzare istituzioni già esistenti una o più per far sì che ci sia un legame molto più stretto tra la comunità scientifica che ha una voce e il potere esecutivo e il potere politico questo è un tema secondo me fondamentale oltre al tema della comunicazione scientifica se no continueremo ad avere leggi scritte come quelle che citava Alberto Mantovani questa mattina ed è questo una decisione che ricade anche sulla comunicazione della scienza perché e chiudo su questo la ricerca scientifica è un grande ispiratore per il metodo democratico ma non è perfettamente democratica cioè un dibattito scientifico non è un dibattito dove ognuno dice la sua e un'opinione vale come quella di tutti gli altri nella scienza c'è la reputazione c'è la letteratura di riferimento quando parla Alberto Mantovani è un conto quando parla l'inventore di strani metodi è un altro conto e non posso fare un dibattito one to one tra un grande scienziato e chi si spaccia per esserlo insomma ci sono delle regole del gioco allora se ci fosse una o più voci della comunità scientifica in grado di interagire con i media e dire qual è il consenso scientifico su un certo problema di dire onestamente dove siamo arrivati quali ipotesi ci sono questo sarebbe un punto di riferimento fondamentale anche per la comunicazione perché la scienza può entrare in qualsiasi tipo di dibattito in questi giorni c'è la tragedia di Lampedusa incredibile terrificante che noi tutti abbiamo vissuto con quelle centinaia di vittime sarebbe bello che nel dibattito pubblico faccio questo piccolo esempio si fosse alzata una voce per dire una cosa scientificamente ineccepibile ma che ha un grande significato anche dal punto di vista etico e morale cioè che noi non saremmo Homo sapiens se non fossimo stati da 120 mila anni migranti che noi siamo Homo sapiens in quanto migranti e che quella tragedia colpisce un comportamento che è sempre stato tipico della nostra specie questo è un punto di vista scientifico che avrebbe arricchito per esempio quel tipo di dibattito e avrebbe ridicolizzato ancora di più quegli sciagurati che hanno parlato di invasione o hanno utilizzato termini imbarazzanti la scienza deve intervenire nel dibattito pubblico perché gli scienziati sono intellettuali come io penso e quindi la scienza deve imparare a avere più dimestichezza col dibattito pubblico anche se in Italia mi rendo conto è a volte disarmante scusate se ho rubato troppo tempo bene allora vorrei cominciare a ringraziare i nostri redattori perché secondo me hanno messo veramente tantissima dire in modo di dire un po' così carne al fuoco perché c'è veramente molto di cui discutere io prima di passare la parola a voi però mentre parlavano tutti i miei appunto redattori qui seduti con me a questo tavolo ho fatto un po' il ricercatore mi sono messo un po' a sottolineare quegli aspetti che sono venuti fuori e che sostanzialmente creano ad esempio un po' un momento di difficoltà con quelli che fanno il mio mestiere cioè il ricercatore quelli che fanno la parte scientifica quindi li metto lì perché li butto anche un po' come diciamo così una provocazione anche molto per i miei colleghi che vedo in sala quindi per capire un po' da dove partire allora perché hanno detto i nostri colleghi soprattutto quelli che hanno parlato del mondo giornalistico delle cose che sono proprio molto lontane dal nostro modo di fare il nostro lavoro cioè sapere qualcosa di tutto per noi questa è una cosa che tendenzialmente non è positiva noi non siamo quelli che sanno qualcosa di tutto questo l'ha detto benissimo Pietro Greco ma tendenzialmente noi guardiamo anche sempre con una cosa così quando ci vediamo che qualcuno arriva parla del nostro argomento e non ne sa abbastanza c'è sempre un po' come di risentimento quindi questa è una prima cosa che crea attrito con noi sicuramente perché quello che sa tutto del nostro lavoro su cui noi abbiamo speso anni di fatica e di sudore non ci piace tempi brevi la ricerca tendenzialmente per quanto anche quella applicata ha tempi brevi ma mai così brevi quindi per noi c'è l'approfondimento sempre più lungo facciamo fatica e quindi attenzione perché quando vediamo quelli che mettono nel mondo scientifico delle tecniche nuove che riducono i tempi di quello che si faceva in tempi più lunghi di solito lo guardiamo male questo ah ma quello lì è quello che io l'ho vissuto sulla mia pelle da biologo ah quelli che fanno il molecolare il modo tradizionale della biologia poi dicevo a un certo punto ma quello del molecolare che scienza fanno ci mettono un attimo noi ci abbiamo impiegato anni per fare certe cose arrivano quelli del molecolare questa cosa c'è sempre quindi quando c'è qualcuno che fa delle cose su tempi brevi non ci piace molto emotività si è parlato di emotività ora questa è un'altra cosa che buttiamo lì voglio vedervi a scrivere un articolo per una rivista scientifica e pensare che dovrete andare a confondarvi con il pari parlando di emotività questa è una cosa che proprio per noi è quasi un'eresia quasi la parola emotività nel nostro lavoro non gergale vabbè questo è un'altra cosa terrificante ogni tanto mi è capitato perché per una serie di cose di fare un po' di attività di comunicazione della scienza mi è capito spesso ho invitato molti colleghi e ho detto ah guarda siamo in una serata in cui siamo in un circolo arci mi raccomando c'è della gente che non ha nessuna mente non ha proprio una formazione quindi mi raccomando non usano termini gergali perché non servono cioè ai primi 5 minuti si è perso il 40% dell'audience dopo 10 quelli che seguivano erano forse uno perché era pieno di termini tecnici per noi è proprio impossibile non parlare in termini gergali l'attenzione alle parole questa cosa che le parole possono cambiare per noi è esattamente l'opposto cioè l'articolo scientifico le riviste scientifiche io sono editor di alcune riviste vi dicono attenzione non guardare come scrivono in inglese l'importante è che si capisca cosa dice ma non è importante perché loro mica stanno scrivendo un testo letterario quindi non guardare questa parte l'importante è che il messaggio scientifico arrivi ok quindi altra cosa totalmente lontana da nostra situazione umiltà finisco con questa parola ne avrei insegnate altre ma finisco con questa parola umiltà perché questo io stamattina ero molto molto felice delle parole di Alberto Mantovani perché secondo me ha introdotto dei concetti fantastici ecco guardiamoci un po' in faccia noi ricercatori e pensiamo con quanta umiltà siamo in grado di fare la nostra cosa perché secondo me qui falliremmo in molti questo era così vi ho messo di alcuni punti che secondo me erano emersi e sono importanti cominciamo con il dibattito e con le vostre parole spero siano tante perché secondo me c'è molto materiale di cui discutere allora ci troviamo sempre ci sono molte cose da discutere appunto io presenterò la prossima tavola rotonda la domanda volevo invece chiedere a Margherita e a parte questo problema del rapporto con la medicina cioè tra la ricerca e la medicina la medicina io sono io che sono un medico di origine e faccio il ricercatore da quasi 50 anni sono veramente irritato quando parlando di qualche cosa improvvisamente salta fuori che si può fare un'applicazione esempio il Nobel dell'altro giorno fatto sul membrane traffic quindi ci sono molti italiani che hanno lavorato su questo compreso il sottoscritto non c'entra proprio nulla ma proprio nulla di nulla però ci sono giornali che hanno intervistato persone che si occupano di medicina o di farmacologia molto stretta il risultato finale è che improvvisamente dentro l'articolo salta fuori questa cosa servirà a sviluppare terapie per malattie fino ad oggi incontrollate ecco questo secondo me non si deve fare mai veramente mai cioè uno deve scegliere le cose secondo me scegliere le cose su cui scrive e magari riuscire a spiegare esattamente l'importanza di questa faccenda per lo sviluppo delle conoscenze perché magari non tutti lo sanno ma la stragrande maggioranza degli sviluppi che ci sono stati nell'applicazione a livello pratico della della medicina sono nati tutti da osservazioni da scoperte da novità introdotte a livello biologico da persone che magari non ci provavano neanche a pensare al possibile sviluppo quindi non sono delle cose così diverse bisogna che voi ci riusciate prima o poi perché mettere questa frasetta sembra quella che noi mettiamo quando facciamo un grant una grant application alla fine diciamo per tutte queste ricerche sarà possibile poi arrivare a un'applicazione che porterà bla 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 bugia proprio anzi menzogna la più oscena possibile che non c'entra proprio nulla ma così dice viene richiesto Margherita che ne pensi un attimo solo raccogliamo la seconda domanda era lì la seconda domanda e poi dopo mi era anche una considerazione e chiedevo cosa ne pensavate scusate faccio una battuta che ho usato già un'altra volta le domande sono quelle frasi con un punto interrogativo allora non siete convinti che il problema sia anche di un'immagine di chi fa scienza che considera sprovveduto lo scienziato un po' troppo innocente che non si renda conto uno che non si rende conto che in realtà il mondo è retto da altro esempio il progetto Stamina è evidente che ci sono degli interessi economici dietro non è un problema scientifico io mi sono sentita dire questo il problema ho fatto esami di maturità perché io insegno liceo liceo scientifico tre tesine su 40 ragazzi erano impostate sul problema della sperimentazione animale come feroce ingiustizia il segno dei tempi va bene cioè c'è una mi sono spiegata ho fatto il punto di domanda chi qui comincia a girare una gritta prego a riguardo alle applicazioni pratiche delle varie scoperte che spesso nascono in un ambito teorico esclusivamente per capire come funziona una cosa allora è verissimo mi viene in mente un caso eclatante di questo tipo di cioè di questa cosa ed è Edwards premio Nobel anche lui per la scoperta per aver fatto per primo la fecondazione in vitro lui quando ha fatto i suoi esperimenti non ci pensava minimamente che quella poteva servire a sviluppare un metodo per aiutare le donne che avevano le tube bloccate ad avere un figlio era lontano mille miglia lui interessava capire come era un certo meccanismo punto fu solo poi l'incontro con un medico che insomma questo è verissimo peraltro chi come me scrive per un giornale rivolto al grande pubblico io non posso pensare che uno che ha una formazione scientifica carente possa avere un interesse verso una scoperta scientifica molto tecnica se non vede un'applicazione peraltro questa operazione di cercare le possibili applicazioni della scoperta la fa lo stesso comitato dei Nobel nei suoi comunicati stampa c'è sempre la possibile applicazione risvolto pratico lo stesso premio Nobel è stato istituito per scoperte innovazioni che avessero portato un beneficio all'umanità quindi nel caso dei Nobel questa cosa sicuramente va detta nel caso di altre ricerche che sono molto teoriche sono le stesse riviste scientifiche spesso che chiedono anche agli autori nelle conclusioni di dare una possibile cioè di dare un significato anche applicativo anche futuro anche ipotizzabile alla scoperta che viene fatta dopodiché sta ai giornalisti inquadrare questa questa parte che comunque va inserita perché se no l'articolo diventa poco interessante per un lettore che non ha una conoscenza scientifica allora sta al giornalista a fare in modo che effettivamente si capisca che è uno sviluppo molto futuro che è uno dei sviluppi possibili questo sempre che non sia una ricerca in realtà che ha un risvolto pratico evidente chiaro subito però io credo che sia una cosa dalla quale non si può non si può prescindere su un giornale rivolto a un grande pubblico su un giornale che rivolta a un pubblico più specializzato come può essere per esempio le scienze per dire magari Telmo potrà dire qualcosa di più specifico su questo lì il pubblico è già molto interessato alla scienza quindi forse non ha bisogno di un aggancio alla possibile applicazione per essere interessato alla scoperta scientifica sul grande pubblico questo non è possibile il rischio è quello di far sì che chi legge dica ma che noia questa scienza allora non è l'obiettivo se sottoscrive infatti dal punto di vista di Margherita è assolutamente condivisibile intervengo dicendo semplicemente che a volte bisogna magari dare un'occhiata alla alla conclusione ma anche alle virgolette di quelle conclusioni cioè se le virgolette ci sono o meno perché se non ci sono chiaramente stiamo parlando di voli pindarici del giornalismo che del giornalista che come dice giustamente Margherita si ritrova nelle necessità di dover rendere appetibile un tema di ricerca di base che il lettore può sentire un po' distante a mia luce dalle sue corde però come insegna l'epidemiologo inglese Jeffrey Rose ci sono tanti tanti ricercatori che nascondono un po' le imperfezioni dell'evidenza disponibile e come dire manifestano le proprie conclusioni come se fossero certezze quindi magari occhio alle virgolette proprio nelle conclusioni del pezzo ecco io volevo deve rispondere alla domanda la seconda i moderatori non dovrebbero rispondere a delle domande ma la domanda era un po' scientifica perché sull'ingenuità dei ricercatori e quindi mi sento l'unico ricercatore perché Telmo comunque fa un po' un altro mestiere non fa la parte di ricerca scientifica biologica come noi insomma studia noi che la facciamo la risposta immediata mi varrebbe da dire che nel risultato finale sì siamo degli ingenui ma va un attimo precisata cioè nel senso che tendenzialmente noi siamo un po' esageratamente puristi cioè riteniamo che comunque sia noi abbiamo in qualche modo la conoscenza del problema perché siamo noi che abbiamo generato il dato che ha portato da una certa parte e quindi riteniamo che usando dei meccanismi che non sono molto chiari al resto del mondo perché noi siamo abituati ve l'ho detto prima al colloquio tra pari cioè nessuno ci insegna a fare un colloquio che non sia tra pari no? cioè noi avremmo bisogno io lo dico da tanto tempo e questo vabbè molto volte mi sono trovato con Telmo a discutere queste cose cioè noi avremmo bisogno di qualcuno che ci insegna un po' negli esami universitari che facciamo come si fa anche la comunicazione questa mattina lo diceva benissimo Alberto Montovani no? cioè è una cosa che noi non siamo proprio non è nelle nostre corde di fare noi soprattutto italiani di fare questa cosa qua quindi il risultato complessivo è che sì siamo ingenui no? perché riteniamo che sappiamo benissimo che il problema tipo Stania o questi problemi sono legati esclusivamente a un discorso economico no? non c'è una base scientifica c'è tutto quanto un problema che è economico ne siamo consapevoli però pensiamo di risolvere questa cosa andando a fare la comunicazione nostra nel nostro modo cioè che è quello da ricercatori scienziati quindi si crea un problema no? il mondo ci percepisce come ingenui no? noi la facciamo tendenzialmente la figura di questo qua perché secondo me non sappiamo comunicare in un modo che sia diverso da quello che parlo sempre a livello generale no? poi non è che tu dappertutto è così perché è vero quello che diceva Telmo che ci sono secondo me io sono moderatamente ottimista però penso che ci siano delle momenti di cambiamento delle cose che stanno andando in una direzione opposta cioè delle isole un po' felici ci sono adesso non voglio fare troppa celebrazione dei presenti però Telmo sta facendo un lavoro secondo me molto importante nei confronti di questa società cioè è esposto in prima persona e ha forse più avanti nella discussione abbiamo abbastanza tempo vorrei affrontare questo tema qua però è molto esposto su questo aspetto è molto esposto sia internamente cioè tra noi del mondo universitario ed è molto esposto nei confronti della società quindi cioè non è facile fare questa cosa non sono tanti però io penso che ci sia una leva di persone in questo momento valida che comunque ecco in qualche modo stanno cercando di fare qualcosa però lei ha ragione sulla media raccontiamo le altre paio di domande velocissimo Margherita Fronte citava i grandi profitti dei colossi farmaceutici per indicare come l'aspetto appunto della medicina della farmaceutica coinvolga milioni di persone in tutto il mondo Quale può essere il potere di condizionamento sui mezzi di comunicazione di massa sulle riviste a larga diffusione che trattano di argomenti scientifici appunto il peso di questi enormi profitti e di questi bilanci che superano paesi come per esempio appunto l'Irlanda che li va detto io volevo fare un piccolo commento sugli attriti i famosi attriti di cui parlavamo io purtroppo non ho seguito la prima parte perché sono arrivato dopo però ci sono alcune parole su cui sono d'accordissimo per esempio l'esigenza dei tempi brevi è una necessità oppure il fatto di non usare un gergo tecnico e quello lì è una cosa che gli scienziati devono migliorare oppure c'è ad esempio la questione dell'umiltà dove scienziati sicuramente hanno tantissimo da migliorare a volte anche il lato giornalistico però ci sono alcune cose su cui non mi ci trovo tantissimo per esempio il fatto di essere tutologi un conto anche lo stesso scienziato ok non è tutologo però in qualche modo deve avere un modo per informarsi anche sugli altri ambiti e così anche bisogna secondo me capire come imparare ad imparare anche su altri argomenti a questo servono magari delle lezioni che si possono fare su come capire le fonti della scienza capire qual è l'opinione della comunità scientifica su determinati argomenti poi uno potrà avere un'opinione personale è ok però almeno capire il punto di vista scientifico quello è fondamentale e a questo si ricollega anche l'emotività se l'emotività serve solo per stimolare magari delle riflessioni a un discorso se l'emotività come spesso avviene viene utilizzata per dire delle cose false dal punto di vista scientifico è tutta un'altra cosa e io purtroppo per tre quarti vedo la seconda non la prima no io sulla questione dei conflitti di interesse ho fatto un accenno molto rapido perché in realtà è una questione veramente molto molto grossa sono documentati casi di insomma azioni anche abbastanza continuate da parte dell'industria farmaceutica di influenzare l'informazione medica che compare sui media rivolti alla popolazione generale anche sulle riviste scientifiche stesse azioni che mirano a modificare anche diciamo le conclusioni di certi studi dietro pagamenti sotto varie forme per quel che riguarda i media tipicamente questa diciamo adesso viene fatto in modo un po' meno sfacciato però insomma tipicamente nell'ambito di conferenze stampa organizzate per non so una certa malattia il giornalista viene invitato spesato magari ospitato in un bel albergo gli si dà una bella cartella stampa dove c'è scritto tutto quello che l'industria farmaceutica vuol far passare parentesi e a quel punto il giornalista non fa altro che tornare a casa e in pochissimo tempo scrive un articolo con tutte le informazioni che servono e che però sono quelle che gli ha dato l'industria farmaceutica ora questi sono casi ben documentati l'ho fatta un po' semplicistica perché appunto vi dicevo il tema è molto complesso io credo che però in questo momento l'attenzione di chi fa giornalismo medico soprattutto nelle persone che lo fanno da un po' di tempo e che sono specializzate in questo campo sia abbastanza alta su questo per cui l'informazione condizionata dai conflitti di interesse secondo me per chi lo fa di mestiere difficilmente è inconsapevole mentre fino a certo fino a un po' di tempo fa poteva anche essere inconsapevole adesso c'è una certa allerta e per cui secondo me in alcuni casi ci sono anche degli eccessi per esempio non so ci sono adesso non diciamo il nome ma ci sono dei colleghi che dicono ah no no io di farmaci non parlo perché vado in conflitto di interesse e no tu fai giornalismo medico di farmaci devi parlare se no sei carente quindi c'è c'è una doppia c'è una doppia c'è insomma tesi antitesi sintesi prima o poi si arriverà a un giusto a un giusto mezzo insomma comunque un problema molto grosso per la seconda per la seconda domanda faccio io da qua una domanda ai nostri relatori quindi una domanda proprio da domanda da poco quindi provo a metterla lì per vedere dare a loro il via per risponderti ma si è vero ma no voglio con il modo Pietro, Telmo, Edoardo su questo secondo punto ma io che sono un ricercatore mi devo occupare di fare della comunicazione della scienza al di fuori dei miei pari posso? sì dunque tutti i temi che tu hai posto sul tappeto meriterebbero ciascuno almeno un giorno di discussione quindi però tu mi chiedi se la comunicazione pubblica della scienza è possibile e se la comunicazione pubblica della scienza è necessaria io rispondo sì a tutte e due le cose è possibile la comunicazione pubblica della scienza non è un pensiero mio a parte del mio mestiere se pensassi il contrario non farei questo ma non lo dico solo io io faccio in genere riferimento a due grandi scienziati io sono Albert Einstein e Stephen Jay Gould i quali hanno sostenuto che tutti i concetti fondamentali anche della relatività ristretta e generale piuttosto che della biologia evoluzionistica sono trasmissibili al grande pubblico tranne che nei dettagli per quanto riguarda la fisica non si entra nei dettagli matematici i dettagli matematici riguardano i tecnici è un grado di approfondimento ma i concetti fondamentali sono assolutamente comprensibili e infatti Einstein ha scritto anche opere divulgative inclusa un'opera di divulgazione sulla relatività Stephen Jay Gould tutti i suoi libri erano dei libri che possono essere letti da molte persone di cultura diversa perché sono scritti in una maniera pluridimensionale chiamiamola così quindi tra l'altro gli argomenti artistici messi in campo sono tali che anche la domanda sull'emotività in qualche modo ma non posso entrare quindi è possibile almeno secondo secondo queste persone il problema è però non è tanto se è possibile ma se è necessario cioè oggi è possibile immaginare una società in cui non c'è comunicazione pubblica della scienza no la comunicazione pubblica della scienza oggi è assolutamente necessaria perché viviamo in un'era che si chiama era della conoscenza le cui due gambe sono la produzione di conoscenza scientifica in maniera incessante l'innovazione tecnologica che pesca sistematicamente sulla conoscenza scientifica questo queste due gambe di questo motore dell'era della conoscenza fa sì che oggi almeno il 60% dell'economia mondiale è fondata sulla conoscenza in particolare sulla conoscenza scientifica prezzare che il mondo possa delegare ad un gruppo che ormai è abbastanza numeroso sono 7 milioni e passi i ricercatori in tutto il mondo ma possa dedicare a questo gruppo il monopolio dell'attività scientifica è semplicemente impensabile che lo si voglia o no il mondo esterno alla torre d'avoglio degli scienziati parlerà di scienza quindi è assolutamente necessario che questa discussione intorno alla scienza avvenga ed è assolutamente necessario che gli scienziati facciano siano in prima persona come diceva Termo Pievani a entrare nel dibattito pubblico e a parlare di scienza ma ormai è qualcosa di consolidato la National Science Foundation finanzia dei costi di comunicazione pubblica per tutti le lauree di natura scientifica in Danimarca è diventata legge la terza missione dell'università intesa non solo come trasferimento del know-how ma proprio come comunicazione pubblica e cose di questo genere il 5 5% dei grandi progetti internazionali di ricerca 5% del budget deve essere devoluto alla cosiddetta dissemination e ormai è necessario assolutamente farlo visto che ho la parola me ne prendo 30 secondi per dire un'altra cosa sì il protagonismo degli scienziati l'ha detto Termo degli scienziati italiani l'ha detto Termo e non poteva essere detto meglio c'è l'anomalia italiana su cui vorrei ritornare è che nonostante che in questo paese i giornali sono quelli che sono gli investimenti in ricerca scientifica sono quelli che sono la domanda di innovazione tecnologica nella nostra economia è così bassa che noi siamo l'unico paese avanzato e tra i paesi emergenti ad avere un modello di sviluppo non fondato sulla ricerca rende particolare l'anomalia davvero singolare l'anomalia italiana quindi faccio io una domanda come è possibile spiegare che nonostante gli scienziati italiani siano pochi e così maltrattati sono generalmente buoni come mai? allora non rispondo alla domanda di Pietro in questo gioco di matriosche di domande ma volevo rispondere alla tua domanda perché per me sì lo scienziato deve familiarizzare con la comunicazione cioè nel senso secondo me forse se volessimo tracciare una via per uscire un po' anche da queste antinomie che si vengono a creare in qualche modo a realizzare una specie di santa alleanza tra lo scienziato e il giornalista cioè nel senso come lo scienziato come il giornalista deve capire gli obiettivi della della comunicazione della scienza lo scienziato però dovrebbe familiarizzare con i meccanismi della scienza della comunicazione cioè quindi dovrebbe esserci praticamente una santa alleanza per far sì che si raggiungono gli obiettivi ma gli obiettivi ci sono davanti ai nostri occhi nel 94 in America l'accademia dei pediatri americani ha lavorato con i giornalisti affinché praticamente in una campagna contro la 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 morte la morte in culla per per prevenire appunto questo 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 evento e praticamente la la campagna mi sembra che si chiamasse back to sleep nel 94 e questo lavoro congiunto proprio tra pediatri e giornalisti ha prodotto un calo vertiginoso quasi del 38% delle morti in culla quindi in realtà l'interazione giornalista scienziato può veramente può veramente grandi cose io sono profondamente convinto quindi la mia risposta è assolutamente sì bisogna entrambi dobbiamo familiarizzare con gli obiettivi che sono però fondamentalmente comuni mi premeva rispondere anche alla giustissima sacrosanta osservazione quando io parlo di di emozione sia ben chiaro non non vado a calcare la mano sugli aspetti più deteriori delle reazioni emotive l'emozione è un ingrediente che cerca che fa sì che uno non si stacchi non stacchi gli occhi da un libro cioè se io resto entregato da un incipit forte dalle prime dieci pagine validi di un libro vado avanti nella lettura l'emozione secondo me almeno io così ho in testa questa procedura di lavoro lavorando ovviamente sulle parole è quel qualcosa che mi consente di mettere un po' in risonanza la sensibilità del mio lettore che è una persona che non conoscerò mai cioè il mio lettore non lo conoscerò mai io sto parlando una persona che non incontrerò mai nella mia vita quindi devo trovare un linguaggio universale per far sì che questa metodica comunicativa lo faccia entrare in risonanza per far sì che i miei racconti aderenti ai fatti della scienza in qualche modo attecchiscano quindi ovviamente il mio racconto emotivo diciamo punta poi a far sì che ci sia un corretto un corretto input scientifico devo rispondere anche io la tua ma concordo con quello che diceva Pietro Greco quello che diceva adesso quindi brevissimamente anche la mia risposta è sì questa mattina addirittura Alberto Mantovani lo ha definito un dovere quindi ecco c'è un aspetto normativo il scienziato deve comunicare io aggiungerei è un dovere una necessità che però deve realizzarsi in una relazione e una relazione vuol dire che il ricercatore non può essere lasciato da solo naturalmente ma deve interagire con altre professioni Stephen Jay Gould che citava adesso Pietro Greco diceva sempre che la comunicazione della scienza è un'impresa che richiede un rigore e una capacità che non è da meno lui diceva dello scrivere un paper scientifico cioè richiede una professionalità specifica nel racconto nella costruzione dell'informazione della comunicazione a Padova stiamo sperimentando una soluzione perché di fronte al lamento naturalmente di tutti i dipartimenti scientifici che nessuno fila i risultati uno esce su Nature Science e neanche l'ufficio stampa dell'Ateneo comunica questa cosa allora sperimentiamo questa cosa per cui dall'anno prossimo dal prossimo semestre le varie unità di ricerca di un dipartimento incaricano un ricercatore di scrivere una sintesi di un risultato particolarmente rilevante che viene mandata a me come coordinatore del dipartimento la traduco la riscrivo e io interagisco con l'ufficio stampa e seguo la diffusione poi di questa quindi in questo caso la mia competenza come filosofo della scienza è il ricercatore al quale non viene chiesto di diventare un giornalista e l'ufficio stampa stesso quindi ci proviamo ma non è una cosa facile però sicuramente qualcosa bisogna cambiare in questi mezzi prima di tutto una considerazione visto che vedo questo convegno di anno che è molto interessante e stimolante dico che i primi disseminatori della scienza nelle scuole gli insegnanti vengono selezionati in base a tantissimi criteri tranne quelli che mira diciamo ad esplorare la capacità della comunicazione e questo è sicuramente un problema aperto per la verità però la domanda perché è anche il punto interrogativo giustamente la domanda era stata sollecitata dall'intervento sia di Pietro Greco che di Telmo Pievani in senso questo è un paese che non ama la scienza vorrei sollecitare come a Lampedusa insieme al barcone dei migranti ha fondato anche la possibilità di avere una visione chiara precisa scientifica di quello che ormai sta accadendo da decenni in quello stretto braccio di mare piuttosto l'isola si è riempita di come dire stregoni di ogni tipo che hanno paventato la possibilità che con aggiustamenti legislativi quel fenomeno non possa più accadere quindi qualcuno di quei personaggi si prefigge come dire con emendamenti legislativi di fermare quel processo che ci riguarda quel processo che ha disegnato anche il nostro essere uomini oggi homo sapiens oggi allora io mi chiedo e qui colgo un aspetto delle conclusioni di Telmo Pievani ma non è perdere del tempo tentare di avere un dialogo con questo ceto politico fondamentalmente come dire votato all'antiscientificità da insegnante ritorno all'inizio prima domanda far capire una cosa implica semplificarla secondo semplificare implica più parole o meno parole più tempo o meno tempo terzo è più facile che un giornalista impari le scienze o che uno scienziato impari a comunicare le sue scoperte scientifiche l'ultima domanda era anche per il pubblico cioè quanti hanno capito di più di che cos'è il bosone di X vedendo le immagini dell'omino che nuota ci prendiamo un appuntamento per l'anno prossimo per rispondere alle domande di Marcello lo sa ma rispondo alla prima domanda perché sulla seconda è davvero difficile entrare nel merito ma a parte che riecheggio quello che diceva adesso c'è sempre il limite della falsità quindi la semplificazione non può mai tradursi ed è difficilissimo in errore scientifico aggiungo compreso quando si fa comunicazione nella scienza ai bimbi piccoli non si può essere imprecisi e mancare di rigore nemmeno in quel caso rispetto a quello che si diceva è una perdita di tempo sarebbe molto populista e facile risponderti di sì e invece ti rispondo di no nel senso che non abbiamo alternativa primo perché li abbiamo votati noi e la selezione della classe dirigente ci riguarda direttamente non siamo fuori da questo processo due adesso dico una cosa impopolare perché i movimenti che ultimamente si presentano come movimenti di grande rinnovamento raccontano un sacco di sciocchezze sul piano scientifico e quindi non mi fido di chi scrive quelle sciocchezze su blog di grande successo che poi prendono il 20% di voti e terzo perché mi viene in mente il circolo Arci di Maurizio perché è bellissimo è capitato a tutti noi allora se si va in un circolo Arci bisogna avere l'umiltà e come ha detto giustamente Maurizio però io aggiungo anche la fiducia nei confronti degli interlocutori io penso che i giornalisti qualche volta dovrebbero avere un pizzico più di fiducia nell'intelligenza dei loro lettori grossa questa che ha passato un giornalista che raccoglie questa cosa della fiducia nei confronti dei lettori presenti naturalmente sì sì no infatti no non lo dicevo perché li volevamo prendere loro come esempio però cosa hanno da dire da questo punto di vista attenzione che ognuno passa non c'è più nessuno oltre il tavolo attenzione che siamo arrivati in fondo passa parola è arrivata a me sulla fiducia nei lettori io ho molta fiducia nei lettori personalmente non penso di avere davanti a me una platea di cretini tutt'altro anzi io penso che chi fa informazione chi fa giornalismo ha moltissimo da imparare dai suoi lettori perché quando mi è capitato adesso faccio una nota personale che non mi piace fare di solito però è che spiega quello che voglio dire un oltre ero in treno e ho visto per caso una persona davanti a me che leggeva un mio articolo a metà ha smesso allora ho detto porca miseria cosa è successo allora sono andata a riguardare l'articolo e mi sono accorta che a metà più o meno dove questo aveva smesso c'era un calo di tensione un nodo una cosa da sciogliere un qualcosa di non chiaro e ha detto sì effettivamente ha smesso a ragione perché anche io se ho letto una roba del genere magari avrei smesso per questo vi dico in realtà noi aveva ragione lui appunto noi abbiamo moltissimo da imparare da chi ci legge oltretutto noi ci presentiamo qui come esperti di scienze fra l'altro giornalisti come abbiamo più volte detto anche oggi non sono esperti di nulla però diciamo ci presentiamo come questo ma ciascuno ciascuna persona che ci legge è esperta di qualche altra cosa cioè io perché devo ritenermi migliore di uno che è esperto che ne so ma non soltanto in materie magari che io non tratto di cinema o di altro ma anche solo un idraulico che sta a cambiare il rubinetto a casa mia cosa che io non so fare perché io devo ritenermi migliore superiore io ho moltissima fiducia nei lettori credo che il quoziente intellettivo e la capacità di informazione non si misuri dal fatto che io scrivo e lui legge insomma rispondo a Telmo che semplicemente perché io ho la grande fiducia nei miei lettori perché ho toccato con mano che i lettori hanno grande fiducia in me e in noi allora quando io ho cominciato a muovere i primi passi appunto nel giornalismo qui c'è Riccardo Renzi che ha diretto per anni il Corriere Salute io ho cominciato col Corriere Salute dopo la prima uscita nel gennaio del 1989 io avevo scritto un pezzo sull'osteoporosi e mi sono visto arrivare i risultati di una TAC cioè io cioè nel senso una signora che aveva letto il pezzo aveva proprio tu cura inviato i risultati della TAC con Rafferto Moc con tutta una serie di dati assolutamente personali lì in quel caso lì si tocca veramente con mano a parte che è stato un segnale indiretto della come dire della qualità oggi del rapporto medico-paziente perché se una signora manda un Rafferto di quel tipo a un perfetto sconosciuto quale sono io della Dice Lunga ma il punto è che dall'osservatorio di un giornale che è anche che oltre a produrre un giornale è anche un collettore di telefonate di mail di richieste quotidiane ecco lì ci si rende conto che la fiducia del lettore nei propri confronti e tante quindi in quel caso lì veramente la fiducia è assolutamente reciproca sì io volevo dire io ho fiducia tendenzialmente nei lettori nelle persone che sono esposte ai miei scritti e alle mie parole ma non è una fiducia assoluta diciamo nel senso che io distingo tra lettore e lettore se leggo alcuni commenti ai miei articoli a quelli dei miei colleghi ai miei interventi alla radio eccetera trovo molto spesso un tasso di aggressività e di mancanza di capacità argomentativa e allora io in quel lettore non ho fiducia non sono neanche stimolato a dialogare se quella è la base quindi io distinguerei ovviamente tra i lettori quindi non si può avere una fiducia assoluta nel lettore così come il lettore non deve avere una fiducia assoluta nel comunicatore e questo vale secondo me anche per i politici per rispondere alla domanda alla domanda sua io ho fiducia nei politici italiani come cittadino diciamo beh no però mi chiedo come mai questo paese ha una classe dirigente politica che no non è mediamente all'altezza della delle classi dirigenti di altri paesi mentre ritorno sull'anomalia precedente io guardo la classe il gruppo la comunità degli scienziati italiani che sebbene sia piccola rispetto ad altri paesi è assolutamente competitiva diciamo nel bene con quella dei paesi più avanzati quindi riscontro diciamo anzitutto questa anomalia e allora mi perdonerà Telvo se ritorno un attimo sull'analisi invece che sulle proposte mi chiedo come mai noi abbiamo queste classi dirigenti perché noi italiani siamo geneticamente siamo incapaci di rapportarci non è vero i nostri scienziati sono quindi non è così anche l'interesse scientifico degli italiani non è assolutamente secondo a quello di qualsiasi altro paese europe tant'è che ci sono manifestazioni di comunicazione della scienza che ci vengono invidiati da altri Manuela Rata e Telmo Pievani oggi c'è no ma anche Gigi Amodì abbiamo tante tra virgolette uso questa parola abusata eccellenza nell'ambito della comunicazione che ci dice che la popolazione italiana non è affatto inferiore a quella allora dov'è il gap e a mio modestissimo avviso il gap perché poi se noi analizziamo bene c'è anche la proposta il gap sta nel nostro modello di sviluppo economico noi abbiamo siamo stati un paese che è cresciuto di più al mondo tra gli anni 50 e gli anni 70 i primi anni 70 secondi solo al Giappone perché abbiamo avuto una industrializzazione molto rapida che però a un certo punto dagli anni 60 in poi ha cominciato a puntare sulle medie e soprattutto sulle basse tecnologie eravamo i più poveri fra i ricchi siamo diventati competitivi e abbiamo avuto grande successo ma quando con la globalizzazione siamo diventati siamo rientrati tra i ricchi rispetto ai nuovi poveri che si affacevano sulla scena tutto è cambiato e non ce ne siamo resi conto e allora o noi cambiamo la specializzazione produttiva del sistema paese e quando si farà questo emergerà forte la domanda di avere una classe politica all'altezza e anche una classe giornalistica all'altezza allora potremo risolvere i nostri problemi e questa è la proposta cambiare la specializzazione produttiva del sistema paese altrimenti sarà molto ma molto difficile che quei nuclei di cose positive di ottimismo che pure ci sono nel paese possono condensarsi e ricostruire un paese nuovo ecco grazie volevo rispondere alle quattro domande quattro però ho bisogno di risentirle perché non me lo ricordo la prima era per capire la semplificare l'implica sì la seconda era per semplificare l'implica più parole o meno parole perché sembra che la parola di più può dire la parola di più no esattamente cioè parlare di più potrei dire dipende così me la cavo ma secondo me è lo stesso numero di parole cioè semplificare significa inserire concetti non tutti i concetti di una determinata notizia o di un determinato concetto ma spiegare meglio quello che si sta parlando senza usare termini di gergo fondamentalmente cioè semplificare dunque non voglio entrare nel tema perché è molto complicato ma ad esempio tutto il mondo della chimica capisce molto di più con le immagini in quanto non capisca con i termini quindi voglio fare un'ennesima provocazione questo secondo me questo è uno dei punti forse il punto fondamentale in cui le due culture quella umanistica e quella scientifica in particolare la cultura artistica possono entrare nel mondo scientifico in modo da utilizzare con tutte le cautele possibili il mezzo della metafora e del diciamo del tratto invece che della parola a volte a volte dico molto a volte tra molte virgolette stiamo molto attenti eccetera eccetera superando persino l'assoluta necessità della matematica quarta quarta no un attimo ci sono quattro le domande adesso ti frego dipende aspetta che arrivo subito però chiedo una risposta rapidissima un minuto facciamo una cosa così perché oggi si parla tanto di terza faccio questa domanda perché siamo noi i due che rappresentano gli Atenei qua così però si parla tanto della nostra terza missione però alla fin fine quando io vado a vedere le domande che ho fatto per le mie abilitazioni tutto quanto niente nessuno mi valuta su questo aspetto i miei parametri Anvul sono soltanto sulla mia produzione scientifica e non so quanto i miei colleghi siano interessati a tutto quello che io faccio di fuori di qua e come sai ne faccio abbastanza ora vorrei che veramente un minuto perché ci sono molte domande però cosa possiamo dire perché questo secondo me è un problema perché molti dei miei colleghi che non si avvicinano a questo aspetto a questo aspetto lo fanno anche perché mi dicono ma chi me lo fa fare meglio che faccia una pubblicazione in più scientifica tra pari che perda tempo su una cosa che non dà a me un ritorno diretto io lo sento come un dovere ma non tutti lo sentono come un dovere quindi cosa diresti? Beh direi che bisogna continuare a lavorare in questo senso ma le conseguenze Alberto Mantovani diceva stamattina prima o poi le senti voglio dire lavorando in un dipartimento scientifico io vedo che i ragazzi nostri che arrivano la biologia molecolare biotech eccetera al quinto anno e devono discutere la loro tesi davanti a una commissione hanno delle carenze molto forti sul piano argomentativo la domanda un pochino più cattiva e vanno in crisi e la possibilità in dieci minuti di condensare il senso del lavoro è un'impresa allora perché è così difficile? Forse perché un po' prima bisogna lavorare un po' di più su questi ragazzi per insegnare loro la retorica della scienza la logica l'argomentazione come si scrive un paper eccetera perché anche per esempio dal punto di vista della scrittura ci sono grossissimi problemi quindi mi pare un problema da affrontare inevitabilmente anche nelle facoltà scientifiche No io sono faccio fatica a mantenere la calma perché voglio dire Einstein diceva che le cose vanno semplificate per quanto possibile ma non oltre il possibile allora certe esemplificazioni che sono state date recentemente per esempio il bosone di Higgs dell'omino che nuota eccetera sono non false ma danno un'idea falsa di qual è il problema dopodiché uno può dire benissimo se a un bambino va bene che propiniamo delle falsità propiniamogliele ma sono stupidaggini sono stupidaggini da un punto di vista scientifico ma anche da un punto di vista interpretativo però vorrei anche rispondere alla domanda che faceva Casiraghi la terza missione deve diventare non lo è ma deve diventare e lo sarà valutata se non sul piano delle altre due come lo sarà e come lo è già cominciata ad essere nel primo tentativo Hambur se voi l'avete guardato c'è una molto precisa definizione che resta assolutamente vaga ma che aspettatevi nel giro di qualche anno diventerà assolutamente costringente e poi voglio chiudere facendo una richiesta una proposta siccome molti credo anche in quest'aula non sanno o non hanno una percezione precisa di quello che è il problema della sperimentazione in vivo io credo che sarebbe vostro compito e sto parlando dei giornalisti di suscitare intanto l'opinione pubblica nel senso dell'accademia a prendere una posizione ma soprattutto del mondo estero che ci guarda e che sarebbe molto disponibile come già successo in altre occasioni a prendere una posizione grazie abbiamo pochi minuti vi chiedo molta brevità in queste domande un dato velocissimo una domanda allora il dato è che dall'esperienza di questi anni di agorascienza credo che in Italia sia cresciuta tantissimo da parte dei ricercatori il desiderio di comunicazione tra l'altro dalla ricerca che stiamo facendo col CNR il dato è che comunque oltre il 50% dei ricercatori italiani almeno qualcosina ormai la fa in questo campo è evidente che bisogna ancora fare il salto culturale è evidente che c'è il collega di fianco che vede male la cosa che non viene valorizzata questa attività però in effetti i primi segnali ci sono sia dall'ambur e sicuramente da altre parti per esempio Pietro Greco ricordava il fatto che nei progetti europei una parte del budget va alla dissemination io non capisco perché in Italia ancora nei PRI negli altri progetti nazionali non ci sia questa cosa mi sembra un passaggio meccanico che non sia molto difficile da compiere la domanda è questa io sono d'accordissimo con quello che ha detto Telmo Pievani sul fatto che la nuova comunicazione della scienza dovrebbe passare per riuscire a raccontare attraverso riuscire a raccontare il processo e non più il fatto in sé però questo non si scontra la domanda va ai giornalisti con la necessità della notiziabilità che avete comunque sui quotidiani sui settimanali eccetera perché un processo è una cosa lunga che probabilmente non è molto notiziabile grazie rapidissimo poi facciamo l'ultimo giro e poi vi mandiamo il coffee break grazie io parto dal fatto che siete privilegiati in questa sessione avete avuto tanto tempo per discussione bellissime domande invece noi stamattina no quindi faccio un punto senza punto non ho detto questo allora un punto solo su quello che si è detto sul fatto della necessità o meno di semplificare e sulla necessità o meno da parte dei ricercatori di comunicare la ricerca quindi anche il loro lavoro in generale direi che è una questione di metodo il come lo facciamo il come scegliamo di coinvolgere la società quindi se noi manteniamo un approccio frontale che non fa partecipi le persone che non coinvolge il loro bagaglio conoscitivo esperienziale e se volete anche le loro aspettative allora non abbiamo fatto un passo avanti nella comunicazione nella semplificazione nella la chiamo trasmissione anche se non sono d'accordo con questo termine quindi secondo me è come è una questione di metodo quindi come lo facciamo ancora una volta Telmo ha avuto da dire delle cose molto illuminanti quando parlava di nuova comunicazione scientifica una comunicazione partecipativa e aperta e mi fermo allora direi un minuto per ognuno dei relatori per una chiusura non abbiamo più tempo per altre domande perché il tempo è finito un minuto per ognuno di voi per chiudere e chiusare su queste ultime aspetti o quello che insomma vi sembra di voler dire gli inglesi direbbero il take on message cioè cosa facciamo portare a casa appunto al nostro pubblico va bene ricominciamo da qui allora allora io investo il mio last minute riprendendo l'ultima affermazione di Enrico Pedazzi cioè dire due parole sulla questione della sperimentazione animale sul piano della comunicazione della scienza io penso che sia una vera e propria emergenza per vari motivi perché è un tema con un tasso di emotività altissimo molto maggiore rispetto ad altri perché c'è una confusione terminologica terribile per esempio sarebbe che un dovere dei giornalisti scientifici italiani spiegare bene la differenza tra la sperimentazione in vivo e la vivi sezione e perché c'è una totale mancanza di capacità di ragionare sulle conseguenze delle nostre azioni e sulle conseguenze di un articolo perché è uno solo è l'articolo 13 aggiunto alla legislazione già restrittiva europea basta una parola imprecisa come dolore non specificato xenotrapianti non specificato bastano parole messe in un articolo in modo sbagliato per avere delle conseguenze allora è dovere dei comunicatori dire non dire è bene o male se facciamo così sappiate che le conseguenze saranno queste assumetevi le responsabilità di quello che state decidendo sulla sperimentazione animale pienamente pienamente d'accordo noi come come giornale abbiamo tra i nostri rubichisti Silvio Garattini e quindi che 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 tutto dire cioè noi col professore interagiamo settimanalmente e e non manchiamo di proprio di fornire dei focus precisi proprio su questo tema ma sottolineandone proprio la necessità per quanto riguarda il come è vero quello è un racconto e quindi anche in un giornale appunto popolare ci può funzionare perfettamente soprattutto perché un giornale popolare altro aspetto non 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 secondario è anche un giornale illustrato quindi il come quindi l'approccio e la procedura di un percorso scientifico può essere anche proprio illustrato quindi da questo punto di vista sono pienamente d'accordo sulla scelta Pietro Pietro Greco Sì sulla sperimentazione animale non dico nulla di più di quanto già detto perché sono completamente d'accordo e certamente ci sono numerose colpe da parte della classe giornalistica volevo sottolineare invece qualcosa rispetto al rapporto semplicità complessità dell'argomentare ora è chiaro che la comunicazione pubblica è qualcosa diverso dalla comunicazione tra pari tra gli scienziati ovviamente però in entrambe esiste una sorta di principio di indeterminazione della comunicazione della scienza se mi consenti Enrico e non mi bacchetti ovvero in qualsiasi ambito io comunico ci sono due parametri che sono in conflitto uno è la capacità di comunicare di raggiungere l'altro e l'altro è il rigore semantico che io attribuisco alle mie parole che io voglio che le mie parole contengano allora è chiaro che sia a parlare fra di loro a comunicare fra di loro sono due fisici teorici e possono esaltare il rigore senza sacrificare troppo la comunicabilità però ricordo che anche i matematici quando scrivono gli articoli matematici ci mettono delle parole in italiano e in inglese che hanno tratti di ambiguità quindi l'errore sul rigore l'errore sulla comunicabilità anche quando parlano esperti è minimo ma esiste e ovviamente quando il contesto è più generale l'errore in uno o nell'altro termine può aumentare il tema è che quando io cerco di aumentare il tasso di rigore quando scrivo su un quotidiano è chiaro che perdo di comunicabilità se io mi metto a scrivere in formule sul corriere della sera il 99,99% dei lettori non capisce semplicemente ovviamente se io però cerco di aumentare fino in mondo la comunicabilità e sacrifico completamente il rigore utilizzando delle metafore fuori posto vado allora il tentativo che è solo un tentativo che può essere portato avanti per prova ed errore di volta in volta è quello di minimizzare e di trovare quello che io chiamo il K minimo il migliore equilibrio tra l'errore che si commette in termini di comunicabilità e l'errore che si commette in termini di rigore ma questo è valido ovviamente ogni K è diverso a seconda delle comunità all'interno delle quali si comunica però il problema è analogo Margherita Margherita Fronte sì allora io ho potuto sulla sperimentazione sono perfettamente d'accordo su quanto è stato detto riflettere sulla conseguenza vorrebbe per esempio anche rendere chiaro il fatto che o si fa sull'animale o si passa direttamente all'uomo per dire allora forse questo è un tipo di argomentazione che può fare più presa secondo me in conclusione l'unica cosa che mi sento di dire è che c'è un avvicinamento da parte del mondo del giornalismo al mondo della ricerca un desiderio di fare un'informazione scientifica migliore testimoniato anche in anni recenti anche non più tanto recenti dalla nascita di diversi corsi di formazione per giornalisti scientifici vedo sicuramente c'è un atteggiamento altrettanto disponibile da parte di alcuni ricercatori che appunto si mettono in gioco e fanno ricerca e fanno comunicazione e interagiscono con i giornalisti mi sentirei però di chiedere ai ricercatori ecco una maggiore consapevolezza di quali sono forse le necessità di chi fa giornalismo e sono sostanzialmente i tempi stretti e la necessità appunto a volte di semplificare oppure di a volte o si semplifica oppure un argomento semplicemente non può essere affrontato bene allora grazie ai redattori grazie a voi perché è stato un dibattito secondo me molto interessante pausa pausa caffè vi ricordo 17.15 ricominciamo per la tavola rotonda finale puntuali mi raccomando grazie a tutti Grazie a tutti. 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 e basta. Grazie a tutti. 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 su Science. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.